Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Aldo Moro, di Corrado Guerzoni. Se la folle e stupidità dei criminali brigatisti non l'avesse ucciso la mattina del 9 maggio 1978, l'onorevole Aldo Moro, oggi con i suoi 91 anni, potrebbe essere uno dei senatori a vita, dopo di essere stato, come le previsioni davano per certo, Presidente della Repubblica. La sua vita è stata invece stroncata a Roma, nello squalido garage di un condominio periferico, dentro una vettura di infimo valore, con le gambe contratte sul petto a causa dello spazio angusto e poi spezzate per poter far entrare il suo corpo nella cassa. È stato ammazzato quando aveva 61 anni e 8 mesi circa, dunque nel fiore della maturità, persino giovane, in base alle attuali aspettative di vita. È vero che il suo incedere grave, la serietà del suo aspetto, lo facevano ritenere più anziano, ma egli invece non aveva ancora 62 anni ed era in ottima salute, come verrà rivelato dalle analisi condotte dopo la sua morte. È stato eliminato con una ferocia bestiale, da parte di chi si è arrogati il diritto, ma ha anche avuto di fatto il potere, di rapirlo dopo aver esterminato la sua scorta, di tenerlo prigioniero per 55 giorni in condizioni inumane e alla fine di scaricargli addosso un caricatore di mitra. Aveva una famiglia Aldomoro, una moglie, quattro figli, un nipote che amava teneramente. Aveva molti studenti all'università che seguivano i suoi corsi. Le tesi di laurea di alcuni di questi studenti sono state trovate sparse sul sedile, sul pavimento della sua macchina. Intesseva la fitta serie di relazioni politiche nel suo partito e tra i partiti e le personalità eminente del suo e nostro paese. Aveva gente umile che si rivolgeva a lui, avendo fiducia nel suo aiuto. Ebbene, qualcuno ha deciso, come se fosse il dio della vita e della morte, che Aldomoro doveva morire, e morire in quel modo stupido e straziante. Il filosofo Hannah Arendt ha parlato della banalità del male. Qui, ripeto, non si può descrivere la situazione se non adottando la dizione «l'atroce stupidità del male». Cosa credevano ad ottenere i rivoluzionari? La rivolta popolare? I milioni di persone nelle piazze? Le fabbriche occupate e messe a ferro e fuoco? Il crollo dello Stato e delle sue istituzioni? L'incontro di classi diverse? La reciproca solidarietà dell'operaio, del contadino e dell'impiegato? Se davvero credevano a tutto ciò, bisogna dire che erano in preda ad un delirio d'onnipotenza, ovvero davano per totale insipienza politica una lettura distorta della realtà oggettiva. Quello che non dà pace a noi che fumo suoi discepoli e collaboratori è che, per mancanza di lucidità, di chiaroveggenza, di realismo storico e politico, di finezza intellettuale, di un minimo di senso etico, sia stato eliminato un uomo magari credendo di avere così deviato il corso della storia, a favore non si sa poi di chi. Quando fu rapito, l'onorevole Aldo Moro, si racconta che nelle fabbriche ci furono scene di esultanza, perché era stato messo in condizione di non potere più agire un uomo del quale, a sinistra, si diceva che voleva irretire e frenare il partito comunista, insomma, soggiogarlo, così come già aveva fatto con i socialisti. Era quella sinistra che aveva sperato, nell'immediato dopoguerra, nel rivoluzionario vento del nord, quel vento che aveva portato i comunisti a occupare le questure e le prefetture. Ma quando Paietta aveva preso la prefettura di Milano e ne aveva dato notizia trionfante per telefono a Togliatti, questi lo girò chiedendogli «E adesso che te ne fai?» Quella sinistra che si illudeva di cambiare radicalmente la Costituzione e l'organizzazione dello Stato e alla fine si era trovato in una sorta di continuismo che riannodava il presente allo Stato liberale prefascista. Erano passati oltre trent'anni da quei mesi di aspettative utopistiche. Poi erano venute le grandi disillusioni, il senso di essere stati traditi per colpa del Partito Comunista e dei sindacati. La realtà non era come la descrivevano, anche se c'erano stati momenti terribili nella vita dell'Italia, ma non importava l'esattezza della storia, importava il sentimento di delusione e di frustrazione. Ed ora, all'improvviso, dei ribelli, salutati come eroi, avevano preso il democristiano più criticato della sinistra. Di qui l'esultanza, che non durò per la verità molto a lungo, perché il Partito Comunista si era posto a difesa dello Stato e delle sue istituzioni. Aveva persino approvato un governo che non avrebbe mai accettato se non fossi intervenuti il rappimento dell'onorevole Moro. I comunisti avevano blindato sulla sinistra il loro partito per impedire non solo infiltrazioni, ma anche tentativi di approccio e di dialogo. Ma anche a destra, e nell'opinione pubblica più conservatrice, il rappimento di Moro aveva trovato comprensione e talora condivisione per le stesse ragioni fatte proprie dalla sinistra, ma qui rovesciate. Beh, in fondo Moro se l'era voluta, invece di chiudere i comunisti, invece di spingere il suo partito all'abbraccio con chiunque si dichiarasse anticomunista, quale che fosse il grado della sua lealtà alla democrazia, aveva avviato la strategia dell'attenzione verso i comunisti. Dunque, per quanto umanamente a taluno potesse dispiacere, peggio per lui, aveva sbagliato ed ora pagava. Nel corso del nostro racconto incontreremo il cardinal Siri, un oppositore storico dell'onorevole Moro, il quale, informato del rapimento da un autorevole giornalista, esclamò ha avuto quel che si meritava. Nel lungo viaggio, una vera e propria via crucis verso la morte, l'onorevole Moro non ha conosciuto solo l'esultanza della sinistra e la gelida indifferenza della componente di destra e conservatrice dell'opinione pubblica, ma anche la denegazione della sua identità. Ci sono parole che sono rimaste scolpite sulla colonia infame del lessico dell'ipocrisia e della doppiezza politica. Non è lui, non è a lui ascrivibile, vittima della sindrome di Stoccolma, la vittima che solidarizza con il suo carnefice. Sono accuse, rilievi o, se si vuole, constatazioni che non provengono tanto da nemici, avversari, abituali contestatori, ma soprattutto da amici, i quali, mi auguro, credessero a questo modo, sia pure, secondo me, sbagliando, di tutelare il vero Moro contro l'altro Moro, per alcuni non solo sotto ricatto psicologico, ma addirittura drogato. Così, si può dire fin da subito, l'onorevole Moro viene fatto scivolare verso il fondo, sospinto da chi non può ammettere che il potere sia messo in crisi da dilemmi umanitari, da distinguo politici, da critiche radicali al sistema. Moro allora non solo non è più se stesso, non solo è l'ombra di se stesso, ma decisamente un altro che parla e scrive e che dovrebbe invece stare zitto nella consapevolezza di non essere, non poter essere credibile. Moro è un vigliacco perché vuole salvare la sua vita e non è disposto a sacrificarsi, a fare il martire. Se avesse accettato questa impostazione sacrificale, il suo partito, il mondo ecclesiastico, una certa opinione pubblica, non avrebbero avuto alcune difficoltà a santificarlo, anzi, avrebbero desiderato con tutto il cuore santificarlo, perché i martiri non disturbano e arricchiscono i parchi delle rimembranze. Invece no, Moro è vivo e vuole fare tutto il possibile per incidere ancora in qualche modo nella realtà, anche se gli vengono rinfacciati i martiri della resistenza, anche se vengono contrapposte alle sue lettere quelle dei condannati a morte per la libertà. Moro è al corrente, almeno grosso modo, di quello che succede fuori nel mondo, perché gli danno dei ritagli di giornale, perché si renda conto delle reazioni dei politici. È informato quel che basta per constatare che in un paese dove ci si divide in mille correnti su ogni argomento, sulla sua situazione, si è formato un blocco unico e scesa una cortina di ferro che va dai giornali alle riviste, alla radio, alla televisione, a qualsiasi mezzo di comunicazione. La centralità del Moro politico, che aveva svolto un ruolo decisivo nei mesi precedenti il suo rapimento, non è più nulla, meno che un ricordo. Ora si deve solo aspettare che passi la nottata e tutto torni nell'ordine. Ma sarà lungo, difficile e tortuoso il cammino, molto più di quanto non si preveda. Quella mattina del 16 marzo 1978, quando era uscito di casa intorno alle nove ed era passato come sempre in chiesa per il suo quotidiano e intimo incontro con Dio, certo non immaginava che di lì a poco si sarebbe trovato repentinamente al centro di una sparatoria davanti alla strage della sua scorta, poi rapito, chiuso in una cassa e trasportato verso la sua prigione. Un mutamento improvviso e radicale. L'annullamento brutale di qualsiasi prospettiva della sua vita quale l'aveva vissuta fino a quel punto, fino a quel momento. Tutto divelto, squarciato, un deserto di disperazione e di solitudine. Gli effetti per subitanietà e radicalità sono quelli della morte, ma qui è un vivo paralizzato che vede la sua morte. Quanti, al di là del politico, dell'uomo pubblico, hanno pensato all'essere umano, sottoposto ad una totale privazione sul piano dell'esistere e persino dell'essere. Eravamo stati ad Auschwitz, fermandoci a lungo, in assoluto silenzio, in quel luogo che rappresenta e simboleggia la fine dell'umanità. Avrà pensato il presidente Moro alla somiglianza del suo stato a quella dei deportati? Se questo è un uomo, aveva gridato Primo Levi per la sua e per le altre generazioni in credere. Sì, se questo è un uomo. non ho sentito e non ho letto espressioni di sentimenti di comprensione umana, non ho percepito accenti delicati e compassionevoli, ma molte esternazioni scortesi, gratuite, unilaterali, che la pietà suggerisce di lasciar cadere tra i pregiudizi appunto prevenuti verso i cattolici, specie se a praticanti senza esibizioni, i democristiani, specie se per bene e lontani dall'uso spregiudicato del potere. Hanno sentenziato senza conoscere e senza riflettere o per converso hanno dettato disposizioni rigorosissime da valere in caso di loro sequestro, ma al riparo di blindatissime strutture di sicurezza e ben consapevoli che il rapimento di un uomo politico del livello dell'onorevole Moro sarebbe stato unico e irripetibile. Ma dal fondo di quello strano groviglio che è l'animo degli italiani si è elevato ad un certo punto un sottile mormorio che è andato prendendo corpo e consistenza nei confronti dell'onorevole Moro. La gente comune ha cominciato a solidarizzare con il prigioniero abbandonato da amici alleati diventati indecente e perciò reietto. Hanno visto per la prima volta in camicia meglio in camiciotto sbottonate senza cravatta un uomo che era stato sempre ripreso anche d'estate anche al mare in giacca e cravatta. Il potente in possesso ora solo della sua sostanziale nudità formale ha suscitato pietà commiserazione solidarietà persino tenerezza. Sì questo era finalmente loro occhi un uomo degno di essere stimato e forse per la prima volta nella sua vita amato ma adesso è ora di ripartire dall'inizio dalla sua nascita. Aldo Moro è nato a Maglie di Lecce il 23 settembre 1916 e figlio di Renato maestro elementare sposato con Fida Stinchi anche l'educatrice il padre finirà poi la sua carriera come ispettore presso il ministero della pubblica istruzione una famiglia dunque di persone colte ma di modesta condizione economica si racconta che Aldo e di suoi tre fratelli studiassero tutti in una stanza con una sola lampadina accesa forse deriva da quelle ristrettezze la versione dell'onorevole moro per la giacca ed i pantaloni di colore diverso anche quando andava di moda il pantalone grigioferro e la giacca nera o blu chiamava questo insieme il fratturato con chiaro anche se non dichiarato riferimento a pantaloni e giacche combinati in base all'esclusivo criterio del loro stato di conservazione e di portabilità del resto tutte le famiglie almeno del dopoguerra ricordano bene il passaggio degli indumenti ancora decenti dai fratelli più grandi a quelli più piccoli l'unico spezzato che ho visto indossato dall'onorevole moro è l'abito da cerimonia del mattino durante la visita ufficiale in Gran Bretagna c'è anche un altro aspetto che spiega il desiderio esplicito o implicito non so di affrancamento sociale quell'impegno nello studio frutto certo dell'amore e della passione per la ricerca ma penso anche via maestra per un'affermazione personale può darsi tuttavia che io sia condizionato dal fatto che per molti di noi di modeste risorse economiche è stata quella dello studio la strada per pareggiare i conti con i compagni ricchi e magari svogliati ad ogni modo l'onorevole moro si diplomò all'iceo classico archita di taranto con voti eccellenti quello più alto in matematica durante l'estate trascorreva molte ore alla biblioteca comunale della città per studiare in particolare filosofia si laureò in giurisprudenza aveva da poco compiuto 22 anni sul suo libretto figuravano 22 esami e altrettanti 30 13 di questi 30 con la lode quasi contestualmente diventa assistente volontario presso la cattedra di diritto penale tenuta dal suo maestro Biagio Petrozzelli l'influenza più forte su moro è certamente stata quella della madre per le sue posizioni culturali per le sue idee in campo civile e sociale che l'ha espressa in articoli in discorsi in incontri vari nell'insegnamento fino a quando non l'abbandonò per dedicarsi interamente alla famiglia ma soprattutto per la sua fede cristiana profonda intima personale decisiva la madre ma qualche cosa di particolare deve essere passato di detto o non detto tra padre e figlio e tra figlio e padre questa impressione si riceve leggendo il commovente ed in qualche misura sorprendente riferimento che la figlia Agnese Moro fa alla morte del suo nonno Renato Moro nel suo dolcissimo ricordo del padre un uomo così pubblicato da Rizzoli scrive mio padre piange piange da spezzare il cuore suo padre è morto e racconta che lui non rivolge la parola alla figlia ma le carezzano i tanti capelli e conclude ma ora mio padre piange col cuore spezzato non l'ho mai visto prima e non lo vedrò mai più piangere il pudore dei sentimenti la scontrosità quasi riguardo ai contatti fisici dei nostri genitori non ha nulla a che vedere con l'espansività dei nostri giorni ma l'intensità dei rapporti era davvero profonda bastava uno sguardo un cenno un movimento della testa per dirsi tutto di pari passo allo studio si sviluppa in moro l'impegno religioso espresso nella vita del circolo cattolico a Taranto di cui diventa segretario circolo poi chiuso dai fascisti senza alcuna ragione o giustificazione dal momento che esso non si occupava di politica si noti che anche in famiglia dove non si nutrivono simpatie per Mussolini non c'era però neppure partecipazione all'antifascismo a Bari terza tappa della famiglia dopo Maglie e Taranto moro all'incontro più significativo con il vescovo della città Nimmi che lo prende a benvolere e che avrà su di lui una notevole influenza moro diventa segretario del circolo universitario barese svolge con il fratello un intenso lavoro in occasione dello svolgimento a Bari del congresso nazionale della FUCI la federazione universitaria dei cattolici italiani di cui nel 39 diventerà presidente nazionale in considerazione fu detto del suo prestigio negli studi del suo essere veramente ottimo per intelligenza e matura formazione qui con l'aiuto di uno dei due assistenti Don Guano moro allarga la sua concezione cristiana dalla religiosità personale intima a quella incardinata sull'impegno cristiano nella storia sempre a proposito dei maestri e delle guide che hanno avuto un ruolo significativo presso i giovani cattolici ed in particolare i giovani FUCini viene spesso citato Jacques Maritain indubbiamente la cultura francese ha avuto notevole influenza sui cattolici italiani basta riferirsi a Giovanni Battista Montini ma non credo che su Moretz abbia avuto un'incidenza così particolare come si dice ricordo le difficoltà che si dovette con fatica superare per convincere l'onorevole Moretz a ricordare il filosofo all'atto della sua morte in linea generale Moretz non amava occuparsi di temi che uscissero fuori dal suo impegno politico diretto e che per la loro natura storico filosofica richiedevano tempo per un'adeguata riflessione e disponibilità di ricerca personale non si serviva di testi scritti da altri non delegava giudizi di cui non avesse la possibilità di compiere una personale verifica manteneva la serietà e lo scupro del professore universitario ed in più sapeva bene che una valutazione magari in apparenza semplicemente storica poteva rovesciarsi sul terreno politico con deflagrazioni tanto gravi quanto non previste a mio parere se Maritain fosse stato un frequentato punto di riferimento non avrebbe avuto bisogno di soparcarsi ad una fatica che lui stesso confidò essere stata improva per un testo di poco più di 60 righe che lesse in un programma commemorativo della televisione distaccato nel tono generale in questo testo c'era un unico riferimento personale laddove ricordava la sua esperienza nella fuci e nelle laureati cattolici e poi l'immediato passaggio dalla considerazione storica all'attualità politica in sostanza da Maritain scrive Moro c'era stata attribuita una precisa funzione a noi laicato cattolico ed elite popolari abbiamo cercato di fare quel che era stato proposto come un dovere e cioè svolgere il compito di unità e di formazione verso il nuovo ordine temporale ma riprendiamo il cammino sui due fronti dello studio e dell'impegno nel 1941 viene conferito a Moro l'incarico di filosofia del diritto e di storia politica coloniale presso l'università di Bari anticipiamo per esaurire questo aspetto che Moro dal 1947 diventerà professore straordinario di diritto penale sempre a Bari dove resterà fino al 1963 anno nel quale si trasferisce a Roma all'università alla sapienza presso la facoltà di scienze politiche con la cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale tra il 1939 e il 1954 l'onorevole Moro pubblica diversi saggi di diritto poi la sua produzione cessa per due motivi il primo che l'attività politica ormai l'assorbe completamente e oltre all'insegnamento non può più andare il secondo come conseguenza di un ragionamento da lui fatto molte volte e cioè che da giovani si possono scoprire nuove idee nuovi percorsi avere intuizioni originali poi finito il periodo creativo non resta che la possibilità di rielaborare perfezionare sistematizzare ma non inventare nel senso di scoprire l'onorevole Moro meglio il professor Aldo Moro non scriverà più nulla che abbia esclusivo riferimento alla sua specializzazione universitaria non dirà mai di sé io che sono professore di diritto e di procedura penale io che sono avvocato affermava che bisogna aggiornarsi leggere confrontarsi e che insomma la ricerca non si può improvvisare banalizzare aveva troppa considerazione di sé e della sua materia per ridurla al rango effimero di chiacchiera ma gli rimase e lo conservò come un bene prezioso il suo incontro con i giovani l'insegnamento che non abbandonò mai ma ci torneremo intanto sul fronte dell'impegno Moro nel 42 deve lasciare la presidenza della FUCI che teneva come sappiamo dal 39 perché è chiamato a prestare servizio militare a questo punto dobbiamo fare un lungo passo indietro per toccare uno dei due punti più controversi dalla biografia politica del giovane Moro la partecipazione ai litoriali e più tardi le vicende concernenti l'iscrizione alla democrazia cristiana quanto ai litoriali per comprendere la situazione è bene riflettere su un dato di cornice Moro è nato nel 16 quindi durante la prima guerra mondiale è poi cresciuto come studente e successivamente come professore sotto il fascismo che cade nel 45 quando egli ha 29 anni abbiamo visto che la sua famiglia pur non amando Mussolini non è antifascista fascista è invece l'università fascisti sono i suoi professori e tra essi il suo maestro Petrodelli fascista è la società la gente cresciuta nel mito del ministro delle opere pubbliche di crollanza che ha costruito a Bari l'imponente lungamare fascista è la burocrazia statale che creerà dei problemi al padre danneggiandogli la carriera fascista e quasi mai antifascista o afascista è il clero meridionale sono per di più gli anni del massimo consenso ad un regime che ormai governa da 15 anni c'è dunque un organico rapporto tra fascismo e l'ambiente tutto l'ambiente nel quale cresce umanamente e culturalmente Aldo Moro il quale non è uomo del nord e quindi ma lo ricordiamo per inciso con riferimento al suo futuro politico non farà la resistenza non sperimenterà direttamente né il moto popolare di ribellione all'oppressore nazifascista né la guerra civile non avrà alcuna propensione psicologica e politica per il fenomeno che si rassume nella penetrante espressione di Pietro Nenni il vento del nord quel vento impietuoso che avrebbe dovuto spazzare via il vecchio regime liberale tagliare tutti i nodi con il passato evitare il continuismo tra prefascismo e post fascismo che intendeva racchiudere il fascismo in una parentesi lunga sì ma sempre parentesi se teniamo conto di questa situazione non sorprende che il professore Moro vada ai lettoriali che sono un'occasione di confronto e di dibattito per far valere nei limiti del possibile il suo punto di vista e quello dei cattolici su temi importanti come quello che fu sviluppato nel 37 a Napoli sul rapporto fra la personalità individuale lo stato e la società e l'altro nel 38 a Palermo dedicato a principi e valori universali del fascismo Moro poi non ha né lui né il suo gruppo meridionale alcuna correlazione con l'esperienza del popolarismo di Nosturzo che prima dell'avvento del fascismo era a Bari in termini elettorali agli ultimi posti né ha esperienze e malizie politiche o torna conti da perseguire infine il suo orizzonte è quello tutto concentrato sulla formazione personale intima e individuale appunto non interessa qui ora sapere se Moro andò ai litoriali per propria autonoma iniziativa o sollecitato dall'università o dietro il suggerimento del mondo fucino di cui era espressione e di cui stava per assumere la presidenza nazionale la partecipazione ai litoriali fu anni dopo causa di aspre critiche a Bari ma soprattutto a Roma specialmente nel 60 durante il governo Tambroni quando da parte di esponenti fascisti del MC si sostenne che se si andava ai litoriali era solo perché si aspirava a diventare gerarca perché a questo essi servivano a formare il vivaio della nuova classe dirigente fascista Moro anche se si era iscritto al GUF per la contiguità e di buoni rapporti nel mondo universitario barese fascista non era per nulla ma era la vendetta dei monarco fascisti che avevano trovato la porta sbarrata nei loro confronti da Aldo Moro una lunga storia sulla quale dovremo soffermarci più avanti non mi risulta che di questa partecipazione elitoriale Moro abbia mai parlato con i suoi collaboratori ci furono ad un certo punto della polemica un paio di interventi sul popolo che non risultarono particolarmente persuasivi ma che di sicuro Moro controllò come tutto ciò che di significativo usciva sul giornale del partito almeno a partire da quando ne fu responsabile Piero Partesi se ne lamenta la figlia Agnese nel commovente libro che ho già ricordato quando mio padre era segretario politico della DC ogni sera si ripeteva la noiosissima questione del pastone del popolo lo chiamava immagino il direttore del quotidiano e papà si perdeva per un tempo che a noi sembrava lunghissimo in una conversazione telefonica praticamente incomprensibile il cui protagonista era appunto questo pastone il guaio era che il telefono si trovava nella stessa stanza in cui i figli guardavano la televisione e dovevano perciò abbassare il volume per la verità oltre al pastone a Moro venivano letti i principali titoli del giornale l'editoriale si aveva rilievo politico i corsivi polemici e le messe a punto l'attività del giovane Moro in campo sociale e civile tra i 20 e i 30 anni è particolarmente vivace sul fronte giornalistico fonda nel 43 a Bari la rassegna settimanale politico assieme ad un avvocato liberale e a due docenti universitari scrive a quattro mani un romanzo che non sarà mai completato e non vedrà mai la luce più o meno nello stesso periodo collabora a Studium rivista del mondo universitario cattolico e a pensiero e vita altro settimanale barese di ispirazione religiosa significativa per durata ed importanza anche la collaborazione ad azione FUCINA organo della FUCI nel 45 ultimato il servizio militare è nominato presidente dei laureati cattolici e direttore di Studium rivista sulla quale svolge una intensa attività giornalistica e saggistica notevole punto di osservazione e di riferimento a questi anni si riferisce una recente intervista al Corriere della Sera nella quale il senatore Cossiga scrive testualmente era Montini a guidare Andreotti fin da quando nel 48 indicò lui e non Moro a De Gasperi come braccio destro quando Cossiga diverso tempo prima citò lo stesso episodio in una trasmissione televisiva nella quale era presente anche l'onorevole Andreotti questi non disse una parola né per confermare né per smentire restando in silenzio ma con un'espressione del volto che pareva dire ma di che parli e già perché nel 48 Montini non poteva indicare un bel nulla dal momento che sin dal maggio dell'anno precedente nel 47 appunto Andreotti era già sottosegretario di De Gasperi alla presidenza del Consiglio Andreotti del resto conosceva e frequentava De Gasperi incontrato per la prima volta nella biblioteca vaticana sin dalle riunioni in casa Spataro per la costituzione a Roma della democrazia cristiana ed era delegato nazionale del movimento giovanile democratico cristiano in carico e lasciò quando divenne sottosegretario l'infondatezza dell'episodio di Consiglio è ulteriormente dimostrata dal fatto che nel 48 Moro era sottosegretario agli esteri visto con sospetto da De Gasperi per informazioni che egli avrebbe passate sotto banco ad Ossetti sul delicato tema del patto atlantico tanto che a partire dal 50 Moro non ebbe più alcun incarico nei governi guidati da De Gasperi l'episodio viene tuttavia raccontato da Cossiga nel contesto della lettera di Paolo VI alle Brigate Rosse per la liberazione di Moro facendo supporre perché altrimenti ricordare la storia non avrebbe senso che il papa sin dal 48 preferiva Androtti a Moro andiamo oltre finalmente viene il momento quasi inevitabile al di là di quello che era o poteva sembrare un atteggiamento se non di disinteresse di prudenza e forse di diffidenza di Aldo Moro del passaggio dall'impegno esclusivamente religioso a quello di carattere politico con la partecipazione diretta alla vita dei partiti si sarebbe detto che la persona così colta preparata seria professore universitario e titolare di una carica all'epoca particolarmente prestigiosa come presidente degli laureati cattolici e prima degli universitari cattolici non solo non avrebbe incontrato alcuna difficoltà ad inserirsi nella democrazia cristiana ma anzi sarebbe stato accolto a braccia aperte invece non fu affatto così siamo arrivati al momento del passaggio di Moro dall'impegno esclusivamente religioso a quello politico al suo ingresso nella democrazia cristiana vi dicevo che Moro pur essendo già professore universitario eppure avendo già ricoperto la carica di presidente dei laureati cattolici al suo ingresso nella democrazia cristiana non venne accolto a braccia aperte come sarebbe stato logico aspettarsi vi sono spiegazioni abbastanza serie per questo il segretario della democrazia cristiana di Bari era un antifascista che aveva pagato con la distruzione della sua farmacia la propria posizione politica inoltre era un ex popolare sturziano un movimento questo che a Bari aveva avuto sempre un modesto se non modestissimo seguito e di cui tra i giovani almeno si era perso il ricordo in più penso distassero qualche apprezzione gli stretti collegamenti con il mondo ecclesiastico Moro invece aveva partecipato anche con buoni risultati ai litoriali fascisti non era sturziano perché non aveva conosciuto da giovane l'opera di sturzo né aveva alle proprie spalle come è stato scritto esperienze delle lotte di massa se si fossero potuti confrontare si sarebbe constatato che tra Moro e sturzo le rispettive considerazioni sulla società e lo Stato non collimavano in più punti Moro infine è fortemente sostenuto dall'arcivesco Mimmi accade così che il segretario della democrazia cristiana barese non conceda la parola a Moro nel corso di una riunione piuttosto travagliata ne segue una gran polemica alla fine gli sarà concessa la parola e Moro senza per nulla intimorirsi dichiara apertamente che per il partito non si tratta di ripetere la pura importante esperienza dei popolari di Dosturzo ma di andare oltre per fronteggiare in modo nuovo situazioni nuove così Moro entra nella democrazia cristiana ma gli verrà lungamente contestato di essere eletto con i voti delle parrocchie eppure i critici che sottovalutarono la formazione ricevuta dalla Fucci di Montini il futuro Paolo VI e dai laureati cattolici di Giro Grighetti non si resero conto o forse se lo resero benissimo che senza l'educazione alla disciplina seria e responsabile della professionalità Moro non sarebbe stato come è stato autorevolmente rilevato tra gli elementi più promettenti della gioventù cattolica maturatasi negli anni trenta dobbiamo però prima di concludere sul punto dare conto di una voce che si era sparso a Bari in quel periodo e che avrebbe concorso ad accrescere la diffidenza del segretario della democrazia cristiana ma non di lui solo nei confronti di Moro e cioè che gli avesse fatto domande di entrare nel partito socialista si trattava in realtà semplicemente di un articolo del resto mai pubblicato scritto aderente all'invito dell'Avanti di esprimere le proprie opinioni politiche invito che del resto era stato esteso ad altri docenti universitari su questo episodio variamente ricostruito e commentato si è montata una polemica strumentale per fini di partito o di settori di partito proposta e riproposta a seconda della convenienza eppure sarebbe bastato leggere le numerose prese di posizioni di Moro sul socialismo e sul comunismo o riferirsi agli atteggiamenti del mondo ecclesiastico nell'ambito del quale egli si era formato per concludere che era concettualmente e praticamente impossibile anche se solo per ragioni tattiche provocare i democristiani riduttanti nei suoi confronti che Moro potesse fare una scelta del genere si dice che Moro non avrebbe nascosto le sue posizioni ma che il responsabile socialista locale non le avrebbe considerate preclusive pare di sognare perché stiamo parlando di un partito all'epoca decisamente anticlericale una considerazione finale quale sarebbe stato lo scandalo in una città come Bari provocato dal passaggio della creatura dell'arcivesco o Mimmi il cattolicissimo Moro nelle file ate incalcolabile e tale da spezzare sul nascere qualsiasi carriera politica toccherà altre volte all'onorevole Moro di essere accusato nel 1960 mentre infuriava come abbiamo visto e vedremo la polemica con la destra questa organizzò una vera e propria campagna per dimostrare che Moro era stato un fascista ortodosso due anni dopo in occasione del congresso di Napoli della democrazia cristiana fu pubblicato a Bari un opuscolo per documentare l'esistenza di un Moro 1 in Puglia e di un Moro 2 a Roma ormai dobbiamo lasciare la Puglia e seguire le vicende di Moro eletto nel 1946 alla Costituente e poi deputato alla Camera nel 1948 sempre nella circoscrizione di Bari come per il resto di tutta la sua attività politica ma prima di allontanarci è quasi spontaneo chiederci quale sia stato il rapporto umano dell'onorevole Moro con i suoi elettori con la gente della sua terra al di là del mondo politico economico impreditoriale della pubblica amministrazione locale e lo farò semplicemente con un ricordo personale una delle prime volte che scendemmo a Bari all'hotel delle Nazioni che sorge sul lungomare l'onorevole Moro forse notò la mia sorpresa e persino lo sconcerto con il quale la mattina scendendo nella hall l'avevo vista gremita di folla urlante che gridava in barese viva Moro e lo ripatteva di continuo per molto tempo a sera mentre facevamo due passi sul lungomare Moro si accostò a me e disse capisco che lei modenese possa trovarsi a disagio in questo mezzogiorno dalle abitudini così diverse dalle vostre settentrionali ma oltre le apparenze che possono apparire anche scostanti mi creda questa è gente buona e affettosa che avendoti dato il suo voto pensa che tu sia uno di casa e che tu le debba operosa gratitudine da voi un deputato che cammini per il corso e salutato a distanza con l'inchino fatto togliendosi il cappello di testa qui se potessero ti pulirebbero la strada che percorri con i rami degli olivi si era gente fatta così un giorno il segretario personale dell'orevole Moro vide comparire nel suo studio a Palazzo Chigli un'intera famiglia che chiedeva aiuto alla domanda come siete arrivati fin qui da Bari il capo famiglia con tutta naturalezza rispose in taxi comandatore i piccirilli avevano pur diritto ad una gita a Roma ma l'onorevole Moro aveva un occhio di riguardo anche per gli amici di un tempo degli anni baresi dell'università dell'impegno religioso e politico gli feci esperienze un giorno nel quale attaccai penso con una certa violenza in una rubrica che tenevo sulla gazzetta del mezzogiorno il più importante quotidiano interregionale esponenti radicali o liberare radicali baresi non ricordo bene ma lo feci usando ovviamente i criteri di giudizio nazionali gli unici che conoscevo il direttore pubblicò senza la più piccola censura ma poi face sapere con discrezione all'onorevole Moro che la cosa era dispiaciuta agli interessati che secondo la logica locale non si ritenevano criticabili Moro lasciò passare del tempo poi come disfuggito osservò che il loco la situazione era diversa e che quelli che io avevo attaccato erano delle persone per bene la vita del collegio per un parlamentare autorevole come Moro ruota inevitabilmente intorno a lui ci sono gli amici che chiedono i nemici che contestano i candidati a diventare l'uno o l'altro a seconda delle circostanze ci sono le ambizioni quelle soddisfatte quelle deluse ci sono le posizioni di potere le rivalità bisogna mediare tessere gli accordi con pazienza intervenire con decisione quanto serve e spesso serve ci sono i rapporti con gli altri partiti quelli alleati e quelli ostili le istituzioni come il comune la provincia la regione il prefetto i sindacati a Bari c'è la fiera del Levante c'è l'acquedotto più grande d'Europa le case popolari la zona industriale tutto questo l'ho citato al presente come era i tempi di Moro e come non so se sia ancora ora a trent'anni di distanza può darsi che l'onorevole Mora abbia dovuto adattare la sua linea e adattarsi alle circostanze in un collegio certamente non di sinistra che ha fatto sempre molta fatica a seguirlo durante i 55 giorni non è stato molto aiutato salvo rispettabili eccezioni poi è stato dimenticato presto se non prestissimo fino a poco tempo fa la regione poteva trovarsi a meraviglia con quel tipo di regime che era l'opposto del pensiero di Moro qualcuno e più di qualcuno ha criticato il Moro di Bari ma bisognerebbe conoscere la realtà di quel genepraio e di margini che obiettivamente si aprivano o non si aprivano sarà il giudizio storico politico a dire se vorrà una parola chiara dopo un'indagine accurata il testimone di quei giorni può solo esprimere il convincimento che l'età morotea è stata nella realtà pugliese una sovrastruttura che ha finito con la morte di Moro per riportare in primo piano la struttura profonda di una regione conservatrice per usare con un certo eufemismo un'espressione sintetica non ancora trentenne Aldo Moro che si è da un anno sposato con Eleonora Chiavarelli una fucina anch'ella compie un salto decisivo nella sua vita il suo itinerario che era partito da Maglie poi aveva raggiunto Taranto e successivamente Bari ora approda a Roma è un uomo nuovo per la capitale ma non lo è come dirigente cattolico quale presidente delle areati cattolici e direttore di studio non lo è come professore universitario essendo da tempo in cattedra lo è invece uomo nuovo per la politica nella quale ha sì localmente frequentato la democrazia cristiana ma senza alcuna posizione centrale tanto che anche adesso è eletto la costituente nella quota riservata al mondo ecclesiastico una volta che questo ha concordato di non presentare liste proprie restituisce persino con grande sorpresa e incredulità dell'impiegato addetto la casa che aveva in assinazione a Bari non sappiamo che cosa abbia provato in quel momento di così radicale transizione in tanti anni di collaborazione non ho mai sentito che gli venisse istintivo alle labbra un ricordo del passato un riferimento agli studi ai genitori alle abitudini di famiglia come se non volgesse mai indietro lo sguardo come se guardasse solo in avanti certo se gli fosse stata rivolta una domanda avrebbe risposto ma era naturale per noi non chiedergli nulla non solo perché conoscevamo la sua riservatezza la sua discrezione ma soprattutto credo perché per noi stessi era così forte il suo presente da non immaginare che avesse avuto un passato e invece c'era stato ed intenso e particolarmente significativo ora nel giungere a Roma ben sapendo credo che sarebbe stato per sempre era di fronte ad un mutamento radicale che si sarebbe imposto da subito e poi in misura crescente negli anni a venire in relazione ai nuovi e via via sempre più importanti compiti doveva trasferirsi dal piano esclusivamente religioso che fino a lì era stato quello predominante del suo impegno privato e pubblico a quello politico in altre parole doveva scendere dal cielo degli assoluti alla terra del relativo non aveva mai fatto mistero dalla sua fede religiosa non aveva nascosta neppure durante il servizio militare luogo consacrato ai lazi alle prese in giro alle eronie anche lì serviva la messa commentava il Vangelo sacrificava le ore libere per sbrigare le pratiche fucine per quanto poca esperienza avesse non ignorava che la politica richiedeva un'altra attitudine dalla testimonianza che non teme di essere minoritaria all'azione che naturalmente punta al consenso e alla maggioranza nonostante il parere di qualche critico secondo il quale l'onorevole Moro avrebbe sistematicamente evitato il conflitto i fatti dimostrano che egli ha scelto per sé da subito e per sempre fino a pagarla con la morte atroce e disumana che gli è stata inflitta la strada impervia e non quella pianeggiante e comoda immaginiamo allora per metterci dialeticamente dalla parte del critico un percorso diverso Moro è così notoriamente cattolico che infastidisce anche per questo gli ambienti democristiani baresi Moro è sostenuto dal suo arcivescovo che lo fa entrare in politica e lo spinge a presentarsi alle elezioni per la costituente non solo lo spinge ma lo aiuta con le parrocchie sarebbe stato più che naturale che un cattolico autorevole come lui che non aveva fatto la resistenza che non aveva militato e nemmeno conosciuto il movimento popolare sturziano che era stato abbastanza severo nei confronti del sistema dei partiti compresa la democrazia cristiana quale veniva emergento che aveva aspramente polemizzato con il socialismo e del comunismo si presentasse a Roma come il rappresentante più qualificato del mondo cattolico di matrice ortodossa e tradizionale una personalità che avesse voluto evitare il conflitto che avesse voluto compiacere un vasto e forse vastissimo settore dell'opinione pubblica cattolica e anche conservatrice come era del resto la Bari nella quale era cresciuto e diventare il pupillo della gerarchia vaticana non doveva fare altro che portare in politica quello che era stato fino a quel momento rigidamente senza mediazione alcuna ma così non è stato e non è stato a partire sin dai lavori della costituente sono stati compiuti studi approfonditi sul processo di formazione culturale dell'onorevole Moro in tutti i suoi aspetti sono state svolte ricerche accuratissime in relazione alle materie di sua competenza professionale dalla filosofia alla scienza giuridica in generale al diritto penale in particolare Renato Moro nipote dell'onorevole Moro che le ha compiute scrive che quello che soprattutto colpisce in questa formazione culturale giovanile è il percepire una certa tendenza a non volere appartenere a nessuna scuola a non identificarsi in nessuna posizione precostituita a uscire dagli stessi schemi della cultura cattolica quella degli anni 30 questa autonomia sarà in politica una caratteristica fondamentale autonomia anche da se stesso nel senso che egli salvi il periodo dell'assemblea costituente non sarà più il professore non avrà più un passato ma sarà totalmente immerso nella sua dimensione politica starei per dire nella sua vocazione politica indubbiamente gli studi che ha compiuti l'attività culturale in ambito religioso che ha svolto la sua fede religiosa tutto ciò rimane nel profondo innerva la sua struttura mentale e psicologica lo predispone alla mediazione e alla conciliazione culturale ad una sorta di umanesimo ecumenico come lo ha definito il costituzionalista Leopoldi Elia ma Aureli non è più del resto non l'ha mai stato un ideologo non è un intellettuale un politologo un filosofo della politica uno storico non è un pensatore un uomo che pensa sì perché il politico non è un teorico prendiamo l'architetto che estrae dalla sua borsa la città tutta inventata artificiale di Brasilia questa costruzione è meravigliosa sulla carta poi si rivela quasi un fallimento nella pratica succede spesso agli architetti no? il vero politico che applica tutte e solo le regole del politico non può e non deve commettere questo genere di errori perché non ha un progetto predefinito da applicare come un calco sulla realtà ed ha sì una idea un disegno un'ipotesi di dove vuole portare il suo paese in base alla sua intenzione alla sua analisi delle cose ma sa che la politica è un processo al quale bisogna associare gli altri è consapevole che occorre del tempo che bisogna sapere aspettare far maturare le situazioni non pretendere di comporre subito le differenze troppo accentuate ma intanto avvicinare quelle che appaiono componibili soffermiamoci ancora su questo punto del politico che è e deve essere solo e per opere la mente totus politicus tutto politico perché è un dato decisamente caratteristico dei convincimenti e della psicologia di Moro Moro non voleva mai andare oltre il proprio ambito ai convinti di San Pellegrino a quello di Luca ed in generale agli incontri di studio su temi specifici egli si presentava come un ospite di passaggio che rimanendo deliberatamente sulla soglia dell'argomento in discussione manifestava apprezzamento formulava considerazioni proponeva indirizzi confacenti alla sua carica di partito di governo occorse una lunghissima trattativa e fu davvero una grande sofferenza convincere Moro a concludere il dibattito promosso da il popolo sul libro di Scopola la proposta politica di De Gasperi al di là di incomprensioni che pure esistevano tra lui e il quotidiano anche a causa della preferenza che gli accordava il giorno del quale era diventato collaboratore fisso incomprensioni che nella circostanza fuggevano da pretesto per tirarsi indietro le vere ragioni erano tre che non voleva confrontarsi con uno storico di professione e per di più uno storico che stimava come tale ma non nelle vesti tardive di politico che non voleva rifugiarsi nella parte dello storico che non era la sua come se cercasse di evitare un giudizio politico che invece gli competeva che se lo esprimeva questo giudizio politico avrebbe finito nella valutazione di De Gasperi con l'implicare se stesso e la politica che conduceva alla fine l'uomo gentile qual era si rassegnò ma la stessura di quel testo fu una delle più tormentate che io ricordi per chi sa leggere tra le righe c'è la rivendicazione dell'apporto delle laureati cattolici e dei fucidi in quel suo ricordare fermenti democratici e contrappesi a spinte involutive c'è richiamo al contributo dei cattolici nella costituente alla discussione che ebbe in grande rilievo in casa dosettiana sul fare da sé o sulla collaborazione da avere e con chi avere c'è inevitabilmente direi quasi per un impulso inconscio la sovrapponibilità sostanziale dei due ritratti delle due biografie quella di De Gasperi è la sua fino alla constatazione che scoppola lo scoppolo storico non chiede al suo De Gasperi di darci un consiglio per oggi come dire che se lo avesse fatto Borges sarebbe tenuto alla larga da quel libro questo è il punto i consigli per l'oggi li può dare solo il politico che vive e opera nell'oggi che è politico e non storico che è politico e non intellettuale in quanto storici e intellettuali sono tutt'altra specie rispetto al politico quale Moro è e immagina debba essere il vero politico e che cosa sia un politico lo dice Moro nella chiusa dell'articolo su De Gasperi una chiusa un po' lunga ma l'ascoltatore attento farà presto a comprendere che in realtà mentre Moro descrive De Gasperi sostanzialmente sta descrivendo se stesso cioè dice che la politica di De Gasperi è quella ma in realtà sta descrivendo anche la propria politica sentiamolo da De Gasperi sulla testimonianza della fine ricostruzione di Scoppola ci vengono il moneto ad una grande fermezza nei principi e insieme ad un'intelligente ed utilità nell'azione politica l'invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere civile ma anche come un fatto morale uno straordinario esempio di coerenza interiore larghezza di vedute ed apertura al dialogo l'insegnamento di una sapiente commissione di coraggio prudenza rigore accorto calcolo politico e soprattutto di una grande serietà moro non voleva abbiamo detto autostoricizzarsi si opponeva perciò alla raccolta complessiva e sistematica dei suoi discorsi consentendo solo a pubblicazioni parziali limitate per argomento e per periodo da impiegare nella lotta politica non intendeva collaborare a saggi su di lui e tantomeno a biografia quando agnello coppola chiese di parlare con lui per il ritratto che stava preparando e che poi pubblicò da feltrinelli moro si rifiutò di incontrarlo e non per scortesia o mancanza di considerazione ma per non autodefinirsi e di conseguenza autocongelarsi fateli sapere disse che leggerò molto volentieri quello che avrà scritto in assoluta libertà del disinteresse di moro per tutto ciò che attiene alla sua biografia da conferma lo stesso coppola riferendo del mancato colloquio nell'introduzione al suo volume ma con una motivazione di natura psicologica forte senso di sé e non bisogno di adulatori che se non spiega tutto spiega però abbastanza non era e non voleva essere un intellettuale ma neppure un ideologo quando negli ultimi anni Gianni trovati sulla stampa di Torino lo definì il vero ideologo della democrazia cristiana moro non lo considerò un apprezzamento ma un ridimensionamento tanto è vero che Ritornè fosse stato suggerito al giornalista da qualche critico o oppositore e avrebbe voluto avere conferma di chi fosse al di là di possibili e ben individuabili personaggi politici torinesi del suo partito trovati dal suo punto di vista intendeva elogiarlo ma non aveva capito che per Moro quella che contava era la dimensione pura della politica un'opera aperta un processo un divenire qualcosa che non ha nulla di teorico di astratto ma che consiste nell'acutezza dell'intelligenza nell'intus leggere cioè nel leggere dentro nell'antivedere la realtà lavorando in essa muovendosi in essa la politica come evento che accade contemporaneo a se stesso altrimenti è già riepilogo storia anche Coppola che pure definisce Moro personaggio totus politicus tutto politico cade poi nell'equivoco della definizione un intellettuale della politica e per la finezza del suo pensiero e perché avrebbe più pensata che fatta la politica ma in Moro quale che sia il giudizio storico su di lui e sulla sua operatività l'agire politico moralmente ispirato è un pensare che è fare senza soluzione di continuità il pensare ed il dire è già il fare della politica per Moro il politico non può essere qualificato se non come politico punto e basta con le qualità certo del politico ma anche con i mezzi del politico cioè con il potere senza di esso non si fa politica e non si è politici per questo non voleva la presidenza del consiglio nazionale della democrazia cristiana perché secondo lui era un posto in sé in quanto tale tagliato fuori dal potere per fare politica per incidere e contare occorre avere il potere poco magari ma che sia effettivo al centro delle cose e non agli estremi margini non ininfluente formale onorifico allora è meglio stare fuori del tutto solo quando la politica è finita si può diventare un saggio cioè uno che è richiesto da un consiglio che osserve di lontano la realtà e ne scrive su un giornale o concede un'intervista come era accaduto a qualche attorevole personaggio europeo una situazione nella quale sia unicamente ascendente morale si mette a frutto la propria esperienza ma sia liberi di dire quello che si pensa di assumere posizioni personali perché non si hanno dei doveri dei precisi compiti non si è politici si è appunto osservatori e commentatori della politica degli altri e propositori solo della propria saggezza era quello che progettava come possibile per dopo una volta che fosse stato risolto il grande problema della guida del paese e che avesse evitato la presidenza della Repubblica per questo aveva intensificato la propria collaborazione con il quotidiano il giorno ai lavori della costituente Aldo Moro partecipa sia nella prima sottocommissione della commissione dei 75 che nel comitato ristretto dei 18 molto attivamente basta scorrere gli atti parlamentari per constatare la frequenza dei suoi interventi un centinaio la varietà e complessità dei temi affrontati l'abilità per la sua preparazione tecnico-giuridica e la sua sensibilità culturale nell'indicare soluzioni in grado ad essere accolte dalla maggioranza o talvolta dall'unanimità per la felicità della formulazione del testo per la corretta interpretazione e sintesi dei diversi punti di vista riferendo delle vicende sulla proposta di inserire in costituente il referendum che vide togliatti capofilia degli oppositori per il timore dell'immaturità delle masse la costituzionalista Anna Chimenti ha sottolineato che l'accordo per l'accoglimento del solo referendum abrogativo fu trovato da Einaudi e virgolette da un giovanissimo ma già allora abile mediatore Aldo Moro chiuso le virgolette a sua volta Giuseppe Dossetti che ebbe un ruolo eminente nell'assemblea costituente su mandato in bianco di Alcide De Gasperi ricordando a Bologna nel 1986 gli anni dal 45 al 52 nei quali partecipò alla vita politica disse che gli era rimasto particolarmente impresso il ricordo del lavoro svolto per oltre un anno nella prima sottocommissione nella quale disse testualmente vi soccorse quasi tutti i giorni la collaborazione costruttiva con l'intelligenza acuta e pensosa di Aldo Moro due anni prima nell'84 durante una conversazione con Leopolde Lia e Pietro Scopola ma della quale il testo è stato reso noto solo nel 2003 Dossetti aveva affermato che pur provenendo da processi formativi culturali e religiosi diversi e anche molto diversi c'era una sensibilità politica comune Moro non si era mai dissociato dagli altri dossettiani e anche nella prima sottocommissione della costituente disse Dossetti ha portato il suo contributo direi con il suo temperamento ma bene rafforzando quello che magari poteva dire la pira in un certo altro modo o io in una certa altra maniera in fotografie sui lavori della costituzione recentemente ripubblicate si vede l'onorevole Moro vestito di nero con cravate a righe i capelli neri appena sfiorati al centro dalla famosa frezza bianca che poi si sarebbe allargata ed accentuata ma che allora si intravedeva appena seduto tra la pira e Dossetti in un atteggiamento particolarmente sereno il volto atteggiato ad un sorriso più sottinteso che chiaramente percepibile dall'insieme scaturisce una sensazione di pace se non di felicità un'immagine decisamente inconsueta rispetto alle molte altre di un moro serioso quasi accigliato certo era una stagione creativa che celebrava l'intelligenza e l'inventiva in compagnia di colleghi di altissima qualificazione professionale ed umana per lo più giuristi e di fronte ad avversari anch'essi di grande livello con i quali tutti la discussione avveniva con forte passione con vivace dialettica con fiera opposizione quando non se ne poteva fare a meno ma sempre nel massimo rispetto per le persone e nella comune consapevolezza che si stava elaborando un testo fondamentale per ricostruire l'unità del paese per assicurare ad esso un avvenire di libertà e di giustizia un testo che doveva impedire anche il più piccolo rischio del ritorno ad un regime totalitario come era quello dal quale si era appena usciti e che quindi doveva equilibrare i poteri del governo e del parlamento così che l'uno non prevaricasse sull'altro e viceversa un testo poi che doveva per quanto possibile prefigurare gli sviluppi futuri probabili ed ipotetici che erano ovviamente diversi da forza politica a forza politica altro è se uno prevede per sé un avvenire di maggioranza o invece lo teme di minoranza se si pensa a queste difficoltà oggettive e soggettive di bilanciamento c'è da sorprendersi che sia stato possibile giungere ad approvare un testo chiaretto nel corso di anni drammatici quando si è temuto persino tra tentativi di golpe e attentati devastanti per la continuità dello Stato democratico le posizioni assunte da Moro col suo battersi perché i principi essenziali non fossero ghettizzati in un preambolo ma resi solenni anche in termini giuridici come articoli della Costituzione quale che fosse poi la loro operatività concreta indica la volontà di delineare per l'Italia un fondamento comune il più largamente condivisibile nella ricorrenza dei 60 anni della nostra Costituzione e dei 30 anni dalla morte di Moro è stato avviato un ampio dibattito tra storici costituzionalisti politologi e via numerando i quali non hanno risparmiato critiche né le risparmieranno in avvenire sulle scelte fatte sui punti privilegiati su quelli trascurati sulle omissioni mancanze e veri errori se non sarà il solito vento revisionista che fa tavola rasa per il solo gusto di abbattere i miti le interpretazioni consolidate e creare al loro posto il deserto sarà cosa utile e apprezzata altrimenti ci sarà ancora una volta persa una buona occasione il che non è poi così infrequente che accada sul piano del contributo personale è attribuita dall'Omoro l'espressione fondata sul lavoro che segue l'altra l'Italia è una repubblica democratica appunto fondata sul lavoro ma tralasciando l'elencazione dei successi e degli insuccessi di ciò che è stato accolto di ciò che si è dovuto abbandonare è però importante sottolineare la posizione assunta da Moro su alcuni temi sul punto se la costituzione dovesse essere antifascista o afascista Moro disse che per una malintesa preoccupazione di mantenere pura la costituzione da un'infiltrazione di motivi impartigiani non era possibile dimenticare quello che è stato non lo possiamo ribadire se non vogliamo fare della costituzione uno strumento inefficiente non lo possiamo perché non si può prescindere dalla costante rivendicazione di libertà e di giustizia si trattava insomma di distinguere le posizioni faziose smaccatamente di parte da quell'elementare substrato ideologico nel quale tutti gli uomini della democrazia possono convenire dato appunto dall'opposizione all'oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale la costituzione nasce infatti dalla resistenza e dalla lotta insomma questa non è ideologia di parte ma felice convergenza di posizioni e anche la forma istituzionale repubblicana dello Stato doveva essere irrevocabile un altro punto decisivo per Moro è la definizione dei tre pilastri sui quali si regge il nuovo Stato italiano e cioè la democrazia in senso politico in senso sociale ed in senso allargamento umano da qui discende il sostegno dato alla famiglia e dalle altre libere formazioni sociali che hanno una loro consistenza per cui occorre stabilire fra le personalità e le formazioni sociali da un lato e lo Stato dall'altro dei confini delle zone di rispetto dei raccordi questa è la via per rendere concreta contro l'egoismo e lo splendido isolamento la solidarietà sociale e la democraticità dello Stato possiamo allora concludere con le parole di Moro il capitolo sugli anni della Costituente è veramente in gioco tutta la civiltà del nostro paese fare una Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà esprimere una formula di convivenza fissare i principi orientatori di tutta la futura attività dello Stato la dignità umana la solidarietà sociale l'autonomia delle associazioni umane sono principi imbutabili che configurati come norme di legge costituzionali li fanno superiore alla legge ordinaria e inattingibili da essa li sottraggono all'effimero gioco di alcune semplici maggioranze parlamentare con il tratto in funzione della Costituzione il primo gennaio 1948 si chiude anche per Moro un periodo che abbiamo detto si può definire in termini personali ma nell'ambito politico del privato non sappiamo felice o quasi ora rieletto nel suo collegio di Bari torna in Parlamento come deputato e viene nominato sottosegretare di Stato agli esteri nel governo De Gaspoli ma lo scenario psicologico cambia si afface il volto cattivo e persino crudele della politica che in parte aveva già conosciuto al momento dell'ingresso nella democrazia cristiana di Bari Carlo Sforza titolare del ministero non gli concedeva molto spazio questa per un sottosegretario non è di per sé una gran novità ma seguiamo Giuseppe Dossetti nella già citata conversazione con Elia e Scopla nel corso della quale parlando di patto atlantico premette alla trattazione del tema di sua iniziativa come se volesse liberarsi di un magone troppo a lungo trattenuto queste notizie dunque dice Dossetti prima dico una parola su Moro diventato sottosegretario perché lo voglio però mantenendosi dal principio un collocamento totalmente marginale nel ministero tanto che io dopo averlo sostenuto consideravo la sua situazione veramente pietosa e credo che in questo abbia giocato una cosa soprattutto Andreotti che continua Dossetti non voleva la presenza di Moro agli esteri si è opposto con tutte le sue forze le sue possibilità la sua influenza su De Gasperi che certamente era contrario poi è sempre Dossetti che parla alla fine dovette capitolare dandogli però la soddisfazione di un risultato formale a cui non seguì nessun potere umiliato in tutte le maniere fin dal principio questo sfogo di Dossetti vuole testimoniare che sulla situazione di Moro non c'entrava nulla l'atteggiamento critico dei Dossettiani verso il patto atlantico problema che è ben successivo alla nomina di Moro agli esteri secondo l'accusa di Sforza e di De Gasperi Moro avrebbe passato a Dossetti informazioni segrete sul patto atlantico che si voleva tenere coperte fino alla fine in realtà Moro si limitò a mettere Dossetti in contatto con alcuni funzionari che gli dettono informazioni che Moro nemmeno conosceva insomma Moro non c'entrava nella fuga di notizie tanto che Dossetti poteva vedere alcuni telegrammi e documenti non avvalendosi dell'aiuto di Moro non è il caso di seguire oltre la discussione sul patto atlantico ma però ricordato che quando esso fu votato alla Camera Moro non partecipò alla seduta il giorno dopo egli fece mettere a verbale della seduta che la sua assenza era legata solo alla lascita di una figlia ma che se fosse stato presente avrebbe votato a favore del patto atlantico ad ogni modo quali che fossero le responsabilità diretto e indirette di Moro e quali che fossero le fughe indubbie quanto incontrollate dal ministero egli non fece più parte di governi come abbiamo già detto preseduti da De Gasperi diventò vicepresidente e poi presidente del gruppo parlamentare della democrazia cristiana nel 51 Dossetti abbandona la vita politica e cerca lo dice lui stesso di confortare Moro in tutte le maniere possibili nell'indurlo a continuare nel 54 muore De Gasperi e nasce un nuovo raggruppamento all'interno della democrazia cristiana composto da ex Dossetti anni di Gasperiani cattolici sociali Fanfani Taviani Emilio Colombo Rumor e Moro che doveva sostituire gli ex popolari che fino al 53 avevano svolto un ruolo primario nel partito e nel governo all'ombra del De Gasperi questo processo di cambiamento e di rinnovamento generazionale è riassunto nella segreteria della democrazia cristiana affidata a Fanfani dal 54 al 59 intanto Moro dal 55 al 57 fu ministro della giustizia e poi dal 57 al 59 ministro della pubblica istruzione solo nel 56 al congresso di Trento diventa consigliere nazionale della democrazia cristiana fin qui dunque posizioni abbastanza defilate durante l'esperienza di governo non riesce a portare a termine nel settore della giustizia la riforma in senso democratico e dei codici fascisti e nell'istruzione un piano decennale per le dirizze scolastiche ma nel 59 la sua vita politica subirà un'accelerazione almeno all'apparenza imprevista che darà inizio al lungo viaggio dalla gloria alla polvere Aldo Moro diventa segretario politico della democrazia cristiana il 16 marzo 1959 si noti la data 16 marzo che non ha ancora 43 anni ottiene 64 voti favorevoli e 26 schede bianche avevano votato a favore dell'accoglimento delle dimissioni di Fanfani 54 consiglieri mora dunque visti confluire sul suo nome 20 voti in più quando era stato nominato presidente nazionale della FUCI aveva giocato a suo favore oltre le qualità personali il fatto di essere un uomo nuovo poco conosciuto a Roma dotato di equilibrio indispensabile in un momento molto difficile nei rapporti fra cattolici e regime fascista anche adesso veniva designato perché in qualche maniera era tuttora un uomo nuovo non dava fastidio alcuno ai nuovi membri della oligarchia Dorotea che aveva strappato il potere monocratico a Fanfani spaccando in due il vecchio raggruppamento di iniziativa democratica tra Dorotei e Fanfagnani gli uni alleati con i gruppi di destra del partito gli altri con quelli di sinistra era apprezzato in Moro il carattere riflessivo la coerenza con la quale aveva lasciato il governo De Gasperi quando Dossetti si era riterato dalla vita politica cosa che non aveva fatto Fanfani Moro era poi confluito nel gruppo di iniziativa prestando la propria collaborazione al gruppo parlamentare che aveva lasciato per dissensi con Fanfani e al governo ma tenendo un atteggiamento distaccato un profilo basso tanto che al momento dell'elezione non appariva etichettabile in un senso o nell'altro i Dorotei avevano bisogno di un personaggio che favorisse l'incontro dei gruppi realizzando una tregua dopo una battaglia che aveva profondamente segnato il partito al suo primo congresso da segretario a Firenze Moro definirà fenomeno di slealtà di meschinità di irresponsabilità politica ciò che era stato compiuto contro Fanfani dagli oscuri autori delle ignobili imboscate in chiaro franchi tiratori dai formulatori dei capziosi distingue tra votazione di fiducia e votazione normale come se fosse possibile governare con la fiducia formale e la sfiducia sostanziale in base alla quale vengono sistematicamente respinti in Parlamento tutti i provvedimenti presentati dal governo e questo si riferisce al governo che aveva presieduto Fanfani fino a qualche tempo prima si era causato una situazione di disdoro molto grave di difficoltà politiche artatamente gonfiate di vantaggio dato agli avversari e di alibi costituito a favore dei tiepidi alleati parole dure forse uniche con questa durezza nella prosa morotea a distanza di quasi 50 anni se non si ha in sede di analisi storica non è possibile addentrarsi nel ginepraio degli attori dei primari dei comprimari e dei generici che hanno animato quelle vicende in sede di testimonianza può essere utile cercare di spiegare il senso profondo di uno scontro che non ci sarà più anche se con modalità ed esiti secondo le circostanze diverse c'era stata la contrapposizione tra De Gasperi e Dossetti tra una democrazia cristiana che pur avendo la maggioranza assoluta voleva collaborare con gli altri partiti sicuramente democratici ed un'altra democrazia cristiana in minoranza nel partito che voleva andare avanti da sola per realizzare il proprio programma e attuare il sogno di una società aperta al progresso aveva vinto De Gasperi contro Dossetti che nel 51 abbandonò il campo invitando tuttavia i suoi a rimanere in politica cinque anni dopo la DC perse alle elezioni la maggioranza assoluta rimanendogli solo quella relativa al di là del pur significativo calo numerico essa fu colpita nel prestigio nell'autorevolezza morale prima che politica così che mutò il rapporto con gli alleati di centro che si fecero via via più pretenziosi più difficili da contentare più resti ad offrire la propria collaborazione se non in cambio di sostanziosi vantaggi programmatici e del riconoscimento da parte della DC di un suo minor diritto a godere di una posizione egemonica la politica di centro comincia a logorarsi e il centrismo come disegno strategico per la guida del paese a perdere appunto quella centralità che era stata perseguita da De Gaspede nella DC la battaglia per la leadership e cioè per il comando lasciati ai margini popolari gli uomini della prima generazione era inevitabile si trasferisse su quelli della seconda generazione la lotta per il potere portò come abbiamo visto alla rottura del gruppo di iniziativa democratica e allo scontro dentro e fuori del partito nelle aule parlamentari e nell'opinione pubblica fu chiamato allora Moro dicevamo un uomo che avrebbe dovuto svolgere un ruolo transitorio di mediazione tra i belligeranti nessuno pensava che sarebbe stato un leader che ne avesse le caratteristiche nessuno lo riteneva un uomo d'azione come lo era stato fino a poco prima Fanfani lo si considerava lo ripetiamo un innocuo uomo di riflessione di ponderazione utile per abbassare la temperatura per preparare un congresso ma cos'era successo di tanto drammatico Fanfani era ad un tempo segretario del partito subentrato De Gasperi e dal 58 presidente del consiglio le accuse contro di lui riguardavano il suo modo di gestire il potere in forma autoritaria e accentatrice e la politica che stava conducendo di apertura ai socialisti ormai sottrattisi all'egemonia comunista tema che era diventato di crescente a talità riducendosi per consenso numerico e politico il centrismo Fanfani sperava di poter rimanere essendoci dimesso dal governo almeno segretario del partito ma non riuscì nel suo intento è ovvio che anche More immaginava l'allargamento a sinistra del quadro politico entro i limiti nei quali ciò era possibile ma il suo metodo era all'opposto di quello di Fanfani in tessuto di pazienza gradualismo mediazione convincimento egli si trovò però ad affrontare situazioni sempre più complicate dal governo Segni nel 60 di centrodestra al governo Tambroni che impattò sul voto determinante del movimento sociale italiano Tambroni concesse a Emissini di svolgere a Genova città martire della resistenza il loro congresso scatenando per reazione serie agitazioni di piazza provocate dai comunisti che bloccarono il congresso missino e costrensero l'ADC a prendere atto che non c'era per essa spazio sulla destra il problema della destra politica in Italia è stato il crucio di Aldo Moro egli lo ha considerato il punto discriminante per lui il termine destra era incarnato nel codice genetico nella struttura antropologica nella sedimentazione culturale di parte significativa del mezzogiorno d'Italia del ceto medio del mondo cattolico dire destra equivaleva secondo il suo pensiero a porre immediatamente come antidoto la questione della democrazia e della sua accettazione nella considerazione che essa è per la sua forma ed il suo contenuto l'unica scelta da compiere e da preservare prima di tutto soprattutto come condizione del tutto Aldo Moro sa che questo non è il convincimento diffuso appunto nel sud nel ceto medio nella borghesia capitalistica che ha espresso il fascismo nel mondo cattolico sa che la democrazia non è parte essenziale del modo di pensare di essere di comportarsi di molti italiani che tutta la storia del paese che tutta l'esperienza politica e civile hanno seguito percorsi lungamente non coincidenti con l'idea alta della democrazia valore innanzitutto prima che metodo e procedura Aldo Moro che dall'età di sei anni è cresciuto sotto il regime fascista e ne ha ventinove la sua caduta conosce dunque per dir così dall'interno come meridionale come figlio di un dipendente dello Stato dipendente è lì stesso quale docente universitario l'organicità del rapporto tra fascismo e burocrazia statale tra fascismo e Bari tra fascismo e un certo clero vuole però anche sottolineare la maturazione che c'è stata in trent'anni di democrazia il 21 dicembre del 1975 a Bari partecipa alla celebrazione del trentanale della resistenza promossa dal consiglio regionale pronunciando un elevatissimo discorso per il quale Gabriele De Rosa aveva preparato una traccia poi ampiamente rielaborata Moro sostiene la tesi che nella resistenza è il fondamento di legittimità dello Stato repubblicano che la resistenza è la radice ideale e politica della nuova costruzione democratica riconosce la resistenza come evento di popolo cercando anche di porre in luce sulla scia delle indicazioni di De Rosa lo storico De Rosa un'infinità di episodi spontanei il più delle volte oscuri o poco noti nell'intento di dilatare tracce significative di una resistenza civile non organizzata e con uno scatto d'orgoglio abbastanza inconsueto rivendica il ruolo avuto dal mezzogiorno e quindi osserverò forse con una punta di malizia da lui e cioè partecipazione alla lotta di liberazione ai primi atti dei governi della coalizione antifascista contributo al crollo degli eserciti nazifascisti e facilitazione dell'avanzata di quegli alleati prima manifestazione politica dei partiti antifascisti e insurrezione napoletana una tra le pagine più belle della resistenza se dunque Moro respinge l'accusa di un mezzogiorno palla al piede del fenomeno resistenziale ci tiene anche a non rimanere ingabbiato dentro la contrapposizione spesso manichea tra fascismo e antifascismo tra un nord resistenziale e un sud assente apatico attendista tra soluzioni di continuità o continuismo con lo stato prefascista nega perciò l'identificazione antifascismo uguale sinistra resistenza uguale comunismo che potrebbe schiacciare al polo opposto la democrazia cristiana durante i fatti dell'estate del 60 ora di chiamati quando la saldatura antifascismo partito comunista sembrava essersi fatalmente compiuta per la debolezza in quel momento della democrazia cristiana piegata a destra e di conseguenza impossibilitata a svolgere la propria storica funzione di interposizione tra gli opposti estremismi Moro farà ogni sforzo perché essa non diventi irreversibile sfruttando ed egevolizzando il rifiuto del fascismo di una significativa parte dell'opinione pubblica Moro non lo dice esplicitamente ma in qualche modo ammette che lo stato nato dalla resistenza non è esattamente quello che si sarebbe potuto immaginare e sperare esso è infatti ciò che le circostanze obiettive hanno reso possibile in una valutazione globale di tutti gli interessi nazionali ed internazionali il nostro paese non aveva solo perso la guerra non era solo subordinato al volere dei vincitori ma aveva anche bisogno di uno stato nel quale si riconoscesse il maggior numero possibile di cittadini che fosse capace su questa base di ricostruire l'Italia dandole un assetto stabile di libertà e di giustizia uno stato figlio del vento del nord dei comitati di liberazione nazionale avrebbe senza dubbio radicalmente rotto con lo stato prefascista lo stato liberale avrebbe senz'altro meglio corrisposto all'ideale degli uni ma il compito anche volendo concedere che fosse stato perseguibile non era quello di soddisfare una minoranza ed emarginare una maggioranza bensì l'altro di affrontare il più difficile tortuoso persino ambigo cammino del realismo che misura il passo sulla lunghezza delle gambe della gran parte delle persone e tuttavia sembra a Moro che un risultato sia stato ottenuto un gran numero di cittadini e gruppi sociali nel corso di trent'anni hanno accettato lo stato nato dalla resistenza si sono conciliate le democrazia ceti tentati talvolta da suggestioni autoritarie e da chiusure classiste soprattutto sono entrati a pieno titolo nella vita dello stato ceti lungamente esclusi ecco che cosa produce la pedagogia paziente del proselitismo democratico l'illuminazione che viene dal maestro buono che può insegnare giorno dietro giorno avendo costruito un'immagine psicologica umana politica che gli dà la possibilità di essere ascoltato e creduto a che cosa è servito allargare la storia della resistenza a episodi di singoli o di piccoli gruppi spesso ignorati o sottovalutati dalla dogmatica resistenziale egemonizzata dalla estrema sinistra a che cosa è servito inserire in essa come un dato di tutto rilievo all'apporto del mezzogiorno d'Italia qualificato quale contributo al comune ideale di riscatto a che cosa ha mirato quell'insistito esaltare le forze armate la loro partecipazione al corpo di liberazione nazionale quell'andare per accademie caserme ossari se non predicare la democrazia individui gruppi e istituzioni reintegrati nella loro storia tradizione funzione finiranno per considerare la democrazia una cosa giusta e buona il tema dell'orientamento della guida della pedagogia torna insistente appassionato specialmente quando c'è di mezzo la destra superata la drammatica esperienza di Tambroni nel 1960 Moro conclude con un sospiro di sollievo che è possibile riprendere il lento ma sicuro processo di educazione democratica del popolo italiano 13 anni dopo nel giugno del 73 al congresso del partito riferendosi allo spostamento a destra della DC con il governo Andreotti e alla polemica antisocialista precisa e non è stato bene lasciatevelo dire non è stato bene perché su questi motivi irrazionali su questi stati d'animo esasperati si possono fondare effimere fortune ma si concorre a deseducare la nostra nervosa opinione pubblica a disarmare la nostra fragile democrazia e ci si trova dinnanzi quando è giunto il momento ad ostacoli pressoché insormontabili abbiamo concluso la scorsa puntata parlando di Moro pedagogo della democrazia il politologo Gianni Baccebozzo parla di un pastore di colui che si prende cura espressione che manda invisibilio Silvio Lanaro che ne riprende il giudizio trasformandolo con una manifesta caduta di tono il si prende cura incurato nella sua storia dell'Italia repubblicana leader carismatico senza dubbio l'onorevole Moro ma il carisma non è delegabile è per sua natura aristocratico e solitario per questo Moro non avrà eredi o successori per parte sua Moro stempera la perentorietà del carisma nella pedagogia dell'insegnamento che con pazienza e costanza punta a persuadere a convincere ad attirare a sé per la qualità della proposta ma riprendiamo il nostro cammino torniamo ai rischi corsi dal sistema democratico alla conseguente necessità di non esasperare i conflitti sociali e politici in asprendo i veti ideologici questo tuttavia non può avvenire buttando la storia dietro le spalle considerando tutte uguali le motivazioni di quanti sono morti sulle opposte barricate bisogna rispettare la distinzione la diversità la radicale opposizione bisogna opporsi al cinico abbracciamoci tutti l'idea di Moro è che nel rispetto della storia vadano tuttavia colte le sfumature e fate emergere le disponibilità allargando il consenso mediante ciò che unisce legando i momenti forti della storia nazionale la resistenza è collegata al risorgimento di cui è lo sviluppo e il compimento non chiuso ma aperto ad altri raggiungimenti ogni forma di ribellione a qualsiasi oppressione trovi il suo posto nel procedere della vicenda nazionale l'unità è antidoto al fascismo e alla destra l'unità spezza le chiusure le solitudini classiste la superbia delle avanguardie l'unità è il risultato dello stare insieme dell'insegnare a stare insieme dell'abituarsi a convivere l'unità del paese l'unità della democrazia cristiana l'unità del governo è la stessa concezione della storia dei suoi sviluppi delle sue evoluzioni che Moro vede in chiave d'unità perché in essa si esprime la risposta alla frammentazione secolare alla separatezza del sud rispetto al nord alla esclusione dallo stato e dal potere delle masse popolari al rischio da prevenire e da combattere che la loro irruzione nella vita politica possa venire sotto il segno della divisione e della rottura tutto questo è stato il fascismo rottura divisione contrapposizione separatezza internazionale voluta e subita con le sanzioni ghettizzazione dei ceti popolari assimilazione del ceto medio ad un disegno corporativo clientelismo del sud gestito dallo stato partito unico visione concordataria dei rapporti tra state e chiesa ma nella strumentalità di un realismo deteriore che impone il silenzio all'azione cattolica e dentro di essa mura i gruppi intellettualmente più sensibili è in moro nel profondo del suo animo il retaggio dell'insegnamento cristiano non solo come contenuto di unità ma anche come metodo di ricerca fondato sulla pedagogia della persuasione dell'esperienza dello stare insieme egli è tutto dentro il percorso della parola non conosce per sua fortuna la stagione dell'immagine e dell'apparenza lo spessore della personalità di moro resta tuttavia segreto mentre apparirà ai più il carattere misterioso e oscuro di un politico levantino di un orditore di trame destinati ad irretire e avvolgere ogni cosa nelle spirali di fumo del niente il ritratto diventato addirittura una oleografia si deve in parte all'immensa stupidità di certi uomini di cultura di certo giornalismo alla malvagità di taluno e in parte alla difficoltà obiettiva di percepire nel profondo quest'uomo certamente diverso e solo la destra ed il neofascismo giungono però subito sbrigativi e pratici alla conclusione che a loro interessa lui e nessun altro è il nemico da battere il moderatismo democristiano individua ben presto in lui il cavallo di Troia e cioè il punto debole attraverso cui può passare la sinistra moro è un eroe fragile il suo anticomunismo non è a prova di bomba non ha le stimmate indelebili del 18 aprile non mette in prima fila la difesa ad oltranza del patrimonio accumulato in quel giorno di feroce contrapposizione non è l'atlantista che avendo fatto la scelta dell'occidente l'ha fatto una volta per tutte e non ha perciò timore di dichiarare ogni volta e per sempre la subalterna dipendenza dall'America moro non garantisce la tutela degli interessi dei privilegi a connotati di sinistra di sensibilità a sinistra che agitano i sogni dei reazionari dei conservatori dei moderati fuori nelle propagine e dentro la dc ma non ha neppure quello spirito di scolta avanzata minoritaria per costituzione che piacerebbe la sinistra interna ed esterna non è l'uomo del muro contro muro della contrapposizione manichea e dunque la destra lo vuole sconfitto e lo vuole da quasi subito gli attacchi alla sua persona alle sue modeste proprietà alla sua supposta mollezza alla sua non virilità quel suo tratto non propriamente maschio si compiace ancora descrivere Silvio Lanaro sono violenti grevi e dati i tempi sino a quel punto inauditi dal borghese allo specchio al quotidiano il tempo agli ambasciatori superatlantici e ai diplomatici addetti alla rappresentanza europea nell'ambito economico ai giornalisti economici alla Zappulli del messaggero con la condivenza del ministro Colombo e della sua lettera produttariamente pubblicata dal messaggero è tutto un dispiegarsi di forze in un fuoco di fila senza pause dal luglio del 60 dall'affare Tambroni alle preoccupazioni di Sieni che lo costringe all'incontro segreto con il generale De Lorenzo nella casa romana di Tommaso Morlino prima di consentire di fare il governo dalla sprezza intollerante e faziosa dei malagodi e del mondo a lui circostante alle persecuzioni nei suoi confronti dei piccoli azionisti delle società elettriche alla vigilia della loro nazionalizzazione alle polemiche sul disegno di legge sullo concernente il diritto di superficie dal pettegolezzo promosso alimentato e finanziato dai servizi segreti che sostengono foglie e fogliastri camuffati da agenzie di stampa fino ad OP di Pecorelli fino all'affare Lockett tutto è messo in opera per distruggere l'uomo la sua moralità la sua bona fede nella democrazia cristiana la lotta contro di lui è più subdola insidiosa ma non per questo meno tenace e perentoria come nel 1966 con l'ordine fatto di recapitare i donorevoli piccoli di togliersi di mezzo nell'interesse del partito l'elenco è incompleto e salto di qui e di là nei diversi episodi solo per delineare un quadro dei suoi tratti di fondo non vale soffermarci si oltre ma tutto questo perché? perché mora compreso che se il comunismo è il nemico evidente indiscutibile da battere in campo aperto nemico degno ad un grande partito come la democrazia cristiana la destra è invece il demonio interiore il cancro segreto nei confronti del quale nel partito nell'elettorato d'ordine nel mondo cattolico esiste una non conclamata eppure tenace familiarità c'è una fatale predisposizione quant'anni fa Moro notava che la destra chiama sempre in causa la DC con l'accusa di non aver fatto nell'ambito dell'una o dell'altra formula politica quella scelta a destra che da essa si richiede nella speranza di immobilitare la sua immensa forza elettorale popolare per difendere interessi per puntellare posizioni per tentare invece che una incisiva politica di rinnovamento e di esaurimento della forza vitale del comunismo una disperata e disordinata quanto impotente sortita la destra insisteva Moro ci chiede in sostanza di fare una politica suicida nessun equivoco e nessuna possibilità di interferenza sono pertanto ammissibili e proprio sulla destra si è combattuta la partita finale che ha consumato la democrazia cristiana avendo scelto la via di Gasperiana la DC perseguì la politica delle collaborazioni democratiche ma il gioco polemico dei partiti di centro portò più volte la DC a dover costituire da solo il governo o con sosteni squilibrati e squilibranti ebbene ogni volta che la democrazia cristiana si piegò o fu costretta a piegarsi sulla destra rischiò sempre quella drammatica scivolata dalla quale non si sarebbe più potuta riprendere quando entravano in campo anche solo le componenti di centrodestra rimbalzavano echi profondi nella vita interna della DC ben consapevole di avere un elettorato largamente moderato e persino d'ordine in quelle situazioni e in quelle circostanze componenti della DC subivano l'attrazione fatale del proprio elettorato e il desiderio spesso né inconfessato né ritenuto inconfessabile di compiacerlo quando la DC si spostava più a sinistra ecco il pesante contraccolpo della destra interna così come abbiamo visto con il governo Fanfani dopo il 58 per il successivo governo Seni Moro deve chiarire che non si è verificata una svolta destra della DC e di conseguenza di tutta la vita politica italiana quello di Seni non è un governo di maggioranza a destra ma un governo minoritario della DC esclusivamente unilateralmente della DC quanta fatica per chiarire per mantenere la irriducibile differenza pur nella contingenza che sembra contraddire la purezza dell'impostazione ideale ma se Moro si preoccupa tanto è perché sa che qui si tocca il punto di rottura la DC era nata per trasferire nella vita democratica forze che democratiche non erano mai state e non erano neppure in quel momento per spingere il mondo cattolico a scegliere la democrazia quale forma politica più sensibile ai principi di difesa delle persone e di solidarietà sociale caratteristici dell'ispirazione cristiana ad essere coerente nel conservare la fiducia nonostante le difficoltà non si dimentichi Gedda e l'estone civico per le eluzioni comunali a Roma voluto da Pio XII a non fare dell'anticomunismo una guerra di religione ed un alibi per la perpetuazione di ingiustizie e privilegi secolari o per miopie categoriali e di ceto ma ci si era accorti ben presto che era difficile estremamente difficile tenere la posizione forte era il richiamo della foresta nella quale stormivano venti di destra una sorta di sabbia mobile irretisce e sospinge sul fondo irresistibile implacabile senza speranza di salvezza già a Firenze nel 59 Moro descrive la resistenza psicologica al nuovo esaltazione mitica di alcune tradizioni li accese anche se vane puntate nazionalistiche il tentativo di dissolvere nel sentimento di devozione alla patria i concreti problemi che la realtà sociale e politica propone e in questo ambiente naturale osserva Moro che si sono di volta in volta inserite posizioni conservatrici Moro ridice ora e ridirà in seguito molte altre volte che la democrazia cristiana viene attesa di volta in volta periodicamente ad un appuntamento con le forze di destra per una svolta politica ma questa svolta non si è verificata e non si verificherà mai andiamo indietro siamo in vista del cruciale 1960 cruciale per il nostro ragionamento Malagodi provoca la crisi del governo non riuscendo a spingere a destra la DC Fanfani tenta inultimente di formare un governo di centro-sinistra Tambroni a suo volto tiene alla Camera il voto determinante dei Missini la DC provoca la crisi ma Gronchi rimandi il governo al Senato la DC con molte riserve ritiene di non poter rifiutare la propria collaborazione corrispondendo all'invito del capo dello Stato la preoccupazione fondamentale di Moro vissuta con un'attenzione angosciosa è che per la presenza determinante del movimento sociale italiano si fosse di fronte ad una reale involuzione della vita politica italiana Moro non si preoccupa tanto del movimento sociale che è quello che è ma di non irrilevanti stati d'animo di insofferenza di superficialità di egoismo di ottusa irriducibile incomprensione del valore vitale e costruttivo della vita democratica questo è il pericolo insufficiente stabilità ed ampiezza delle nostre strutture democratiche incompiuta penetrazione delle istituzioni nella coscienza dei cittadini il tormento di Moro è sì la predicazione esplicita del movimento sociale ma soprattutto quella implicita e sotterranea di molti altri a livello di partiti di movimenti di opinione pubblica di elettorato che proclama ineluttabile un corso a destra per un movimento politico che si richiama all'ideale cristiano Moro dice di aver sempre lottato per liberare la DC dall'abbraccio soffocante della destra fascista e parafascista per rispettare la sua tradizione salvaguardarne l'autentica ispirazione cristiana garantire l'integrità del suo patrimonio ideale sono in gioco l'involuzione politica le prospettive frontiste lo scontro tra opposti estremismi lo snaturamento e l'esautoramento progressivo della DC l'indebolimento fatale della nostra ferma ma democratica resistenza al comunismo parlavamo in chiusura della precedente trasmissione dei fatti del luglio del 60 riferendosi a quegli eventi ma 34 anni dopo e cioè nel 94 lo storico Piero Melograni sostenne in un articolo sull'Espresso che la tesi di Tambroni golpista era un'egiagerazione costruita dalla propaganda del regime in realtà secondo lui quello del 60 fu il primo esperimento di governo nato al di fuori e contro la partitocrazia e l'appoggio del movimento sociale italiano aveva un significato preciso che i neofascisti erano maturi per una svolta di tipo democratico e dunque fu la partitocrazia continua Melograni a rovesciare Tambroni con l'aiuto della piazza per bloccare questo processo e varare il centro-sinistra Melograni va oltre citando il messino a un fuso secondo il quale se la democrazia cristiana si fosse sforzata di comprendere le intenzioni del movimento sociale italiano e lo avesse accettato il governo questi sarebbe anche potuto sparire e proprio a quel congresso di Genova impedito dai moti di piazza sparire e confluire nell'alveo di un grande partito conservatore moderno la lettura che lo storico Piero Melograni fa dei fatti del 60 è tutta proiettata e piegata sugli eventi del 94 al momento dell'ingresso degli ex fascisti del governo Berlusconi quasi a stabilire l'inizio della loro revisione politica a partire da 34 anni prima un altro storico Massimo Salvadori con più aderenza alla realtà di quel momento parla di un governo Tambroni che si immoveva tra la crisi del centrismo ormai consumata e l'apertura ai socialisti sostenuta da Moro e da Fanfani e alla quale si opponeva la destra democristiana e l'ala più conservatrice e moderata dello schieramento politico a partire dai liberali secondo Salvadori il movimento sociale italiano dell'epoca non era affatto sulla strada della democratizzazione o dell'inserimento nell'ordine costituzionale anche se c'era chi giocava a spingere il movimento sociale italiano dentro la democrazia cristiana per spostarla a destra le sinistre avvertirono i rischi della tentata normalizzazione della destra e si mossero per sventarla chi la sventò però non furono tanto le sinistre ma innanzitutto l'onorevole Moro che aveva valutato chiaramente il pericolo per la democrazia cristiana di una svolta a destra e la pressione del movimento sociale italiano per realizzarla eppure Melograni non spende una parola per esaminare correttamente la posizione del segretario della democrazia cristiana Moro dal momento che il suo obiettivo è quello di dipingere i democristiani tutti intenti a screditare Tambroni solo in attesa che arrivassi il governo vero investito dall'onorevole Moro vale a dire quello dell'apertura sinistra Melograni non prende in considerazione l'eventualità che la democrazia cristiana avrebbe potuto cedere al movimento sociale italiano non ipotizza il conseguente scontro destra-sinistra il rischio di una guerra civile tutt'altro che remoto in quel clima se i servizi segreti poterano permettersi di inventare un rapporto su un peraltro inesistente complotto da parte dei comunisti Moro che non può leggere il Melograni del 94 conosce però bene i Melograni del suo tempo e spiega che non si trattava di polemizzare con un governo di democratici cristiani che in condizioni di estrema difficoltà e con grande senso di sacrificio ha fatto come la direzione ha ripetutamente riconosciuto tutto il suo dovere bensì di correggere una evidente inidoneità l'estrema pericolosità di una maggioranza che vede in posizione determinante un partito che non crede nella democrazia che non serve la democrazia una forza politica estranea ed opposta al filone storico al patrimonio ideale della resistenza dal quale prende le mosse la nuova storia dell'Italia democratica in una limpida pagina di grande onestà intellettuale Moro dimostra che non si è ceduto alla piazza avendo la democrazia cristiana dato il proprio sostegno al governo impegnato nella tutela dell'ordine e della legalità non si è ceduto al partito comunista italiano dato che si è realizzato una maggioranza democratica non si è ceduto al sentimento antifascista anche se utilizzato dal partito comunista italiano in funzione frontista perché di quel sentimento serenamente compostamente e partecipe la stessa democrazia cristiana Moro che abbiamo sin qui seguito nel discorso alla camera riprende il suo ragionamento al consiglio nazionale della democrazia cristiana il 19 agosto del 60 e ripete che non è in discussione Tambroni ma lo scontro innescato tra movimento sociale italiano e partito comunista italiano foriero di drammatiche conseguenze per il paese se non ci fosse stata la resipiscenza dei partiti democratici la linea costante di Moro è di preservare la democrazia cristiana dal suo demonio interiore la destra Moro dice che quando la crisi di alcune formule tradizionali ha avvicinato la democrazia cristiana alla destra essa ha rifiutato allineamenti condivisioni corresponsabilità per evitare involuzione e compromissioni della vita democratica si combatte il comunismo solo su basi democratiche e di progresso sociale non si governa democraticamente il paese su posizioni estreme e di conservazione quello che Moro non vuole è che i comunisti realizzino significative solidarietà antifasciste e che la democrazia cristiana venga legata alle forze reazionari Moro lo vediamo bene volge tutto al positivo eppure parla di vittoria sulla tentazione dunque una qualche tentazione c'è stata di adagiarsi di non temere di compromettersi di imboccare la via breve quella che mira colpire l'avversario come che sia senza attardarsi nella complessa lentezza ed apparente minore incisività del metodo democratico sul clima di quei giorni del 60 sulle voci alarmistiche che spinsono sul suggerimento dell'arma dei carabinieri prescelta per la propria sicurezza e capiremo più avanti perché l'onorevole mora a dormire per almeno una notte fuori casa egli non dice nulla e non lo dice per prudenza per carità di patria e di partito per non accentuare divisioni per non esasperare incomprensioni pubblicamente anzi torna ancora ed è almeno la terza volta in due discorsi ad esprimere profonda gratitudine e spirito di amicizia e di solidarietà per Tambroni che ha lavorato con dignità coraggio moro si fa carico dell'amarezza personale di Tambroni per quel fondo irriducibile di incomprensione che è nelle cose e per i giudizi eccessivi ed ingiusti qui però si colloca un'affermazione perentoria che è anche un pesantissimo monito la democrazia cristiana non può più rischiare di piegarsi a destra se essa sia pure in uno stato gravissimo e di necessità si volge in quella direzione né muore moro sa che dal 45 in poi è stato difficile far passare nelle gerarchie ecclesiastiche in una parte non piccola del mondo cattolico in una certa zona dell'elettorato la pregiudiziale della libertà e della giustizia sa che in tutti gli anni dal 53 al 60 è stato subito complicato tenere saldo il rapporto con i partiti democratici e che non sono mancate le voci esplicite o implicite che i voti quali che siano un partito di maggioranza relativa alla fin fine ha il diritto di andare a prenderli dove sono perché l'anticomunismo può spiegare e giustificare tutto è duro talvolta durissimo sostenere che prima viene la democrazia e poi la lotta al comunismo che anzi se non c'è la prima non c'è neppure la seconda fuori dalla democrazia non solo non si combatti il comunismo ma lo si aiuta a vincere ma adesso lo sconfinamento a destra imposto dalle circostanze ha reso ancora più manifesto che non si può passare la linea di demarcazione neppure per un istante e che anzi bisogna spingere la democrazia cristiana più al centro il paese più a sinistro lontani sempre più lontani da questo male oscuro si salva l'ADC e si salva il paese spostandoli al centro perché la democrazia cristiana che è il paese rischia di soffrire delle stesse tentazioni del paese il quale ha storicamente cercato più a destra che a sinistra di risolvere i propri problemi l'Italia di fatto al di là dei nomi al di là della forma nella sostanza è stata sempre governata al centro da forze centrali non estremiste sulla sua posizione personale Moro farà in un consiglio nazionale del 1961 precisazioni molto interessanti la sua esistenza a parlare di limite a destra è abituale perché esprime una convinzione e cioè che non vi sia nella democrazia cristiana una sufficiente consapevolezza dell'esistenza di un pericolo a destra e in generale di un pericolo a destra nella vita politica italiana a sinistra c'è una valutazione rigorosa consapevole mentre c'è una minore attenzione di quello che avviene a destra Moro cita il democristiano di destra non levole lucifredi secondo il quale da quella parte e cioè da destra non vengono pericoli insomma non bisogna mai dimenticare che un po' tutta la destra si rivolge alla democrazia cristiana come a una sorella che tradisce Moro ora si incammina lungo la strada del centro-sinistra in tutte le sue gradazioni sfumature ricordiamo per inciso che il governo dell'onorevole Fanfani subentrato a quello di missionario del senatore Tambroni che vedeva i partiti liberale repubblicano socialdemocratico convergere non tra loro ma esclusivamente sulla democrazia cristiana era stato definito da Moro un governo delle convergenze democratiche e non delle convergenze parallele come poi fu sempre chiamato dalla stampa e ridicolizzato dai critici questi richiamavano l'elementare nozione di giovetria piana secondo la quale le linee se sono convergenti non sono parallele Moro un po' seccato sfidò più volte a trovare nei suoi scritti l'espressione inventata da altri inutilmente perché quando i giornalisti hanno definito qualcosa in un modo caschi pure il mondo non la cambiano per supponenza o per pigrizia chiuso l'inciso continuiamo il nostro viaggio Moro ora si addossa il peso di un'estenuante polemica che libera da destra e dal centro-destra ciò non di meno e li cercherà spesso in urto con le correnti di sinistra del suo partito di portare con sé più democrazia cristiana che gli sia possibile cerca di proteggere la destra interna alla democrazia cristiana dagli attacchi socialisti sin dalle prime fasi del lungo tormentato processo e lo fa perché si rende conto che più ci si sposta e più è facile lasciare per strada parti consistenti di partito ma sarebbero parti che verrebbero fagocitate da destra e renderebbero la democrazia cristiana esposta ad una tempesta che si rifletterebbe poi sul suo elettorato come si fa a combattere la destra nella democrazia cristiana come si dice senza combattere tutta la democrazia cristiana hanno ragioni comunisti nel porre come obiettivo la sconfitta senza discriminazioni di tutta la democrazia cristiana dice ancora nel 60 al convenio dei dirigenti democratici cristiani avvicinandosi al congresso di Napoli del 1962 Moro ribadisce i limiti a destra afferma che sono state rifiutate anche le più modeste attenuazioni o eccezioni abbiamo osserva meditatamente chiuso ogni spiraglio escludendo alternative anche tattiche abbiamo rotto perché non fosse neppure giustificato il sospetto che una forza seria come la democrazia cristiana potesse essere accostata o assimilata ad una forza di destra questa è una posizione ferma e stabile nella vita politica italiana e nella relazione al congresso di Napoli summa del suo pensiero politico e momento culminante della sua esperienza di segretario e dunque di guida non solo formale ma sostanziale della democrazia cristiana Moro fa la storia del rapporto tra democrazia cristiana e destra per dimostrare che sempre anche quando può essere sembrata meno appariscente la chiusura a destra è stata una posizione di fondo qualche cosa che attiene alla natura del partito e senza la quale l'ADC non sarebbe né un partito democratico né un partito di ispirazione cristiana una intesa a destra toglierebbe la democrazia cristiana se non la volontà almeno la possibilità obiettiva di valorizzare tutti gli elementi utili allo scopo democratico del paese la democrazia cristiana non potrebbe svolgere il compito di garanzia democratica il pericolo non va poi valutato in termini di voti ma considerando la radice del totalitarismo fascista nel corpo sociale della nazione la radice del male è nella vita sociale va estirpata su di un piano ideale con risorse morali ma non basta non fare alleanza a destra occorre combattere le battaglie della giustizia dare autorità alle istituzioni fare credito alla libertà siamo arrivati alle elezioni politiche del 63 in occasione delle quali uomini di poca fede dirà Moro con sdegnata amarezza in un momento di rispetto accecante si sono allontanati da noi pensando di trovare altrove una difesa più efficace sono democristiani che hanno votato liberale o socialdemocratico o addirittura in qualche caso direttamente comunista abbiamo pagato dice Moro un prezzo alla politica nuova quasi un milione di voti comincia alimentato dall'insuccesso elettorale quel processo di contenimento riduzione controbilanciamento che sfiancherà la politica di centro-sinistra un'animosità è stata definita quella Dorotea che si esprime con continuità ma cresce di intensità con la malattia di seni l'elezione al Quirinale di Sargat sui temi di politica economica da qui le frequenti lettere ne abbiamo già accennato al presidente del consiglio per invitarlo alla prudenza al rinvio alla rinuncia alla correzione è nel 64 la vicenda che abbiamo già richiamata che riguarda De Lorenzo ed il progetto di colpo di Stato che secondo le correnti radicali di sinistra sarebbe stato coltivato per troncare l'esperienza di centro-sinistra non ha torto chi fa risalire gli accadimenti del 64 a quelli del 60 sin da allora cioè nel 60 si era delineata chiara la contrapposizione della democrazia cristiana tra seni e moro al consiglio nazionale della democrazia cristiana in base ad un'informazione assolutamente attendibile che si svolse nella primavera del 60 a Roma a Palazzo Rospigliosi seni era andato in giro tra i consiglieri a raccogliere firme contro il segretario moro non voleva il centro-sinistra preferendo soluzioni alternative di centro-destra e per giunta dopo i fatti del luglio 60 aveva il terrore dei moti di piazza provocati dalla sinistra alla caduta del primo governo moro nel giugno del 64 segni che avvertiva con grande partecipazione personale gli elementi di tensione che emergevano dall'opinione pubblica specie quella moderata manifestò a moro da presidente della repubblica cui competeva la disegnazione o la riconferma del presidente del consiglio tutta la sua preoccupazione non solo per la situazione politica economica e finanziaria ma anche per quella dell'ordine pubblico gli disse che il generale De Lorenzo con il quale era in particolare confidenza gli aveva delineato un quadro a tinte fosche per queste ragioni considerava pressoché improponibile la ripresa della collaborazione con il partito socialista italiano e non escludeva affatto lo scioglimento delle camere e l'indizione di elezioni politiche da parte di un monocolore democristiano o di un governo guidato da una personalità come Merzagola Scelba ha raccontato nelle sue memorie che segni l'aveva consultato come ex presidente del consiglio sulla sua disponibilità a condurre un monocolore ma che lui aveva rifiutato soggiungendo che la formula di centro-sinistra interpretata da Moro non poteva essere così rapidamente archiviata Scelba non concordò con segni neppure sulle varie ipotesi da questi formulate per intervenire in materia di ordine pubblico l'esito globalmente negativo del colloquio accentuò in segni la sua inquietudine profonda a sua volta Moro replicò a segni che erano proprio quelle sue preoccupazioni che sconsigliavano le elezioni anticipate le quali avrebbero rappresentato un salto nel buio ed il rischio questa volta sì di una rivolta di piazza segni tuttavia non trovava pace e non mancava a giorno che a rumor come segretario della democrazia cristiana e a lui come presidente incaricato non facesse pervenire a voce o per iscritto l'espressione delle sue crescenti ansie fu allora che Moro si dichiarò disponibile a verificare di persona la situazione di cui la riunione autonomamente indetta da lui e non imposta da altri in casa di Morlino tra Moro Rumor Zaccagnini Gava alla quale non come partecipante ma come consultato fu ad un certo punto ammesso De Lorenzo accompagnato fino all'uscio dal comandante Cossetto persone di assoluta fiducia di segno il generale fece chiaramente comprendere che si muoveva per corrispondere alla profonda preoccupazione del Quirinale fu sentito poi il capo della polizia Vicari che confermò come De Lorenzo la possibilità di mantenere l'ordine pubblico in ogni circostanza ma indisparte e sottovoce si permise di dire a Moro lei comunque farebbe meglio a rinunciare all'incarico di formare il nuovo governo Seni fu poi rassicurato da Moro che si dichiarò ben consapevole della delicatezza del momento e tuttavia in grado di affrontare la situazione con la corresponsabilità avvertita dei socialisti ciò fu possibile dopo un incontro tra Moro e Nenni che non fu rozzamente improntato al ricatto del tintinnar di sciabole i due uomini politici che si stimavano profondamente affrontarono con realismo la situazione guardando ai riflessi interni ed internazionali delle loro determinazioni e decisero di continuare la collaborazione convinti che era finita se mai c'era stata l'età delle illusioni e che non con sfide ricatti ma con pazienza e fatica si sarebbero potute tenere insieme le forze politiche a loro volto unite per quanto possibile al loro interno De Lorenzo o di sua iniziativa o prendendo la palla al balzo delle raccomandazioni del Quirinale di fare qualcosa per fronteggiare un'eventuale emergenza dell'ordine pubblico studiò e predispose un piano che avrebbe coinvolto la sola arma dei carabinieri chiamato piano solo che prevedeva tra l'altro il confinamento di centinaia di persone in Sardegna si trattava di un vero progetto di colpo di stato o di una pressione per forzare il corso politico o di una messa in scena unicamente per tranquillizzare segni in ogni caso fu una iniziativa indebita e illegale nella forma e nella sostanza nonorevole Moro comunque per parte sua non ha mai fatto o detto nulla che potesse far pensare che egli avesse creduto si fosse trattato di un golpe Moro vittima potenziale della trama quando alcuni anni dopo si saprà della riunione in casa Morlino e dell'iniziativa di De Lorenzo rivelate dal settimanale Espresso coprirà in sede di commissione di indagine parlamentare con gli omissis le diverse responsabilità per salvaguardare l'immagine del presidente Seni per non metterlo scoperto la fragilità dello Stato e l'infedeltà dei suoi apparati in aspora lotta tra loro per non dare un colpo mortale alla politica di centro-sinistra per non buttare definitivamente a destra il paese come riconosce lo stesso Scalfari che fu vittima degli omissis Moro non fu un personaggio indifferente allo Stato e gli intese tutelarlo col segreto secondo lui indispensabile a garantirne la sicurezza uno sgradevolissimo stato di necessità affrontato da Moro nella convinzione quantomeno soggettiva che non ci fosse un'altra strada per salvaguardare la vita democratica quando prigioniero ne riferì nel cosiddetto memoriale fu invece più esplicito parlando di strumentazione militare propria dell'arma dei carabinieri usata per portare a termine una pesante interferenza politica in un ulteriore passaggio sullo stesso argomento il prigioniero Moro dice esplicitamente che il piano su disposizione del capo dello Stato fu messo a punto dalle sue parti operative con preminente riferimento alla sinistra esso fu poi disdetto dallo stesso Seni una volta che era stato raggiunto l'obiettivo che era politico e non militare va detto che i due testi del memoriale che è come un cristallo spezzato sul quale è estremamente arduo muoversi sono di diversa intonazione nel primo si parla di Seni un uomo di scrupolo ma estremamente ansioso anche per lo stato di salute che di lì a poco sfocerà in una drammatica crisi e si elencano tutte le motivazioni soggettive che spiegano quanto meno il suo comportamento nel secondo testo si parla invece di esplicite disposizioni date dal capo dello stato nel memoriale il prigioniero Moro compie però una esplicita difesa del generale De Lorenzo tanto più significativa per la condizione in cui si trova e per gli interlocutori con cui parla e gli dice che il generale De Lorenzo come persona al di là dell'episodio va ricordato come colui che collaborò in modo attivo come capo del SID Servizio Informazioni Difesa nel 60 con me segretario del partito per far rientrare nei binari della normalità la situazione incandescente creata si con la costituzione del governo Tambroni infatti De Lorenzo in continuo contatto con me mi fornì tutte le intercettazioni utili ed altri elementi informativi che mi permisero di esigere la dimissione del governo Tambroni e promuovere la costituzione del governo Fanfani il primo con l'astenzione socialista più tardi un'analoga considerazione Moro manifesterà per il generale Miceli anche l'indecisivo in altre gravi circostanze cosa se ne può dedurre sul punto se non che un leader democratico che voglia preservare l'integrità della Repubblica e l'incolumità dei cittadini guarda i servizi concreti resi in momenti drammatici della vita dello Stato al di là della opinabilità delle biografie individuali il piano solo anche se fu pubblicamente rivelato solo anni dopo ebbe dunque un'influenza notevole sull'andamento della crisi perché contribuì a depotenziare la politica di centro-sinistra facendo capire a Nenni i grandi rischi che si correvano a non rendersi conto della situazione e a pretendere di attuare subito e per intero il progetto socialista delle grandi riforme fu per questo che davanti al suo partito ne fosse convinto o meno Nelli parlò d'aver udito un tintinar di sciabole l'onorevole Moro ritende che la crisi del 64 andava giudicato al di là dell'episodio di Lorenzo ponendo l'accento sulla manifesta volontà d'orotea di porre fine al centro-sinistra o almeno di ridurne la volontà riformistica si inserisce qui la già ricordata lettera di Colombo resa pubblica quasi contemporaneamente al suo invio all'onorevole Moro il presidente del consiglio che aveva preferito sulle prime ignorarla sapeva benissimo di offrire così il pretesto per la sua pubblicazione quella lettera rientrava nella campagna promossa dall'asse Colombo Carli Seni e da Marjolin della comunità economica europea che lamentavano l'aggravamento della situazione economica e finanziaria a causa delle ambizioni programmatiche socialiste quando scoppiò la crisi di governo una parte dei democristiani con l'ambicamento di altri dentro e fuori la democrazia cristiana pensò che fosse la volta buona per disfarsi di Moro il presidente del consiglio d'altronde era già stato allontanato a gennaio dalla segreteria del partito che ele avrebbe desiderato mantenere fino al congresso in modo da illustrare in quella sede il consuntivo del proprio operato negli anni di segreteria e passare il testimone al nuovo segretario Rumor ma i dorotei si opposero tenacemente due carichi in una sola persona costituivano un tradimento dei principi dell'oligarchia dorotea la quale se aveva dovuto sacrificare nel 59 le proprie aspettative riteneva adesso che era già passato troppo tempo ed era ora che Moro seguisse la trafile abituale dal partito al governo e poi ai margini nel caso di Moro più rapidamente possibile perché quest'uomo si era rivelato ben altro che di pura transizione per di più avendo una sua linea politica coerente tenacemente perseguita in contrasto con gli opportunismi dorotei già l'indomani delle elezioni politiche la strada era apparsa tutta in salita quando Moro incaricato di formare il governo fu sconfessato dal partito socialista che mise in minoranza Nenni e bocciò gli accordi programmatici che erano stati faticosamente concordati la partita fu riaperta a novembre sempre del 63 ma se non fosse intervenuto l'assassinio di Kennedy probabilmente il governo non si sarebbe fatto neppure allora quando giunse la notizia le delegazioni democristiane e socialista che erano in riunione sospesero le trattative e Nenni si congedò da Moro in un atteggiamento di grande costernazione salì alla sede del suo gruppo e subito dopo gli fece pervenire un biglietto con suo scritto sulla busta al centro all'onorevole Moro e in alta a sinistra personale da parte dell'onorevole Nenni nel biglietto intestato camera dei diputati era scritto 22 novembre caro Moro il miglior modo di onerare la memoria di Kennedy è di fare subito il governo non abbiamo più un minuto da perdere tra pochi giorni tutte le forze di destra saranno l'offensiva se le cose non sono fatte tuo cordialmente Nenni il primo governo organico di centro-sinistra con Moro era nato ma pochi mesi dopo nel 64 era già entrato in crisi su un voto concernente il finanziamento alla scuola privata argomento particolarmente delicato e sensibile in sé e nei rapporti della democrazia cristiana con il mondo cattolico come nacque e si svolse e si concluse quella crisi abbiamo già detto il secondo governo fu più lungo ma anch'esso fu battuto sul tema della scuola questa volta si trattava della scuola materna siamo all'inizio del 1966 Moro che ha ricevuto all'inizio della crisi l'unanime investitura del suo partito e quindi l'incarico apprende da Saragat del mutato atteggiamento nei suoi confronti causato dai timori espressi dall'onorevole Piccoli questi avendo assistito proprio in quei giorni al congresso socialdemocratico di Napoli si sentiva minacciato dalle conseguenze della prospettata imminente unificazione socialista e dalle inevitabili pretese di rivalsa politica del nuovo partito dopo anni di subordinazione alla democrazia cristiana Saragat avverte Moro che nella mutata situazione non potrà più essere d'aiuto perché non potrà ignorare la volontà democristiana Moro torna a Palazzo Chigi e fatto più unico che raro ammette contemporaneamente nel suo studio tutti i suoi principali collaboratori di norma ricevuti separatamente viene riferito che l'onorevole Piccoli con la durezza espressiva che gli è solita aveva telefonato per dire non lo vedete anche voi che Moro è ormai un cadavere che ostacola la strada della democrazia cristiana si ama il suo partito se ne vada egli era infatti giudicato troppo vicino ai socialisti ai socialdemocratici troppo arrendevole nei loro confronti nello dire quelle parole per nulla addolcite da chi le riferisce Moro ha un momento di forte e ben comprensibile commozione non resisto alla vista di quelle lacrime nella mia responsabilità di delegato ai rapporti con la stampa senza dire nulla scendo in sala stampa cerco il mio vice il quale accerta che l'ultima edizione del paese sera allora c'erano ed importanti per giunta i quotidiani del pomeriggio è ancora aperta al notista politico con il quale in confidenza racconta per file per sé in ogni cosa di lì a un paio d'ore esce il giornale con la notizia in prima pagina e titolone su tutte le colonne sul crudo ultimatum di piccoli scandalo clamore precisazioni piccoli dice che la telefonata era stata fatta in spirito di amicizia che il consiglio di ritirarsi era rivolto a Moro non solo nell'interesse del partito ma anche del suo stante la reazione negativa dei gruppi parlamentari il segretario della democrazia cristiana rumor nega a Moro il senso di sollecitazione a ritirarsi che era stato colto nella telefonata di piccoli il quale invece pur facendo questione di spirito della telefonata conferma la sostanza della sua comunicazione piccoli inoltre parlando con il suo interlocutore di palazzo chigi e rivendicando ancora una volta lo spirito amichevole accusa i cortigiani della deformazione e della fuga di notizie sulla sua telefonata anche rumor più tardi mi contesta lo scoop su Paese Sera ed altre notizie date su diversi giornali del pomeriggio della capitale a mia volta li cito tre deputati che secondo un informatore parlamentare hanno definito Moro nei corridoi di Montecitorio un antipartito Sarga per parte sua rifiute il monocolore democristiano dal momento che è possibile sulla carta una maggioranza di centro-sinistra e parlando della democrazia cristiana precisa che gli dovranno pur dare una precisa indicazione di quello che vogliono e che comunque dovranno fare una lunga strada il resoconto sia pure sintetico di questo retroscena è interessante perché evidenzia il carattere esplosivo che almeno allora una tempestiva notizia di stampa poteva avere nello spezzare le trame e sconvolgere i giochi la fuga di notizie gettò il panico a piazza del Gesù sede della democrazia cristiana stimolò il desiderio di riprendere contatto con Moro e soprattutto provocò la reazione decisa dalla sinistra di partito dei repubblicani di Lamalfa dei socialdemocratici di Cariglia e dell'Avanti ho parlato di tempestività sarebbe bastato infatti ritardare di 48 ore perché la situazione diventasse insostenibile in quel momento invece le mosse coordinate di Moro e assecondate da Sarg consentono di mettere davanti agli occhi di una DC rimasta isolata l'immagine del vuoto che il ritiro di Moro avrebbe lasciato più grande del previsto e l'identificazione piena del nome di Moro con il centro-sinistra ora che i Dorotei hanno bisogno di lui Moro vuole essere generoso anche se attento si sforza perciò di appianare i rapporti con rumore piccoli la crisi verrà risolta il terzo governo di centro-sinistra organico presieduto da Moro durerà fino alla normale scadenza della legislatura e sarà tra i più lunghi della storia repubblicana era capitato e capiterà altre volte che la democrazia cristiana o parti di essa si rivolgeranno a Moro nel momento della difficoltà e della disperazione e ogni volta Moro farà del suo meglio scampati il pericolo gli volteranno le spalle perché quello che nessuno chi più chi meno a destra al centro e a sinistra del partito può accettare è di rimettersi per sempre nelle sue mani piegarsi definitivamente alla sua superiorità politica e morale una parola su Sargat che con la sua paziente attesa e tempestività e non togliendo mai formalmente l'incarico a Moro lo aveva aiutato a sconfiggere i suoi oppositori interni aveva così restituito il debito di gratitudine contratto al momento della sua elezione a capo dello Stato riferiamo anche di un altro episodio altamente drammatico nel quale si erano trovati sia Sargat ministro degli esteri che Moro presidente del consiglio al Quirinale Segni e Sargat durante una riunione riservata si erano scontrati con una violenza verbale inaudita il capo dello Stato criticando aspramente l'interlocutore in tema di nomine compresa quella del figlio diplomatico questi giungendo ad insinuare comportamenti non leali verso la Repubblica da parte di Segni durante la crisi di governo del 64 sulla quale ci siamo a lungo intrattenuti la reazione dei Segni fu tanto forte da sentirsi così male al punto che non si riprese più anche Sargat più tardi riferendo sull'epidode svenne l'onorevole Moro tornato a Palazzo Chigi che era sera e contro la sua abitudine di riservatezza mi riferì dell'accaduto tanto era lo shock che aveva provato davanti ad una scena che non avrebbe mai immaginato fosse stata possibile in quella sede con quegli interlocutori diventato capo dello Stato Sargat reagì con durezza ad insinuazioni della stampa sul suo incontro con Segni e sulle responsabilità di quest'ultimo nelle vicende del 64 e in una nota ufficiale smentì che gli nutrisse il più piccolo dubbio nei suoi confronti passando ad un argomento ben più leggero ricorderò che Sargat fu involontariamente causa di un mutamento radicale delle abitudini di vita dell'onorevole Moro il quale non aveva mai preso in vita sua l'aereo e non intendeva prenderlo quando era stato la prima volta in Gran Bretagna vera andato in treno via Parigi mettendoci molte ore tra andato e ritorno tanto che fu variamente criticato sembrava non voler sentire ragioni nonostante la provocazione circa il futuro non solo prevedibile ma inevitabile viaggio in America pensa di andarci in nave insinuavano i malevoli accadde che morì a Torino la mamma di Sargat per partecipare in tempo utile ai funerali non c'era altra possibilità che l'aereo e Moro per non commettere un'imperdonabile mancanza di riguardo lo dovette prendere fu un'esperienza sulle prime molto dura poi tutto si svolse in modo accettabile da quella volta Moro girò il mondo intero in aereo diverse volte specie da ministro degli esteri utilizzò l'elicottero e qualsiasi altro mezzo di trasporto risultò necessario o conveniente ma che cosa è successo negli anni dal 63 al 68 di significativo riferibile all'impegno specifico dell'onorevole Moro è stata perseguita la strategia della mediazione tra forze politiche diverse anzi fino a poco tempo prima ostili se non nemiche ma innanzitutto è stato imboccato il difficile percorso della conoscenza e della comprensione e a livello del governo si è posta l'esigenza di apprendere l'arte di individuare e frequentare le strutture del potere e dell'amministrazione i socialisti per limitarsi solo a loro avevano avuto dimestichezza con i governi del CNL e con le prime esperienze governative post belliche le quali erano pur sempre connotate da necessità ed emergenza al di là di quella fase la loro attività istituzionale si era concentrata in Parlamento con i suoi regolamenti e le sue procedure una volta immesse nella maggioranza parlamentare e poi nel governo della nazione dovevano impratichirsi gli strumenti complessi quali solo per fare un esempio la concertazione tra ministeri l'influenza decisiva e si direbbe oggi trasversale dei capi di gabinetto e via numerando strutture apparati burocrazia romana pubblica amministrazione cioè impiegati insegnanti militari servizi segreti e vari altri enti istituzionali in particolare la Banca d'Italia che si sottraevano per quanto possibile ed il più possibile alla dimensione politica impersonata dal presidente del consiglio dai ministri fino ai sottosegretari i vertici degli apparati statali si collegavano tra di loro si opponevano congiuntamente secondo ripartizioni di competenze compiti ruoli che non erano ancora misurate su quelle dei partiti se anche non si vuol parlare di vera e propria massoneria c'era comunque una lunga tradizione una vera e propria cultura alla quale si rifacevano e che perpetuavano i cosiddetti commidità questo spiega ad esempio perché un capo di gabinetto poteva servire più presidente del consiglio o ministri che pure militavano in diverse contrastanti correnti di partite o in partiti diversi i nuovi arrivati dovevano orientarsi e per orientarsi dovevano conoscere acquisire abilità non era più possibile opporsi semplicemente rifiutare in blocco come si poteva fare dall'opposizione questo sistema burocratico che visto dall'esterno dava l'impressione di appesantire e squilibrare la pubblica amministrazione bisognava adentrarsi in quel genepraio con tutta la diffidenza che si poteva nutrire e pur avendo in partenza e accrescendo via via attraverso l'esperienza la consapevolezza della capacità del mondo burocratico di rallentare deviare frenare rovesciare persino gli indirizzi auspicati quel mondo era abituato a dire sì e magari a tergiversare l'attesa della possibile probabile auspicata crisi di governo il famoso detto ingresso nella stanza dei bottoni che nel linguaggio giornalistico sembrava produrre notevole effetto retorico in realtà non rendeva affatto l'idea della realtà perché supponeva una stanza e una bottoniera una stanza misteriosa e una bottoniera complicata in quella metafora si ipotizzava difficile entrare nella stanza ma la volta avarcata la soglia si poteva finalmente premere una pulsantiera in realtà spesso la stanza era tutt'altro che segreta ma aperta ad un caotico addirivieni e la bottoniera o non c'era o suonava a vuoto perché il tutto passava per altre vie attraverso altre maniere di procedere la macchina burocratica comprese con la solicitudine di chi è abituato a percepire il minimo fruscio che ora con l'avvento dei socialisti del governo non c'era più un solo referente politico sia pure frammentato nelle sue correnti ma sempre legato alla fine ad una indiscussa unità i riferimenti politici erano diventati due dentro la stessa stanza di regia parliamo dei due riferimenti principali i due poli di attrazione il democristiano da sempre ed ora anche quello socialista esempio classico fu il mondo dei servizi segreti che fino a quel punto non aveva avuto altro interlocutore che la democrazia cristiana anche se una certa democrazia cristiana piuttosto che un'altra entrati i socialisti esso subito si divise e si contrappose cercando un'alternativa nel nuovo arrivato e mentre prima si trattava di controllare che nella democrazia cristiana si perpetuassero certi equilibri che mai un democristiano troppo di sinistra potesse andare che so alla difesa o all'interno adesso invece bisognava sfruttare le vie di fuga che si aprivano scegliere altri nomi del nuovo potere con il quale giocare il grandissimo azzardo dello slalom permanente tra l'uno e l'altro per fare carriera per impedire che altri facessero carriera per assecondare una strategia o combattere la strategia opposta per stabilire contatti anche internazionali alla luce di prospettive diverse quale ad esempio una filo israeliana piuttosto che una filo araba lo stesso avvenne nell'ambito delle forze armate e dei servizi di polizia ripeto per far carriera per passare di grado per impedire all'altro di crescere il proprio danno ora c'erano due distinti se non contrapposti punti di riferimento e di ricorso e altrettanto avvenne negli altri settori banchi d'Italia comprese incontrandosi due spinte quella di coloro che cercavano nuovi protettori nuove e fino ad allora impossibili alternative e quella dei nuovi arrivati che non ci misero molto a capire che ci voleva l'uomo giusto al posto giusto e che bisognava trovarlo all'interno perché ancora non si era arrivati alla spregiudicatezza di imporre i propri dall'esterno di occupare a man bassa ogni territorio usurpando ogni potere appropriandosi di qualsiasi bottino come sarebbe avvenuto negli anni successivi i socialisti manifestarono una fretta e concitazione quale non era stata dei democristiani più prudenti forse anche perché avevano avuto a disposizione più tempo nell'opera di penetrazione quando alla fine della sua esperienza di governo 1963-1968 Moro fu accusato di inerzia specialmente nel campo delle riforme e li confiudò ai suoi amici che in quegli anni di governo aveva compiuto un'impresa fondamentale quella di inserire il partito socialista nella realtà della vita e della struttura dello Stato e non solo nel senso di avere loro offerto una chiave di lettura di comprensione e uno strumento di gestione dell'apparato ma l'altra è ben più difficile di far accettare a forze all'origine antistatuali la via della legalità anche formale nell'esercizio del potere certo i socialisti dopo una fase non breve di comprensione di doveri propri di chi sta dall'altra parte del tavolo quando si accorsero che per incrementare il soffraggio elettorale non bastavano le idee i programmi le prospettive strategiche le quali si rendevano rendevano nei vari appuntamenti elettorali scarne percentuali scelsero la via breve e risolutiva nel pretendere propri nomi ovunque negli apparati dello Stato nelle partecipazioni statali negli enti pubblici in generale nella costituzione di clientele agguerrite non si può certo dire che se il risponso elettorale fosse stato nel tempo più gratificante essi non avrebbero provato la tentazione delle scorciatoie ma indubbiamente l'avarizza degli elettori nei loro confronti li sollecitò a costruire quel sistema di partito suddiviso in correnti ferocemente in guerra tra loro che rendeva la vita politica particolarmente amara per i suoi attori e particolarmente costosa per i cittadini contribuenti ma questo è venuto dopo molto tempo dopo si consolidava così il noviziato socialista di cui il gran merito Moro riconosceva all'onorevole Nennia a sua volta l'onorevole Moro proseguiva nella sua azione di sensibilizzazione democratica prestando la massima attenzione ai vari corpi dello Stato in particolare delle forze armate esercito marina aviazione guardia della finanza e dedicò ad esse gesti di particolare partecipazione con visita alle scuole di formazione con presenza alle ricorrenze più significative ed ogni volta pronunciò discorsi che non disdegnavano talvolta l'enfasi retorica così insolita se non addirittura assente dei suoi discorsi politici la sua attenzione fu altresì costante verso gli enti che svolgevano i cosiddetti servizi segreti per assicurarne la fedeltà alle ragioni dello Stato per impedire la loro strumentalizzazione politica per evitare che diventassero parti staccate e talvolta impazzite del sistema parte deviate e devianti in quegli anni i capi dello Stato presidenze Gronchi Segni Sargat subivano molto l'influenza dei servizi o perché ne temessero le deviazioni Sargat o perché prendessero sul serio o troppo sul serio le informazioni Segni o perché se ne avalessero per favorire le proprie strategie politiche Gronchi questo è un capitolo difficile oscuro nel secale di comprendere il quale va però considerato anche l'interferenza sistematica esercitata dal potere politico non sempre al servizio dello Stato e del bene comune in quel quinquennio l'onorevole Moro compie anche alcune visite memorabili nel nord Italia recandoci in comuni dove non era mai stato dall'unità d'Italia un presidente del consiglio come in Valtellina o nelle città e province di grande tradizione culturale religiosa economica e sociale come Bergamo e Brescia cito a memoria queste località erano incontri con migliaia di persone assiepate ai lati delle strade lungo tutto il percorso prescelto nelle piazze dove si teneva il discorso erano davvero inebrianti bagni di folla che celebravano un sentire comune la gioia di stare insieme di onorare una persona o una istituzione o tutti due insieme forse le avrà ricordate quelle ore felici nel buio straziante del carcere e anche qualcuno o molti dei presenti a quelle manifestazioni avrà pensato a quelle ore mentre lo zannato e il glorificato di un tempo languiva sole e dimenticato nel quinquennio nonostante tutto la situazione economica migliora e la democrazia cristiana nelle elezioni del 68 recupera buona parte delle perdite del 63 prima di proseguire nel resoconto dell'attività politica svolta dall'onorevole Moro nel decennio che si concluderà col suo rapimento e la sua uccisione conviene tentare se non una compiuta valutazione almeno un profilo della sua esperienza dal 63 al 68 quale presidente del consiglio dei tre governi di centro-sinistra se ci si mette dal punto di vista dei socialisti è comprensibile e anche in buona parte legittimo dolersi dei risultati insoddisfacenti in tema di riforme della lentezza del sistema politico nel suo complesso ad avvertire comprendere e adeguare se stesso a quelle che per brevità possiamo chiamare le esigenze dei tempi se il punto di osservazione è quello democratico cristiano e in particolare quello del suo gruppo maggioritario Doroteo non appaiono ingiustificate alcune preoccupazioni sullo stato economico del paese ben lungi dai fulgori della felice stagione del cosiddetto miracolo economico se poi si parte dalle componenti più a sinistra sia dell'uno che dell'altro partito le insoddisfazioni diventano profonde delusioni è evidente che ognuno giudica in base ai propri ideali principi e persino miti ma soprattutto tenendo conto del proprio elettorato delle sue esigenze delle sue attese dei suoi pregiudizi nel partito in quegli anni luogo privilegiato di incontro e di mediazione tra iscritto militante simpatizzante e dirigenti si stabilisce un rapporto che in teoria dovrebbe essere di orientamento delucidazione educazione che di fatto è spesso di assecondamento allo scopo di non perdere il consenso in un sistema costruito sui partiti alla fine è appunto il consenso quello che conta se ce l'hai puoi entrare nelle maggioranze nei governi nelle strutture pubbliche o parapubbliche sulle quali è influente se non decisivo il numero dei voti ed il loro peso politico i socialisti erano impazienti avevano bisogno di risultati per giustificare il loro spostamento dall'area dell'opposizione a quella del governo per dissipare l'impressione di essere stati giocati dalla vecchia volpe democristiana per avvicinare il sogno dei tanti loro aderenti in un domani sul quale finalmente potesse splendere il sole dell'avvenire i democristiani a loro volta temevano la reazione del loro elettorato più conservatore che si era espresso contro la nazionalizzazione dell'energia elettrica e che ora rifiutava la legge sul suolo proposta dal ministro Zullo che appariva come la distruzione del principio sacro della proprietà privata incarnato innanzitutto nella libera e piena disponibilità del terreno e della casa sul quale essa era edificata non è tutto qui naturalmente il complicato ed difficile quadro politico nel quale Moro doveva muoversi non è tutto qui ma esso era per non poca parte intriso di questi umori psicologici che producevano immediati riverberi politici l'onorevole Fanfani aveva tentato di imprimere velocità ritmo e forse anche qualche audacia nella concreta azione di governo per esempio all'indomani delle elezioni del 58 ma si era trovato impallinato dai franchi tiratori del suo partito egli era certo più intraprendente e dinamico dell'onorevole Moro cui non era riuscito di dare il meglio di sé nei già ricordati incarichi di governo come ministro della pubblica istruzione e della giustizia era stato assente a lungo per motivi di salute portava inoltre nel disbrigo delle pratiche un'attenzione minuziosa pari al suo scrupolo purtroppo i dossier si accumulavano in attesa del loro esame ma come ha osservato lo storico Pietro Scoppola la spiegazione caratteriale della minore incisività dei governi Moro è in ogni caso riduttiva ed elusiva spiega Scoppola nessuna incisiva e coerente azione di governo è possibile quando i partiti sono i soli veri soggetti politici perché le istituzioni non hanno rilievo autonomo quando le coalizioni necessarie risentono di tutte le contraddizioni e le tensioni interne ai singoli partiti che le compongono non si cita qui il sistema politico italiano come una giustificazione o peggio un alibi per l'onorevole Moro e le sue supposte inerzie per la verità il paese era stato preso per mano dai partiti partiti di massa i quali avevano sostenuto il peso di gestire una situazione nella quale lo stato non esisteva più per ragioni storiche e politiche ben note nella quale tra distruzioni miseria istinti alla ribellione alla rivolta alla rivoluzione e per contro alla restaurazione prefascista tutto poteva finire nel caos e nello scontro civile e sociale come era avvenuto negli anni venti non c'era lo stato e non c'era il senso dello stato non c'erano le istituzioni né quelle vecchie di chi guardava il passato né le nuove di chi sognava rivolgimenti profondi di forma oltre che di sostanza si deve ai partiti la capacità di unirsi nello sforzo di dare al paese una nuova costituzione frutto di una mediazione non tanto di punti di vista ma di mondi diversi e persino opposti quello sforzo quasi sovrumano ovviamente in termini culturali sociali economici e politici rappresentò il massimo della possibilità e capacità dei partiti di parlare tra loro dialogare accettarsi reciprocamente al punto che il sistema non crollò neppure con l'attentato all'onorevole Togliatti che giungendo poco dopo la durissima sconfitta del fronte popolare socialcomunista neppure del tutto prevista e scontata del 18 aprile poteva innescare se non fosse stata contenuta dall'impegno congiunto dell'opposizione della maggioranza in una catastrofe nazionale poi l'incantesimo si ruppe lo spirito di reciproco rispetto di legittimazione condivisa il senso di adempere ad un impegno di rilevanza storica propri dei mesi della costituente si spensano nelle gelide contrade della guerra fredda della contrapposizione tra i blocchi della sfida di civiltà la realtà non era quella di Peppone e Don Camillo la base comunista e quella democristiana ci confrontavano nella vita quotidiana dei paesi e paesini con estrema durezza quando venne avviata la politica di centro-sinistra la situazione era notevolmente cambiata e in meglio ma è ben comprensibile che per l'onorevole Moro la questione prioritaria fosse di accostare tra loro e poi di mettere insieme forze politiche e masse popolari da loro rappresentate lungamente ostili e contrapposte un processo difficile sul quale ci siamo già soffermati che non fu il risultato di un atto di buona volontà compiuto una volta per tutte ma di una costruzione paziente basterebbe pensare a quanto tempo è durato il più limitato processo di riunificazione socialista e per quanto poco tempo è rimasto in piedi per comprendere la sua complessità si tratta infatti di complicate operazioni destinate a modificare nel profondo l'insieme dei rapporti e delle alleanze dei partiti certo lo stare insieme non si esaurisce in sé esso serve per fare qualche cosa ed importante ed decisivo stare insieme non basta ma il risultato dell'impegno comune è direttamente proporzionale alla qualità strategica e non meramente tattica del rapporto che si è instaurato insomma è la volontà politica di unirsi che rende possibile il programma e non viceversa la critica sulla mancanza di un rilievo autonomo delle istituzioni sottoposte alla pressione del potere politico formulato dallo storico Scoppola è fondamentale per valutare quale sia stata l'evoluzione del sistema politico italiano e tuttavia il tentativo compiuto nel 60 da Tambroni di tenere in piedi l'esecutivo contro le indicazioni del proprio partito considerato da taluno ne abbiamo già parlato come il primo esperimento di lotta alla partitocrazia non sembra si possa citare positivamente perché al di là dell'ostentazione di indipendenza esso era giocato in realtà tutto all'interno del recinto partitico e per di più poneva in risalto l'uso eccessivo e sostanzialmente distorto dei propri poteri da parte della massima istituzione repubblicana esempio perciò non già dell'autonomia della istituzione ma dell'uso politicizzato di essa a questo punto occorre riferirsi agli altri condizionamenti che hanno notevolmente influito sulle vicende politiche italiane ritardandone di molti mesi gli sviluppi la chiesa per un verso e la situazione internazionale più esattamente gli usa per un altro l'onorevole moro era entrato in politica sollecitato e sostenuto come abbiamo visto dal suo vescovo e dalle sue parrocchie era stato uno stimato e anzi altamente considerato presidente della fuci e successivamente dei laureati cattolici aveva poi testimoniato ad un tempo la sua profonda radice cristiana e la sua autonomia sul piano politico durante i lavori della costituente tanto che l'onorevole Iotti che ne era stata anche la partecipe lo aveva definito il più laico tra lui cioè Moro Lapira e Dossetti ebbene è questo Moro che trova sulla sua strada la ferma intransigenza delle gerarchie cattoliche e se si oppongono all'inizio ad ogni eventualità fosse anche solo quella di una semplice disponibilità del dialogo verso i socialisti a maggior ragione rifiutano l'ipotesi della cosiddetta apertura sinistra contrastando poi passo per passo ogni movimento fino alle caute sperimentazioni a livello amministrativo alla astensione in sede parlamentare e quindi all'ingresso dei socialisti nella maggioranza e infine nel governo l'atteggiamento è rigido non solo verso la prospettiva in discussione ma anche verso la persona stessa dell'onorevole Mora e anche quando le maglie si allenteranno con l'avvento di Papa Giovanni XXIII la polemica non si placherà non è il caso qui di riandare all'immediato dopo guerra alle diffidenze verso la democrazia cristiana come tale alle tentazioni di costruire un vero e proprio partito cattolico ufficialmente dipendente dalle autorità crisiastiche ha le critiche persino verso la politica centrista e verso De Gasperi un buon cristiano che però aveva avuto il torto di non essersi mai rivolto a Pio XII per chiedere un consiglio come disse lo stesso Papa quando fu informato dalla sua morte e non è il caso nemmeno di riandare al tentativo avversato e impedito da De Gasperi di imporre per le elezioni amministrative di Roma nel 52 un listone di destra capeggiato da non sturzo e organizzato da Gedda cose ormai approfondite per gli studi che sono stati compiuti sull'argomento per quanto riguarda Moro l'oppositore più intransigente anche sul piano personale è stato il cardinale di Genova Siri responsabile della conferenza episcopale italiana che egli pretendeva fosse riconosciuta come l'unico arbitro nei rapporti chiesa e politica quando l'onorevole Moro cercò di aggirare l'ostacolo rivolgendosi direttamente tramite opportuni intermediari al Papa il cardinale Siri si irritò profondamente e si rivolse all'arciabescovo di Bari Monsignor Nicodemo perché richiamasse all'ordine il trasgressore in realtà le apprezzioni di Siri nei confronti di Moro datano dal momento stesso della sua elezione alla segreteria del partito del 59 per il parlato Moro sembra incarnare quel cedimento alle sinistre che si sarebbe poi realizzato con il governo Fanfani del 60 quello delle convergenze democratiche con la stensione socialista in sostanza si ritiene all'unità politica dei cattolici perché è l'unico strumento utile per la difesa della chiesa dal comunismo ma questa unità deve essere chiusa a sinistra e pare non preoccupare anzi tutt'altro se guarda con simpatia ed è disponibile verso la destra nella polemica entra l'ipotesi di ponire la democrazia cristiana qualora trasgredisca le direttive ecclesiastiche con la costituzione di un secondo partito decisamente cattolico e di destra oppure con la costituzione di liste indipendenti in concorrenza con quelle democristiane Siri da quel che emerge dal più recente studio su di lui di Dick la Buonasorte fondato su una vasta e ricca documentazione appare persona decisa determinata passionale ma molto attenta a non commettere passi falsi per avere un quadro tutto tondo di Siri va tenuto conto anche del Papa non eletto di Benilai che si avvale di conversazioni dirette con il Cardinale in anni successivi agli eventi raccontati per limitarci ad alcune annotazioni notiamo che quello che irrita il Cardinale Siri è lo slalom di Moro tra la CEI e la Santa Sede e soprattutto la tesi che da una parte la Segreteria di Stato Vaticana ci sia comprensione e disponibilità dall'altra cioè Siri alla CEI ci sia solo rifiuto sul piano umano fa andare fuori dai ganghi di Siri il comportamento di Moro è irraggiungibile pretendi di mettere tutti davanti a fatti compiuti senza un preventivo opportuno contatto manifesta una testardagine tenacissima e sfuggente al punto di desiderargli di dargli un pugno dirà Siri al giornalista ben di lei mi trattenni perché le mie mani erano consacrate fortuna che non mi venne in mente che i miei piedi non erano consacrati da notare che Siri sta parlando nel 1985 di un morto ammazzato Moro per il vero nel suo procedere sa di avere il consenso della Segreteria di Stato cosa che invece Siri caparbiamente esclude una piccola paretisi secondo lo storico Scopola alle resistenze della gerarchia ecclesiastica non sembra che Moro abbia risposto con un'azione diretta sui vertici vaticani e gli si affida piuttosto alla lezione dei fatti che dimostrano la ineluttabilità del processo è certamente questa l'intima convinzione di Moro ciò non di meno quale segretario della democrazia cristiana stabilì contatti al più alto livello tra l'altro con documentazioni promemorie aggiornamenti periodici che venivano predisposti dai suoi più stretti collaboratori e rivisti personalmente da lui prima dell'inoltro in Vaticano ne va dimenticato il sondaggio iniziativa se non del tutto originale di sicuro inusuale direttamente presso i vescovi italiani con la consegna di un documento da parte dei più fidati da autorevoli esponenti in loco della democrazia cristiana ne ha scritto in modo circostanziato e da un oriente a Angusto D'Angelo nel suo Moro i vescovi e l'apertura sinistra nella scorsa trasmissione parlavamo dei rapporti tra il cardinale Siri e l'onorevole Moro nel periodo che ha preceduto la formazione della politica di centro-sinistra e ci siamo riferiti a dei testi che sono stati scritti di recente e anche meno di recente da due autori importanti su questo argomento che sono appunto quello che ha scritto la buona sorte per il mulino e Benilai per la terza sia la buona sorte che Benilai mettono bene in luce queste due figure di oppositori Siri che fino all'ultimo combatte la sua durissima battaglia di interdizione e l'onorevole Moro deciso a procedere in avanti sulla strada del dialogo e dell'intesa con i socialisti ritenuto necessario insostituibile nella situazione storica e politica data i rapporti tra i due conosceranno momenti più distesi incontri più tolleranti tregue ma al fondo rimane la durezza dello scontro come conferma la frase che abbiamo citata del commento di Siri alla notizia del rapimento di Moro ha avuto quel che si meritava Moro era stato coraggioso e prudente nella circostanza non si era comportato da inerte come i malevoli per giunti interessati sostenevano fosse il suo temperamento aveva lavorato con intensità dedicando tempo e tempo alla costruzione di un mosaico nel quale ogni tassello trovasse la sua giustificazione ed il suo posto si era spiegato con un esempio su che cosa intendeva dire rivendicando l'autonomia del politico ma non c'era arroganza e presunzione c'era la fermezza indispensabile ad assicurare all'Italia quella prospettiva politica che gli considerava l'unica garanzia per la sua vita democratica consapevole che si aveva a che fare con una democrazia fragile incompiuta a suo modo speciale non gli sfuggiva allora e non gli sarebbe sfuggito poi che i condizionamenti ecrisastici e per un altro verso americani erano dati che esistevano che non si potevano ignorare o sottovalutare che in qualche misura e talvolta in notevole misura avevano riflessi sulla sovranità nazionale bisognava tenere conto con la dignità di soggetti e non di oggetti politici ma essi non potevano impedire o paralizzare l'autonoma decisione di chi aveva il compito e dunque il dovere di governare il paese le riflessioni di Moro sui rapporti tra religione e politica vengono enunciate già nel discorso di commemorazione di Luigi Sturzo nel settembre del 59 quando parla dell'azione dei cattolici nello Stato svolta in piena autonomia e sotto la propria responsabilità quale omaggio reso allo Stato e inserimento in esso mediante l'accettazione del suo valore quando ribadisce che l'autonomia dell'azione dei cattolici è segno e presupposto dell'autonomia dello Stato nel proprio ordine autonomia che implica un valore proprio dello Stato e la permanente garanzia della vita democratica nel suo significato di incessante ricerca di confronto di libertà l'azione dei cattolici nella costante ispirazione agli ideali cristiani è un contributo originale di pensieri e di valori morali un'efficace difesa della propria intuizione del mondo ma non è una opportunistica appropriazione dello Stato perché snaturato e deformato serva ad altro è però a Napoli al congresso nazionale della democrazia cristiana nel gennaio del 62 che l'onorevole Moro aprendo alla prospettiva dell'incontro con i socialisti pronuncia un discorso di oltre sette ore diviso tra mattina e pomeriggio anche per un principio di svenimento dovuto alla stanchezza nel quale definisce una volta per tutte la sua posizione la democrazia cristiana ha alla sua origine come elemento di qualificazione il richiamo alla concezione cristiana della vita ed il costante riferimento ai valori religiosi spirituali e morali che appunto in essa sono affermati non si tratta tuttavia di una mera constatazione storica riferita appunto al passato ma di un giudizio concernente il presente in quanto la democrazia cristiana pone a base dalla propria azione la visione cristiana dell'uomo e della società moro anzi individuando nella salvaguardia della dignità e dei diritti della persona umana l'obiettivo di una forza politica che opera in una democrazia moderna ribadisce che la democrazia cristiana non potrebbe attingere meglio ispirazione e guida se non nell'ambito di una dottrina e di un'esperienza che come quella cristiana dà alla persona una posizione dominante e ne fa il principio e la fine di ogni processo storico e non si tratta solo della persona umana bensì anche dei diritti di libertà dei doveri di solidarietà sociale i quali trovano conferma nell'esperienza storica del cristianesimo al punto che la democrazia cristiana afferma la piena idoneità della dottrina sociale cristiana a risolvere nella sua interna coerenza ed armonia i problemi della società democratica la democrazia cristiana non abbandona i suoi principi ed ideali non li integra né tenta di conciliarli con altri perché ciò è sul terreno dei principi impossibile necessità ed opportunità politica possono imporre o consigliare l'incontro tra forze ispirate a diversi principi ma allora ci conviene su alcune cose da fare su alcuni obiettivi da perseguire nell'interesse della comunità e proseguiamo nel racconto dei punti principali del discorso di mora a Napoli al congresso della democrazia cristiana nel gennaio del 62 i valori morali e religiosi vengono tradotti nella realtà sociale e politica nella vita democratica cioè accettando che la loro affermazione passi non secondo l'assolutezza propria di questi valori ma nella lotta nel dibattito nelle gradualità ed incertezze proprie della vita democratica ecco il salto qualitativo che dati della coscienza morale e religiosa sono costretti a fare quando essi passano ad esprimersi sul terreno del contingente quando essi sono affidati ad una difesa sì efficace come quella di un grande partito ma con gli strumenti e i modi propri della lotta politica ci sono poi applicazioni o specificazioni di quei valori ci sono scelte concrete di ordine politico che nessun cristiano si indurrebbe a ritenere del tutto estrane ai supremi valori della vita morale e religiosa ma esse obbediscono tuttavia alla legge di opportunità di relatività di prudenza che caratterizza la vita politica che soprattutto risentono della necessità del confronto si affermano nella misura in cui riescono a conquistare il maggior numero di consensi esse si presentano su un terreno comune con altre ideologie il quale non può essere quello proprio delle idealità cristiane e con un preciso e rigoroso criterio di verità questo dice quanto sia difficile e tormentata la nostra azione sul terreno democratico e quali limiti si trovino sul terreno dei cattolici impegnati nella vita politica riservo equilibrio misura sono necessari per il difficile processo di attuazione della idea cristiana nella vita sociale per non impegnare in una vicenda difficile e rischiosa l'autorità spirituale della chiesa c'è l'autonomia dei cattolici che operano nella vita politica essi vivono il libero confronto della vita democratica in un contatto senza discriminazione l'autonomia è la nostra assunzione di responsabilità è il nostro correre da soli il nostro rischio è il nostro modo personale di rendere un servizio e di dare se possibile testimonianza ai valori cristiani nella vita sociale una responsabilità morale e politica l'attempimento di un dovere costituzionale il quale essendo sancita l'autonomia nel proprio ordine della comunità politica riconduce in questo ambito i diritti e i doveri relativi alla concreta attuazione di essa l'esercizio di questi diritti e l'adempimento di questi doveri non vuol dire assenza di valutazioni morali e religiose o neutralità ideologica questa è ad un tempo una definizione rigorosa e particolarmente impegnativa per chi la pronuncia ed una risposta definitiva data al mondo ecclesiastico la democrazia cristiana si è assunta il compito di far valere nella società italiana le esigenze vive della coscienza cristiana del paese in base a tre criteri la forza di convinzione il libero confronto democratico il rifiuto di inammissibili prepotenze una linea che aiuta ad abbattere gli storici steccati tra democrazia laica e democrazia di ispirazione cristiana rifiutando però la scorciatoia dell'acquiescenza a posizioni altrui o come abbiamo appena detto della neutralità ideologica e questo perché secondo Moro la politica non può ridursi per opportunismo o convenienza a mero esercizio del potere a esclusiva amministrazione della cosa pubblica a tecnica del comando e della gestione occorre tenere aperta una significativa prospettiva di integrazione umana puntare su valori che hanno ad un tempo una dimensione politica ed un respiro morale e che possono accumulare laici cristiani quali la permanente libertà politica la presenza di ogni uomo nella vita sociale nel pieno possesso dei naturali poteri di decisione la democrazia come unico modo di conquista e mantenimento del potere certo il grado della condivisione sarà più o meno intenso a seconda della sensibilità della cultura della collocazione storico-politica e della concezione del mondo e della vita l'esposizione del pensiero di Moro svoltasi in qui sembrerebbe ineccepibile e poter costituire per tutti un patrimonio indisponibile al mutare dei venti e invece le cose cambiano se l'adesione alla democrazia non è definitiva e permanente se essa è subordinata alla convenienza politica se il dialogo è gravato o del tutto compromesso da pregiudiziali integriste o integraliste o fondamentaliste si direbbe oggi se la prepotenza si atta ad esempio combattendo il comunismo con il fascismo se l'autonomia della politica è negata ipotizzando indebite dipendenze gerarchiche in queste posizioni non è in questione la differenza che purtroppo non sorprende tra quello che si predica e quello che si pratica qui è proprio la predica cioè il punto di partenza che è diverso e anche radicalmente diverso è però almeno chiaro che l'atteggiamento di Moro la responsabilità che li si assume non sono frutto dell'azzardo del capriccio della superficialità di una inaccettabile alterigia ma il risultato è la conseguenza di un profondo maturato coerente convincimento le limitazioni non provennero solo dal fronte crisiastico ma dicevamo anche dagli Stati Uniti nell'epoca centrista l'Italia era considerata l'alleato più disciplinato al quale non era consentita nessuna deviazione dall'ortodossia atlantica si distinse allora l'ambasciatrice Luce che fece balenare l'interruzione degli aiuti finanziari se nel 1953 non avessero vinto i partiti di centro furono minacciati gli industriali di perdere le commesse americane se non avessero svolto un'intensa azione anti-operaia l'ambasciatrice Luce cercò di ostacolare l'elezione di Gronchia presidente della Repubblica e condusse una lotta estrema contro il presidente dell'Eni Mattei nel corso degli anni però la situazione migliora dai veti dell'amministrazione Eisenhower si passa al sostegno di Kennedy anche se permangono divergenze di vedute tra lui il dipartimento di Stato e l'ambasciata statunitense a Roma il centro-sinistro non viene ostacolato anzi favorito non si ritiene un utile antidoto alla politica di De Gaulle in Europa nella direzione dell'appoggio più o meno esplicito fu considerata la tappa in Italia nel corso di un viaggio europeo di Kennedy nel luglio del 63 quella che secondo gli osservatori si accetta è una versione moderata del cauto esperimento di centro-sinistra Kennedy si incontra con Nenni ai margini della cena ufficiale e gli dice che secondo lui gli italiani hanno un importante ruolo da affrontare nel complesso la situazione internazionale appare favorevole al centro-sinistra ben altra e ben più drammatica essa sarà invece anni dopo quando entrerà in gioco il tema del rapporto diretto con i comunisti giungiamo così alle elezioni politiche del 1968 il cui risultato favorevole alla democrazia cristiana Mora ha contribuito a realizzare con una intensa partecipazione alla campagna elettorale essendo in buona sostanza l'unico democristiano che ha lealmente sostenuto la politica di centro-sinistra le cose sono andate invece male per i socialisti che si erano da poco ludificati ed avevano sperato in un successo i risultati del tutto negativi li deludono profondamente e ovviamente le fanno carica Moro alla sua politica che ha finito secondo loro per favorire la democrazia cristiana i due segretari che reggono insieme il partito socialista unificato Tanassi e De Martino non vogliono più Moro quale presidente del consiglio così i dorotedi approfittano dopo un governo balneare di decantazione politica nasce alla fine dell'anno il governo Rumoro ancora di centro-sinistra Moro non entra come ministro e li rimane dunque solo abbandonato com'è da socialisti e democristiani gli uni disconoscendo i suoi meriti come propugnatore del centro-sinistra gli altri dimenticando ciò che aveva fatto e ottenuto per il suo partito e per il paese qualcuno lo considera più che sconfitto addirittura bruciato durante l'estate nel suo ufficio in via Savoia egli aveva cercato di riannodare qualche filo ma con un sentimento di amarezza fino alla commozione dirà ai suoi collaboratori di aver visto le molte schede di coloro che si allontanavano e nessun volto di chi si avvicinava a cominciare da Taviani il quale partito in armi contro i Dorotei per spingere la DC a sinistra finisce con l'offrire il proprio sostegno alle posizioni più moderate anche Cossiga gli dice di essere già impegnato a seguire Taviani si riaccosterà anni dopo dando solennità all'evento di un incontro appattata in Sardegna memorabile per la fulminia discesa dal colle alla ricerca quasi poveriggio di un ristorante per i fans affamati dall'agosto del 69 e fino al novembre del 74 Moro assume nei governi di Rumor e di Colombo saltando naturalmente quello di Andreotti con i liberali la funzione di ministro degli esteri nel 70 gli viene affidato l'incarico di formare il governo le consultazioni essendo disagevole la frenesina si svolsero nella sala gialla di Montecitorio gravi ostacoli gli vennero frapposti sul tema del divorzio dalla democrazia cristiana in particolare dal segretario Forlani che volendo silurarlo negò la sua autorizzazione a proseguire nella mediazione sulla spinosa questione che invece poi concederà a Fanfani si verificò inoltre l'ostilità di Sadak tra i suoi confronti per essersi Moro spostato troppo a sinistra dal congresso democristiano ma credo soprattutto per i contrasti tra loro sulle vicende concernenti i servizi segreti questa ostilità si manifestò nell'obbligarlo a riferirgli anzitempo Moro fu così costretto ad esistere e a rinunciare all'incarico appena nove giorni dopo averlo ricevuto ma c'era in Moro un dispiacere più segreto che al di là del Tevere non fosse giunto quel segnale e dunque quella comprensione che sarebbe poi stata invece concessa ad altri se c'era bisogno di un ulteriore conferma della sua solitudine l'onorevole Moro l'aveva ricevuto su tutti i fronti Quirinali Democrazia Cristiana Vaticano ma questa volta non lo dimenticherà e marcherà la propria distanza mantenendosi in disparte nei giorni del referendum sul divorzio ma che cosa ne pensassi di questo inutile perché già persi in partenza a prova di forza non era un mistero per nessuno il momento dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica nel 71 è per l'ennesima volta dimostrazione dell'opposizione democristiana a Moro e però contemporaneamente della sua lealtà verso il partito e della coerenza con se stesso la sua storia il suo pensiero la sua politica dopo il ritiro della candidatura di Fanfani Dorotei Fanfagnani una parte della sinistra di base preferiscono Leone il quale aveva sopravanzato di poco l'onorevole Moro in una votazione interna ai gruppi democristiana Leone viene quindi a letto con il concorso di almeno una parte di voti missini Moro non fa nulla per avvantaggiarsi anche quando avrebbe potuto prendere atto dell'atteggiamento della democrazia cristiana che osava il suo nome come sfauracchio per costringere repubblicani socialdemocratici liberali a seguirla e dichiararsi disponibile ad accettare il sostegno possibile della sinistra non vuole essere e non lo sarà mai uno che possa essere accusato di tradimento per amore del potere l'anno dopo nel 72 Moro assume una posizione di rifiuto nei confronti del governo Andreotti che recupera i liberali e caccia i socialisti all'opposizione lascia perciò il ministero degli esteri nel 74 Moro torna presidente del consiglio ma noi dobbiamo tornare indietro al 68 quando proclama la propria autonomia nell'ambito del partito e poi decide il passaggio all'opposizione interna nel novembre del 68 mentre annuncia la sua autonomia dalla maggioranza Moro individua il rischio nuovo per la democrazia cristiana di ridursi a un partito senza animazione ideale senza esperienza storica tutto preso da un confuso empirismo Moro è contro la politica delle cose nella quale si smarriscono le linee di fondo teme la mancanza di una fisionomia distinta di un'autonomia indistruttibile di una ferma volontà politica le vicende del partito spingono Moro dall'autonomia all'opposizione e all'invito pressante ad aprire finalmente le finestre di questo castello nel quale siamo arroccati per fargli entrare il vento che soffia nella vita intorno a noi e torna il rifiuto di una soluzione tecnocratica e razionalizzante in termini di efficienza di una soluzione che sarebbe neutra fuori dal dibattito politico quale intuizione della storia e fermento vitale di una società democratica questa del pragmatismo e dell'empirismo è la nuova forma che prende la più aggiornata concezione di destra dentro fuori della democrazia cristiana se ne erano già intraviste le tracce al convegno di sorrento il puramente tecnocratico la subordinazione tecnicistica vanno superati dal quadro politico dalla volontà politica recuperando le ideologie non come archetipo ma come momento di elaborazione culturale alla luce di un'ispirazione ideale di un'indagine critica sul profondo travaglio del nostro tempo ma negli anni settanta la destra non è più fuori non ambisce più la democrazia cristiana ma è dentro impersonata dallo stesso segretario politico che mira a superare la politica di centro-sinistra con una politica di centro-destra del partito e nella politica italiana in un discorso che sarebbe dovuto rimanere riservato e il cui reso conto appare invece sul periodico comunista via nuove l'11 agosto 1971 denuncia agli amici di Correnti il primo sintomo dopo 25 anni della possibilità che possa aprirsi in Italia la prospettiva di una dissoluzione della democrazia cristiana e di una involuzione forse della fine del regime democratico voluto dalla nostra Costituzione c'è una destra tracotante che è senza dubbio più potente di quella che risulta dai voti manifesti nel quasi generale silenzio gli risponde sul settimanale gente l'onorevole piccoli da noi in Italia non c'è la figura del leader capo della maggioranza parlamentare del governo del partito qui c'è una diarchia e chi all'interno di essa conta è il segretario del partito Moro non può sostenere che fin che c'era lui tutto andava bene e che dopo il 68 soltanto perché ci sono altri tutto va male siamo noi che dobbiamo contestare il comportamento di chi è contro di noi e non loro Moro parlerà esplicitamente di blocco d'ordine non si tratta del partito liberale ma di un'alternativa più radicale la cui tentazione è ricorrente in Italia dentro un simile blocco la democrazia cristiana sarebbe una componente effibera e dissolventesi siamo nel settembre del 71 e Moro parla già della serpeggiante sfiducia nei confronti dei partiti è il consiglio nazionale nel quale tuttavia un compromesso evita quella spaccatura che avrebbe risospinto a destra la democrazia cristiana sarà l'anno dopo nel 72 che con l'elezione di Leone con la centralità voluta da Forlani e Taviani della democrazia cristiana ritrovati in funzione polemica contro la sinistra con il monocolore elettorale di Andriotti con le prime elezioni anticipate con le teorie fanfaniali della reversibilità si imbocca la strada del neocentrismo il governo Andriotti Malagodi atto di imprudenza e principio di una svolta involutiva condanna Moro ed essa è comprovata dalla chiusura nei fatti verso una parte significativa del paese a questo punto con la democrazia cristiana ormai avviata sulla strada del neocentrismo con il governo Andriotti Malagodi del 1972 si sviluppa la battaglia di minoranza di Moro per riportare il partito su posizioni più consone alla sua vocazione tradizione esperienza in una intervista a Panorama Moro distingue tra opinione pubblica che va rassicurata e destra alla quale non si deve concedere nulla non la si deve inseguire entrando nella sua logica con l'illusione di neutralizzarla il che non significa non ascoltare quello che viene detto dalla destra io ascolto tutte le cose anche le più lontane del mio spirito purché siano intelligenti dice in una intervista alla stampa dell'ottobre del 1972 che fece molto soffrire il suo autore Giovanni Trovati una squisita persona ed uno scrupoloso professionista per la mortificazione che patina rilevare le profonde correzioni e modifiche portate al testo cortesemente inviati in preventiva lettura Moro dice che nella democrazia cristiana è venuta a meno la carica di un tempo che ne faceva un partito vivo parla di decadenza e poi attenua il giudizio usando l'espressione stanchezza è in gioco l'identità della democrazia cristiana in una situazione nella quale una crisi profonda ha spinti cattolici più impegnati a votare per altri teme per le acri associazione cristiana lavoratori italiani e la CISLE la confederazione italiana dei sindacati libri vede la minaccia di una lotta che spacca in due il paese con pregiudizio della dialettica democratica a trovati interessa sapere quando potrà riprendere il centro-sinistra secondo Moro andando al congresso della democrazia cristiana con il governo di centro-destra questo potrebbe essere ratificato dall'assise Moro però non ha fretta chiede allora a trovati che cosa vuole dire un centro-sinistra nuovo Moro si accontenterebbe di un ritorno all'originale e autentica impostazione ma vorrebbe soprattutto entusiasmo fiducia e solidarietà nel corso dell'intervista meglio sarebbe dire dell'auto-intervista per l'intervento correttivo di cui abbiamo detto Moro manifesta tutta la sua ansietà per un paese stanco che non vuole essere disturbato che si è lasciato dietro le spalle alcuni anni di vitalità forse disordinata gli anni dell'esplosione delle forze sociali e della contestazione e per l'emergere di un sentimento fascista o anche solo di un sentimento di destra conseguenza di qualche nostra incapacità e di stati d'animo che riaffiorano è una scradevole realtà pericolosa ma dominabile se si riesce a ristabilire una delettica democratica con un metodo di governo rigoroso non basta dire siamo per la democrazia bisogna esserne apostoli guai se al troppo potere si aggiunge la mancanza di ideali quattro giorni dopo a Bari al congresso provinciale della democrazia cristiana torna sulla minaccia della contrapposizione frontale del blocco contro blocco sulla tragica eventualità di una democrazia cristiana non più partito democratico popolare antifascista ma coacervo di forze di resistenza contro il nuovo amalgamo intriso di mediocrità e spirito di conservazione di una destra imbedesimata della democrazia cristiana ed una democrazia cristiana fatta a destra un mese dopo ad un convenio nazionale di amici democratico cristiani definisce frettoloso e stupefacente il mutamento di rotta con il quale invece di correggere gli errori del centro-sinistra si è preferito cambiare l'equilibrio politico in senso centrista con danno per l'ispirazione democratica e popolare della politica italiana l'azione della democrazia cristiana sembra svolgersi nel senso della paura e di una mediocre stabilizzazione nel gennaio del 73 a Beppe del Colle per Famiglia Cristiana altra intervista particolarmente curata Moro precisa che il centro-sinistra è stato messo in crisi dalle mai sopite spinte conservatrici favorite dall'insufficiente dominio di una realtà sociale difficile ed esigente ma la strategia della centralità forlaniana non ha respiro può soddisfare l'esigenza di un momento ma non fonda una politica adeguata conosco il rischio del voto di potere come del riflusso fascista osserva Moro e ancora a gennaio Moro lamenta che è ricominciata la caccia alle streghe perché si dice di lui che rivoli il centro-sinistra in realtà solo per poter aprire i comunisti Moro dice noi non siamo massimalisti o irresponsabili ma neppure rinuncetari non ci accontentiamo di doppiare il capo delle 24 ore e continuiamo a guardare lontano centralità e reversibilità sono di padre incerto e dai contorni indefiniti dice Moro al consiglio nazionale che convoca il congresso egli continua a paventare con insistenza martellante il pericolo di una democrazia cristiana che faccia per forza di cose la parte della destra e che diventi nella contrapposizione destra guai se per stanchezza ci limitassimo alla stabilizzazione durerebbe qualche mese o qualche anno ma ci sfuggirebbe con una probabile gravissima crisi l'anima del paese in un momento di svolta spirituale e politica a livello mondiale e sul giorno scrive dalla mediocrità e dalla superficialità dobbiamo sollevarci non si tratta di una decadenza irrimediabile ma di un disorientamento e di un abbassamento di tono dei quali possiamo liberarci siamo ormai al congresso che dovrà essere creativo come quello del 62 affinché la democrazia cristiana non si riduca da un partito d'opinione ma diventi un partito sociale flessibile ed aderente alla società in tutte le sue pieghe in vista di quell'appuntamento Moro si dà ad una frenetica attività fa discorsi scrive articoli concede interviste a periodici italiani e stranieri copre tutto l'arco della pubblicistica cattolica e laica rivede criticamente l'esperienza del centro-sinistra riconosce errori limiti ed insufficienze e come non mai dinamico perché sa che si sta giocando l'ultima partita quella contro il demonio della destra che tenta nel profondo e attrae nell'inconscio una parte consistente della democrazia cristiana e del suo elettorato spiega all'espresso il calvario delle riforme il gioco degli interessi ma crede che si debba tornare al centro-sinistra il paese non ha tempo per governi transitori ricorda l'apprensione la paura l'appello ai miti protettivi della legge e dell'ordine che allineano nell'elettorato democristiano fino a sfociare in psicosi da conservatorismo ed in fobia antisocialista su di essi ha fatto leva la campagna elettorale della democrazia cristiana responsabile di aver assecondato quello stato d'animo anche dopo le elezioni facendo credere che bastasse a placare le angosce un governo di centro-destra c'è qualche cosa di profetico in queste parole l'elettore va per le spicce quando gli raccontano che il luogo del centro-sinistra si può scegliere il centro-destra e governare con efficacia egli crede che sia vero che questa politica sia possibile e a Van Katru di Rosanna un segno di involuzione già nel fatto che la DC abbia ripiegato verso le anze del passato ed abbia per così dire avuto paura di aver avuto coraggio al settimanale tempo tenere conto dell'opinione pubblica non significa assecondarle in tutti i suoi umori assumendone una passiva rappresentanza si deve capire la gente ma non cedere arriviamo così al 9 giugno 1973 al 12esimo congresso nazionale in Roma palazzo dei congressi dell'euro Moro se la memoria non mi tradisce parla verso sera nel rifare quasi con le stesse parole pronunciate tante volte nei mesi precedenti la storia del dopo elezione e delle ipotesi di un ulteriore ricorso anticipato alle urne osserva che il fatto elettorale è in effetti latente nell'esperienza citrista ma esso avrebbe obiettivamente assunto il significato di un appello all'elettorato a serrare comunque a destra a destra e non al centro provocando così la temuta radicalizzazione della lotta politica in Italia la contrapposizione frontale di un blocco contro blocco l'uno includente l'ADC influenzata da destra fatta essa stessa destra Moro spiega il senso delle alleanze perché il centrismo che era durato un decennio ed aveva svolto una funzione importante di chiusura a destra e verso l'integralismo non era più proponibile secondo un'impensabile meccanica trasposizione dal passato al presente ai tempi diversi e nuovi corrispondeva la politica di centro-sinistra il tipo di schieramento politico prescelto è altamente indicativo della posizione storica della democrazia cristiana non è un fatto marginale né una scelta di poco conto stabilire il tipo di collegamento con il quale si chiarisce all'opinione pubblica la propria linea politica Moro riprende ad una ad una le ragioni della scelta del 62 tuttora valide nonostante il corso storico abbia attenuato entusiasmi e spento speranze se il mondo da cui siamo espressi fosse davvero una folla di timidi e moderati allora noi non saremmo capaci di questa scelta ma la democrazia italiana rischierebbe l'involuzione e l'avventura e tuttavia Moro vede molte spinte conservatrici una netta e dura minaccia di destra con componenti fasciste evidenti ed aggressivi e tutto ciò accade in una misura rilevante mai registrata dalla ripresa della vita democratica in Italia un fenomeno non occasionale ma profondo non basta dirsi antifascisti non si tratta solo di un modo di essere ma anche di una politica da fare bisogna scegliere tra una prospettiva moderata e di vera garanzia ed una aperta e viva la garanzia deve presidiare lo sviluppo non arrestarlo per timidezza o indifferenza chiamare i preoccupati solo perché preoccupati chiamare i timidi per assicurarli un momento significa compiere una rinuncia ad una splendida funzione che passerebbe ad altri ed anche verificare un'ispirazione cristiana eccessiva ed inutile per una funzione di sola prudenza e conservazione a un passo dalla fine del suo discorso nel momento in cui accenna l'amara autocritica che coinvolge la democrazia cristiana Moro rompe la continuità logica e formale del suo dire introducendo in modo del tutto estemporaneo il tema dei liberali perché vogliamo parlare riprovar bruscamente dei liberali quando dovremmo parlare invece di noi improvviso scarto come di chi si è colpito da una lancinante fitta subitanea che ricorda un dolore antico poi quasi sommessamente continua c'è della stanchezza da combattere del disordine inutile e dannoso da evitare delle cose vitali da approfondire e da portare alla luce un processo di democratizzazione da riprendere con una serietà la quale non consenta a forze conservatrici di avalersi di fatti contingenti per bloccare il processo di sviluppo del nostro paese e del mondo si avviava conclusione con quel congresso che riapre la politica di centro-sinistra nomina fanfane segretario e rumor presidente del consiglio la lunga emarginazione di Moro durata più di cinque anni gliene restavano altrettanti durante i quali avrebbe fatto ancora il ministro degli esteri il presidente del consiglio il presidente del consiglio nazionale della democrazia cristiana come ministro degli esteri egli svolge una politica alla quale viene riconosciuta la visione di insieme l'intuizione del tempo e della storia apparentemente la destra interna ed esterna alla democrazia cristiana usciva sconfitta dal congresso della democrazia cristiana del 73 ma in realtà essa in appoggio della quale Moro in almeno due discorsi aveva supposto un sostegno proveniente da fuori Italia avrebbe verificiato di lì a poco dello strumento brigatista per l'eliminazione del suo nemico storico trovandosi poi appianata la strada fino a irrompere da padrona sulla scena nazionale la destra ha molto a che vedere con l'uccisione di Moro e con la distruzione della sua politica del suo disegno lungiberante i brigatisti si sono avvantaggiati del clima di omertà reticenza disinteresse compiacenza o dichiarato sostegno di loggia P2 di massoneria di servizi deviati di istituzioni dello Stato di singoli e gruppi che con una lucida combinazione di azioni ed omissioni hanno svolto un ruolo decisivo determinante non so se sia ingenuo sperare che questa valutazione delle cose possa ottenere ulteriore e più circostanziata conferma da nuovi adeguati riscontri documentali in sede storica e tuttavia il fatto che molti armadi siano rimasti sin qui chiusi o irreperibili molto materiale sia finito a marcire come si dice in questi casi in cantine umide infestate da topi molto altro sia andato disperso o dimenticato del tutto se può concorrere a spiegare i magri risultati dei procedimenti giudiziari e delle richieste parlamentari nulla toglie al suo significato e alla sua attendibilità politici è fuori discussione che c'è stata una destra nazionale ed internazionale in Germania in Francia negli Stati Uniti d'America che ha duramente avversato l'onorevole Mono che ha mirato ad eliminare l'influenza cercando di offuscare il suo prestigio personale con attacchi infami alla sua moralità intelligenza coerenza politica fedeltà al suo partito e al suo paese fino alla fare Locke c'è stata una destra nazionale ed internazionale che non si è mai allarmata per le aperture ai comunisti di altri leaders democristiani autrevolissimi in Italia in Europa negli USA e che invece si è rivelata pregiudizialmente ostile verso Moro su tutti i punti oscuri che riguardano sia le moltissime stragi ricordo solo ad esempio quelle di Milano di Brescia dell'Italicus che il rapimento la detenzione l'uccisione dell'onorevole Moro sono mancati l'interesse e la volontà di una approfondita ricerca storico-politica è servito da alibi lo scontro tra dietrologi e riduzionisti cioè tra chi vedeva troppo e in troppe direzioni e chi non vedeva niente fin dall'inizio dell'esperienza democratica gli uomini politici più attenti avevano individuato il pericolo di questa destra che emergeva dal passato tra loro De Gasperi e Moro Alcide De Gasperi era ben consapevole che nel voto del 48 occorreva distinguere due tipi di adesioni quella di coloro che avevano inteso combattere una battaglia di libertà di riscatto di rinascita aderendo con sincerità e convinzione alla prospettiva democratica e quella di chi aveva accettato buttorto collo la democrazia cristiana perché non c'era altro cui potersi appigliare per evitare il neofragio rifiutò perciò la pur legittima richiesta di chi gli chiedeva di fare da soli per fare subito e fare bene avviando invece la collaborazione con i partiti democratici non si trattava solo di evitare i rischi dell'integralismo di accentuare il carattere laico della politica ma di rendere più facile mediante la pluralità della rappresentanza politica inserita nel governo il consenso da parte di chi era attestato su posizioni conservatrici o moderate così Aldo Moro nell'ambito della stessa strategia di De Gasperi promosse la politica di centro-sinistra per scongiurare le tentazioni alla chiusura che anche quando sembravano latenti esercitavano non di meno un grande potere di suggestione in certi strati sociali dell'elettorato cattolico e democratico cristiano centrismo e centro-sinistra erano nelle rispettive situazioni storico-politiche antidoti che venivano introdotti per immunizzare la maggioranza del 48 dalla propensione congelita oscura ma tenace che la minacciava nel profondo indulgendo solo per un istante al presente possiamo dire che esiste ancora sia pure con altri nomi con altri innesti quella democrazia cristiana che si è liberata dell'insegnamento di Moro che ha se non rinegata vanificata l'ispirazione cristiana la mediazione politica come arte di individuare selezionare comporre ideali tensioni stati d'animo punti di vista interessi di individui e gruppi ed ha dimenticato la solidarietà sociale come fondamento cemento e ragione dell'unità della nazione e della sovranità dello Stato questa che non è sparita rivive e anzi si perpetua non è l'erede della democrazia cristiana delle origini che recave insieme dentro di sé un progetto una speranza ma anche il tallo segreto della moderazione che però per molti anni era riuscita a tenere a bada questa di oggi discende dalla democrazia cristiana dei preamboli della centralità e della reversibilità la democrazia cristiana che non ha provato disagio e non ha giudicato sconveniente l'appoggio determinante dei missini nella maggioranza che ha pensato che i voti si vanno a prendere dove ci sono senza troppi patemi d'animo e che ha senza vergogna considerato un peccato congelare all'estrema destra una porzione utile di elettorato questa di oggi ha nutrito vezzeggiato rassicurato l'elettorato conservatore moderato reazionario che c'era già e resisteva contro tutto e al di là di tutto proteggendo da decenni e decenni nelle proprie viscere il rancore profondo del censo che non si è mai aperto all'avvento del partito di massa che ha sempre considerato un sopruso che il contadino e l'operaio potessero avere pieni diritti di cittadinanza civile e politica un elettorato che nel crollo dei muri e dei sistemi nella secolarizzazione del sentimento religioso ridotto alla sua dimensione antropologica ha intravisto finalmente l'occasione storica irripetibile per sciogliersi dalle catene ideologiche per liberarsi dalle petizioni di principio per affrancarsi dalla sudditanza a valori ideali non è dunque sparita questa parte della democrazia cristiana nel grembo della quale per decenni aveva trovato rifugio la destra non estremista come ha scritto una volta Edmondo Berselli su il mulino aggiungendo che il prodigio della destra avrebbe potuto consistere nell'aver sciolto per sempre l'equivoco democristiano e nell'aver rivelato agli italiani che potevano senza più complessi di inferiorità dichiarare a se stessi la propria moderata inclinazione a destra cioè quello che erano sempre stati e che non avevano mai potuto essere del tutto ciò che more come abbiamo visto ha cercato in vano di bloccare perché non prendesse il sopravvento per questo motivo e di bruciante attualità l'analisi che gli aveva fatto di ciò che sarebbe potuto diventare il partito della democrazia cristiana se avesse tradito la sua vocazione tolto il tappo il liquido sgorgava senza freno possiamo comprendere meglio adesso perché Moro si è stato odiato da tanta gente come colui che aveva aperto ai comunisti eppure c'erano stati altri che prima di lui avevano pensato e progettato l'apertura sinistra cioè all'epoca ai socialisti Fanfani soprattutto che proprio per questo era stato avversato nel 59 ma anche l'attenzione verso i comunisti aveva avuto dei pionieri della sinistra democratica cristiana i quali semmai accusavano Moro di non perseguire quella strada con la richiesta sollecitudine e in effetti Moro era stato sempre prudente procedendo in modo che la democrazia cristiana rimanesse più unita possibile evitando strappi dolorosi rompendo con la maggioranza solo dopo il 68 perché si stava alterando la strategia politica adottata per anni e allora come si motiva tanta durezza che coinvolge l'uomo e la sua politica tutta la sua politica è bene cercare almeno un tentativo di risposta a questo punto del nostro percorso innanzitutto un primo elemento consiste nel fatto che egli è stato forse anche Pd di Gasperi ma almeno quanto lui un fiero oppositore della destra sia quella politica dei missini dei monarchici e tanto più quella esistente nella società da parte di altri democristiani la preclusione non era così radicale ammetteva delle eccezioni talvolta anche in teoria più di frequente della pratica con Moro questo non poteva avvenire non sarebbe avvenuto e non avvenne così si spiega tutta la più volte richiamata polemica contro di lui che lo ha accompagnato in ogni fase c'è poi la componente dei cittadini che si sono sentiti toccati nei loro interessi e che hanno addebitato a lui molto più che ad altri ad esempio la nazionalizzazione dell'energia elettrica o la minaccia della modifica della proprietà dei suoli e insomma tutti gli aspetti più controversi della politica di centro-sinistra vanno poi aggiunte non marginali componenti del mondo cattolico che non si sentivano tutelate dalla sua rivendicata autonomia sul terreno politico su questioni di principio e specialmente su vicende ben concrete anche la linearità continuità coerenza della sua strategia sono state motivo di allarme e di irrequitudine Fanfani andava e veniva con una certa disivoltura prospettando lo sfondamento a sinistra la reversibilità della politica di centro-sinistra non prendendo di petto la teoria della centralità democristiana proposta dal suo pupillo Forlani e così un po' tanti altri Moro no e li proseguiva nella rotta interpresa senza sbandamenti guardando in avanti ma anche da parte della sinistra non si può dire che ci sia mai stata una piena accettazione di Moro per un lungo periodo fu certamente preferito Andreotti per diverse ragioni ma penso soprattutto per una più agevole e direi scorrevole possibilità di contatti da ultimo e non certo per ultimo quella specie di impossibilità di scalfire una personalità complessa e per non pochi misteriosa che non si concedeva ai riti della popolarità del presenzialismo che anche decenni fa erano ben vivi anche se in forme diverse da quelle di oggi è dunque questa persona che si pone il problema dei comunisti perché non può rassegnarsi al mantenimento dell'esclusione di milioni di cittadini il che non significa venir meno ai propri principi far correre al paese rischi gravi bensì prestare attenzione a tutti i segnali che provengano da quella parte e che siano rivelatore di qualche positivo movimento e mutamento e intanto non rassegnarsi vuol dire non accettare la polarizzazione dello schieramento politico non ridurre la complessità del quadro mediante la rozza e falsamente semplificatrici di visione tra comunisti dalla parte e anticomunisti tutti insieme alla rinfusa dall'altra parte a novembre del 1967 al decimo congresso della democrazia cristiana a Milano in un discorso che da parte di una componente Dorotea si cercò di disturbare facendo sistematicamente entrare e uscire interi gruppi di delegati ma che ottenne ugualmente grande successo Moro disse la democrazia cristiana ha sempre operato avendo presente la realtà comunista nel senso di evitare la radicalizzazione della lotta politica che abbia uno dei suoi poli necessari nel partito comunista la democrazia cristiana non vuole instaurare una lotta politica tra posizioni estreme Moro cerca di spostare la funzione della democrazia cristiana da semplice diga anticomunista a promotrice e garante del consenso democratico più ampio possibile nell'aprile del 1967 a Lucca al convegno sui cattolici nei tempi nuovi della cristianità dirà che i cattolici democratici hanno assicurato il dialogo politico in Italia in collegamento con tutti e senza esclusione infatti anche nei momenti più duri del nostro contrasto politico con le forze totalitarie noi abbiamo parlato non da totalitari che si difendono ma da democratici che vogliono vincere facendo crescere la società democratica la politica di centro-sinistra e la strategia dell'attenzione hanno come obiettivo l'allargamento dell'area democratica la fine o l'attenuazione delle esclusioni il riconoscimento della complessità del sistema sempre a Luca Moro precisa che il senso della democrazia integrale è anche nel fatto che c'è una società la quale vuole essere tutta liberata liberata da ogni condizionamento Moro non crede che alla complessità si possa rispondere perpetuando la conflittualità insita nella logica bipolare dei blocchi contrapposti a questo proposito lo storico Pietro Scopola scrive la presenza del partito comunista porta ad escludere anzi a non prendere neppure in considerazione ipotesi di democrazia bipolare e cita il favore di Moro alle modifiche del 1960 in senso proporzionalista della legge elettorale per le amministrative che servivano a rompere il blocco social comunista in alcune amministrazioni locali Moro ritiene che alla complessità si pone rimedio con l'accentuazione della identità che in luogo della conflittualità per così dire generica e generalista di tutti su tutto introduce la dialettica su temi specifici su progetti mirati questo però lo possono fare partiti che hanno lineamenti netti e definiti e che avanzano proposte non generiche ma qualificate su questioni di vitale interesse per la comunità nazionale in questo ambito è la qualità del confronto la sua consistenza che garantisce al partito la fedeltà del consenso popolare nel discorso del novembre 1968 al consiglio nazionale della democrazia cristiana e là i motivi è proprio la fisionomia l'identità sono queste che hanno dato alla democrazia cristiana il consenso e che glielo hanno rinnovato sono queste che fanno la democrazia cristiana distinta e diversa dalle altre forze politiche il compito è assicurare alcuni valori di fondo tenere ferme essenziali differenziazioni non perdere quello la cui conservazione rappresenta l'unico titolo di sopravvivenza e di continuità non diventare come gli altri uguale agli altri dare una risposta a nuovo ma propria coerente con la tradizione e funzione della democrazia cristiana nell'estate del 68 l'onorevole Moro prendendo atto della situazione di isolamento politico nella quale si trovava cercò di analizzare la situazione a partire da un diverso punto d'approccio quello della società con i suoi movimenti con le sue forme associative negli ultimi mesi a Palazzo Chisi aveva preso contatto con leaders del movimento studentesco ne citerò uno per tutti il giovane milanese Bassetti intrattenendoli a lungo in conversazioni dalle quali aveva tratto elementi di riflessione che sarebbero confluiti nelle sue prese di posizione tra la fine del 68 e del 69 proseguendo la sua indagine del tutto personale riservata si recò accompagnato da non più di un collaboratore a incontri che si svolgevano ad esempio alla cittadella di Assisi entrava si può dire in punta di piedi si sedeva nelle ultime file ed ascoltava in assoluto silenzio ben presto però si accorse di non essere affatto gradito qualcuno si rifiutava di continuare a parlare in sua presenza qualche altro ad alta voce sottolineava oggi abbiamo mamma di C altri lo consideravano quasi una spia che volesse carpire qualche loro segreto al di là della mortificazione provocata da taluni atteggiamenti frutto di vera e propria maleducazione l'onorevole Amoro si rese conto che le cose erano andate oltre molto oltre che ormai lui era identificato come il simbolo del potere come l'espressione per giunta enigmatica di un partito che veniva rifiutato in blocco quello che più colpiva una persona che aveva fatto dell'ascolto del dialogo più che un metodo la ragione essenziale del suo fare politica era non tanto il rifiuto che di per sé si sarebbe persino potuto considerare un modo attivo di polemica ma in sostanziale disinteresse a loro di lui non gliene importava nulla e visto che si era intromesso glielo volevano fare capire con chiarezza le cose erano andate meglio al parasport della Milano Ciellina dove egli era stato invitato anche in virtù di un amichevole tramite politico una conferma sia pure in forma paludata viene dallo storico cattolico Andrea Riccardi il quale scrivendo dell'interessamento inquieto di Moro alla realtà del cattolicesimo in cambiamento osserva che il suo fare politica è lontano dalla concezione del 68 per la quale è un personaggio molto democristiano tipico del potere cattolico del secondo dopoguerra Riccardi non soddisfa la legittima curiosità di conoscere i nomi degli altri esponenti tipici di questo gruppo con riguardo a Moro fa però tre annotazioni significative che i giovani non reagirono in modo intenso al suo rapimento che Moro rappresenta l'immagine del potere anche in più vasti strati della società e che l'assassino di Moro non fu vissuto come un dramma del cattolicesimo italiano ma come una tragedia politica dai giovani appunto e da alcuni settori del cattolicesimo postconciliare un campanello d'allarme era comunque suonato forte violento inequivocabile il 4 novembre del 66 con l'alluvione di Firenze quei giovani che formavano catene umane per salvare dal fango preziosissimi libri guardavano i politici che scorrevano accanto da salagati in giù come fossero ombre fatte di nulla l'onorevole Moro questa volta certo non in compagnia tipica o meno ma solo aveva chiaramente compreso quell'ansia che era diventata meno dominabile che si era tradotta in protesta imperiosa ed impaziente e dunque il rischio che correva la politica che correvano i partiti che correva il sistema nel suo complesso se non dava una risposta adeguata e tutto ciò si esprimerà nella celebre espressione che forse è il punto più alto della retorica morotea tempi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai su questo impasto di elementi positivi ed elementi inquietanti da un lato la creatività la voglia di cambiare l'autonomia dall'altro la non accettazione delle regole dell'inquadramento nella soffocante camice di forza del sistema moro si sofformerà d'ora in avanti moltissime volte e via via che la situazione si inaspirà non avrà ritenio nel denunciare rischi mortali per la democrazia fu l'assunzione in prima persona di un dovere corrispondente ad una presa di coscienza l'uomo che più di un decennio prima da presidente del gruppo parlamentare democristiano aveva sbarrato il passo del governo a pella che aveva mandato le truppe al confine orientale dell'Italia che aveva tenuto con fermezza il punto nello scontro col cardinale che aveva portato avanti la sua politica con chiara veggenza ora si preparava quel passo ulteriore ma conseguente cioè la strategia dell'attenzione verso i comunisti a causa della quale troverà un altro oppositore questa volta americano non si poteva pensare aveva detto di fare politica in Italia contro il Vaticano e gli Stati Uniti e tuttavia moro la farà fino in fondo nonostante interferenze ultimatum ma sempre cercando di portarsi dietro per quanto possibile tutto il suo partito ad un anno meno una settimana dal suo rapimento Aldo Moro il 9 marzo 1977 prende la parola alla Camera dei Diputati per difendere un amico ed un partito il suo partito aveva preparato un discorso che nella stesura iniziale terminava 14 cartelle prima non riteneva che si dovesse rispondere a chi aveva chiesto in quel periodo che si processasse la democrazia cristiana nelle piazze giudicava che ci si dovesse mantenere su un terreno più tecnico giuridico del resto a lui congeniale come penalista ed avvocato che questo fosse il modo più appropriato di far fronte ad una fase del processo intentato contro l'orevole gui per la fare Lockheed per la prima volta almeno in quella maniera mi permisi di osservare anche per i compiti che svolgevano la sua equipe che secondo me esisteva un'esigenza diversa egli non poteva limitarsi in quell'ambito ristretto ma doveva prendere posizione sulla situazione più in generale per alcuni giorni rimase l'attenzione tra due opposti punti di vista d'improvviso un pomeriggio cosa assolutamente inabituale entrò nello studio dove si preparavano i suoi discorsi e consegnò le quattordici cartelle spero disse con una certa asciuttezza di tono che ora non ci sia altro da aggiungere che ci sia tutto quello che vi aspettate da me aveva resistito a lungo aveva riflettuto a lungo ma alla fine aveva deciso che era giusto quello che gli veniva ha chiesto lo ricorda nel suo discorso appunto nella parte finale io mi sono domandato se ad essi quelli che volevano il processo dell'ADC dovesse essere dato una risposta ed ho pensato che una risposta fosse opportuna davanti ad un Parlamento ostile o sorpreso o smarrito passando oltre ogni ragione di opportunità e di convenienza lasciando di stucco settori politici e giornalistici di sinistra che si attendevano quantomeno un atteggiamento di prudenza in fondo la democrazia cristiana doveva mostrare di meritare l'incontro con i comunisti come se si dovesse presentare con il capo coperto di cenere ma ora assume orgogliosamente in sé la paternità dell'ADC incurante delle inconseguenze immediate e a medio termine coscienza e non utilità lo ispira non sappiamo dice se questo atteggiamento ci gioverà o danneggerà non ce lo domandiamo perché la ragione è troppo grande per essere barattata con un ammiccamento contro coscienza l'opinione pubblica con la democrazia cristiana che sente unita accanto a sé egli difende il suo partito ma attenzione a questa precisazione che non vale solo per quel momento ma che varrà anche per il futuro ed impedirà a chi che sia di utilizzarla impunemente a proprio vantaggio senza discernimento ma ora non difende tutti e tutto ciecamente e si direbbe rozzamente egli dichiara sì di difendere la democrazia cristiana ma virgolette non qualsiasi uomo della democrazia cristiana e qualsiasi momento della sua esperienza politica tutt'altro sappiamo discernere fare la nostra critica chiuse le virgolette ed è ben strano che uno storico di parte cattolica abbia parlato in un lungo saggio dalla struttura formale storica appunto per quantità di note oltre un centinaio di pagine e citazioni di documenti ma privo del necessario distacco di una difesa in blocco del regime mentre come abbiamo visto il testo dice tutt'altro mora ammette degli errori politici delle scorie in un'attività trinternale tutto questo esiste ma non accettiamo dice che la nostra esperienza complessiva sia bollata con un marchio di infamia a chiunque a chiunque voglia fare un processo da celebrare nelle piazze noi rispondiamo con la più ferma reazione noi non ci faremo processare non sottovalutate la grande forza dell'opinione pubblica che trova nella democrazia cristiana la sua espressione e la sua difesa e quali sarebbero mai state le conseguenze negative di quello che gli avversari definiscono il regime democristiano la risposta ovviamente rovesciata è nelle scelte di libertà e di progresso di respiro storico nella più ampia esperienza di libertà che l'Italia abbia vissuto nella sua storia in un patrimonio di innovazione di ricchezza umana di stabilità democratica del quale il paese non potrebbe fare a meno al di là del contenuto colpì i politici e in particolare i giornalisti di sinistra la protezione accordata da Moro al suo partito sembrò nel furore della polemica che egli si fosse tagliato da sé l'erba sotto i piedi furono giorni di grande silenzio a via Savoia a distanza di dieci giorni sul giorno Moro risponde a chi lo aveva accusato di arroganza di aver voluto bloccare la giustizia impedendo la formulazione dell'accusa di non aver giovato all'onorevole Gui politicizzando il dibattito anzi di avere voluto fare sotto il pretesto di difendere Gui solo un discorso politico il cui unico merito per i suoi critici era che con esso Moro aveva gettato la maschera rendendo così impossibile lo sviluppo dei rapporti a sinistra egli rileva innanzitutto che non si può manifestare una insistita e preconcetta valutazione negativa del partito con il quale si dice di voler collaborare la collaborazione è possibile basta solo che non si deformi la nostra fisionomia che non ci si consideri portatori di interessi parassitari che si rispettino le nostre idee che non si menomi il nostro prestigio e non si sconosca la nostra funzione essenziale e commisurata alla nostra posizione di maggior partito italiano non obblighiamo nessuno non dettiamo condizioni ma nessuno può trattarci come fossimo boccheggianti ed elevare nei nostri confronti la questione morale ma Moro risponde anche per dire che la sua azione politica e di governo è stata talvolta considerata immobilistica nella misura nella quale dice non mi sono abbandonato all'immaginazione in tutta la vicenda politica che riguarda l'onorevole Moro c'è da sottolineare l'atteggiamento critico dei giornali dei giornalisti di specifici organi di stampa o altri media prima erano stati e questo sin dall'inizio gli apparati dell'opinione pubblica di destra ed abbiamo visto a quale livello erano scesi nella polemica personale oltre che politica poi si sono aggiunti gli organi di centro per contrastare lo spostamento a sinistra dimostrando non solo di non condividere le opinioni ma neppure di credere nella buona fede buonultimi ma non ultimi sono arrivati fuori di sinistra per denunciare la lentezza l'incertezza e persino la strumentalizzazione dell'approccio ai comunisti l'antipatia per Moro è manifesta ma attraverso la sua persona individuata come la più emblematica essa colpisce il partito tutto della democrazia cristiana accusata per i trentali di potere per l'occupazione dello Stato e di tutte le sue strutture e per la corruzione generalizzata si arrivò a dire anche da parte americana che l'onorevole Moro non era corrotto personalmente ma tollerava gli scandali perché li consentivano di impadronirsi più facilmente del partito inducendolo o costringendolo a fare quello che lui voleva l'assurdità dell'assunto salta agli occhi di un osservatore non prevenuto ma esso testimonia la sprezza della lotta politica nella quale i giornali dei giornalisti più che osservatori disinteressati si erano trasformati in partecipanti interessati a questo o a quel risultato questo stato di cose concorre a spiegare la diffidenza dell'onorevole Moro verso il mondo dei media compresa il distacco dalle vicende della RAI quando a fine 74 diventò per la quarta volta presidente del consiglio nonostante l'invito del direttore generale della RAI Bernabé di esaminare se lo riteneva opportuno il disegno di legge di riforma dell'ente pubblico che approvato dal consiglio dei ministri stava per approdare in Parlamento e gli rifiutò dicendo per mia fortuna è stato approvato prima di me continui ora la sua strada senza di me fu coerente non chiedendo mai nulla ci dovrebbe si dovrebbe anche parlare degli intellettuali di quanti cioè durante il rapimento manifestavano tutto il loro moralismo contro il diritto di vivere rivendicato dall'onorevole Moro quasi che nello zaino di un politico ci dovesse essere per forza il teschio della morte e d'altra parte si fosse anche solo trattato delle preoccupazioni di Moro per la sua famiglia Spinelli che dedicano nei suoi diari pubblici perché pubblicati pagine e pagine a minuzie familiari avrebbe dovuto ben capirlo un'anima da coniglio ha scritto invece nel suo diario Altiero Spinelli esemplare di uomo politico morto civilmente per viltà d'animo il quale Spinelli ha supposto scritti di Moro sotto dettatura da parte dei brigatisti in realtà mai esistiti e anzi contraddetti dai vari tentativi di critica storica anche il resto della vicenda è trattato con manifesta prevenzione in base alle categorie del suo ego ipertrofico certo con molta superficialità ed approssimazione come la notizia che gli riporta dell'opposizione della signora Mora allo scambio di suo marito con altri brigatisti quello che è grave è che Spinelli contesta la coerenza morale e la forza interiore di Moro di cui non sa nulla in base ad un arrogante pregiudizio moralistico senza degnarsi di discutere nel merito le sue posizioni condivisibili o meno ma che rivelano la padronanza della situazione nei limiti certi in cui si trovava critiche simili critiche simili sono venute anche da ex militanti del partito d'azione in base alle loro categorie mentali applicate alla realtà come un calco senza alcuna conoscenza della persona e approfondimento dei fatti specifici astrazioni che portarono del resto quel movimento in pochi mesi al totale fallimento politico anche il riferimento alla resistenza citato da alcuni in polemica con Moro appare francamente non propriamente pertinente allora si combetteva contro un occupante straniero e contro una dittatura che aveva comandato in Italia per oltre vent'anni c'era una guerra ed una lotta di liberazione scelta in piena consapevolezza da un numero consistente di persone che ben sapevano che andavano incontro alla morte non come eventualità remota bensì estremamente probabile hanno scelto di lottare contro un nemico e per ripristinare la libertà perduta sono dunque ammirevoli le loro intenzioni e le loro lettere scritte una volta catturate ai loro familiari Moro non è stato catturato nel corso di un'azione bellica ma è stato rapito se i brigatisti fossero stati considerati una banda criminale ci sarebbe pagato come sempre è stato fatto legge o non legge un riscatto è accaduto anche per i catturati italiani in Iraq in Akhwanis e così via senza chiedersi se venisse meno con il pagamento l'autorità dello Stato senza preoccuparsi più di tanto delle reazioni degli agliati che si sono anche vendicati senza domandarsi se ne derivava un qualche riconoscimento politico evidentemente le brigate rosse non sono state considerate una banda da tacitare con un riscatto riconoscendo loro un diverso status non sono stati considerati nemici perché allora si sarebbe dovuto intraprendere una guerra contro di loro e nelle guerre sono sconsentiti scambi di prigionieri resta ancora da sapere come sono stati valutati se non banditi se non nemici che cosa ma torneremo su questi temi più oltre qui era sufficiente dimostrare che il confronto con la resistenza è stato moralisticamente utilizzato solo per umiliare Moro ed espellerlo dalla coscienza della nazione dal discorso alla camera dei deputati del marzo 1977 Moro avrebbe avuto meno di un anno di attività da uomo libero quel discorso da riconsiderare nella sua decisiva importanza in sede storica gli aveva dato a pieno titolo a parlare in nome per conto della democrazia cristiana nel febbraio dell'anno successivo si sarebbe incontrato per l'ultima volta con i gruppi parlamentari del suo partito il suo prestigio in quella ora solenne e drammatica l'ascolto attento che ottenne era nel frutto del seme gettato nell'arena del parlamento quando non si era vergognato della democrazia cristiana anzi aveva scelto sentendola in quel momento come orfana di esserne il padre adottivo ma ritorniamo a tre anni prima nel 1974 altro momento drammatico e di svolta Moro ministro degli esteri si reca con il presidente della repubblica leone negli Stati Uniti qui si incontra nella Blair House The President Guest House la casa degli ospiti della Casa Bianca al 1651 di Pennsylvania Heavenly con il segretario di Stato americano Henry Kissinger nel corso della discussione Henry cerca di spiegare la situazione italiana sia dal punto di vista politico che economico riferendosi ovviamente anche al problema dei comunisti ma il suo interlocutore con la brutalità che gli è propria taglia corto se fossi cattolico come lei crederei anche nel dogma dell'immacolata concezione ma non sono cattolico e non credo né a questo dogma né all'evoluzione democratica dei comunisti italiani che evidentemente per come le veniva spiegata e per come la percepiva era una sorta di assunto dogmatico io quando raccontai per la prima volta questo episodio dissi che era venuto al ricevimento offerto dall'ambasciata italiana perché così ricordavo vi fosse stato detto l'interprete interpellato in sede di commissione parlamentare negò giustamente che la cosa fosse avvenuta in sua presenza più tardi essendo stato autorevolmente dotto sul luogo dove si era svolto corressi il mio errore per completezza ricordo che il giorno dopo il presidente Leone si ricò al porto di New York dove cantò O sole mio iniziative che l'onorevole Moro forse con eccessivo rigore parve in quel clima di nostra grande difficoltà economica e di tensione politica del tutto inopportuna a seguito di un valore che lo aveva colpito mentre ascoltava messa nella cattedrale di St. Patrick l'onorevole Moro rientrò anticipatamente a Roma circa i rapporti tra Kissinger e Moro una premessa indispensabile è il convincimento di Moro che Kissinger non sia adeguatamente informato della situazione italiana che sia dominato da un pregiudizio che non si limiti ad esprimere legittime preoccupazioni a notificare timori dell'opinione pubblica americana ciò detto occupiamoci di due interessanti interviste a Kissinger di Minoli l'idiatore ed il conduttore di Mixer una del 6 aprile 83 l'altra fatta a Rimini ma di cui non ho la data nella prima Minoli lo interroga sui suoi contrasti con Moro e lui risponde questo è ridicolo Moro e Dio avevamo fondamentalmente ottimi rapporti tanto più prosegue che Moro si occupava principalmente di politica interna e non estera quindi non avevamo molto da tirci nega poi di averla ammonito giocando sulle date lui ha conosciuto Moro nel 74 l'apertura ai comunisti è avvenuta nel 76 come se davvero gli Stati Uniti avessero aspettato a parlare ad avvenimento già concluso a buon gioco a negare il contrasto all'ambasciata perché come ho precisato la discussione era avvenuta alla Blair House rifiuta di essere stato categorico e minaccioso ma categorico era stato nel senso che gli aiuti economici erano condizionati all'assetto politico dell'Italia minaccioso o no se per questo termine si intende come dice la parola una minaccia personale tuttavia conferma di essere stato sempre contrario al cosiddetto compromesso storico e di averne parlato pubblicamente sventisce con sdegno anche la più piccola insinuazione sulla morte di Moro avvenuta dice due anni dopo che lui aveva lasciato l'incarico e nega di aver detto che Moro era incomprensibile ma l'implacabile Minoli proprio quando sembra passare ad altro argomento gli chiede quale sia l'uomo politico italiano che stima di più e qui Kissinger che evidentemente non è rimasto soddisfatto dell'andamento del colloquio dichiara sembra strano ma ho molto rispetto per Moro anche se a volta non ero d'accordo con lui e devo ancora una volta dire che è oltraggioso in fondo è stato un gruppo di sinistra comunista che ha ucciso Moro e ora gli americani sono accusati di averlo fatto nell'altra intervista quella di Rimini Minoli domanda ancora sui rapporti con Moro e gli nega che non fossero buoni ricorda alcune battute spiritose dove li fate sui lunghi ragionamenti di Moro riconferma la massima stima una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato ma insomma era molto complicato dopo aver negato ancora una volta di avere fatto minacce precisa io ero contrario al compromesso storico pensavo che fosse una cattiva idea può darsi che Moro abbia capito la situazione molto meglio di me ma io ero contrario dal punto di vista intellettuale lui sapeva che io non ero d'accordo lasciamo perdere altri aspetti pure notevoli ma fermiamoci a constatare il dissenso politico dobbiamo però ricordare quello che Moro prigioniero scrive nel suo memoriale riferendo di disposizione del dipartimento di stato all'ambasciatore statunitense in Italia di non invitare Moro a colazione in ambasciata della qualcosa di Perseglie certamente non si dispiaceva di svolgere una politica di simpatia verso una generazione più giovane di democristiani che sanno l'inglese mettendo da parte uomini vecchi inutili anche se hanno delle benemerenze e mandare avanti uomini nuovi ma nel memoriale ci sono altri riferimenti a Kissinger su temi di grande rilievo di politica estera sui quali c'era divergenza di punti di vista tutto ciò ha comprova che l'interessamento dell'onorevole Moro per la politica estera era ben più forte e centrale di quanto non avesse ammesso Kissinger in ambe due le interviste a Minoli nelle quali aveva parlato di prevalenti interesse per la politica interna da parte di Moro il che in questi termini non corrispondeva al vero è stato riconosciuto infatti che l'onorevole Moro ha condotto negli anni nei quali fu ministro degli esteri una originale politica opponendosi alla regionalizzazione dell'Europa sostanzialmente perseguita da Kissinger promuovendo l'apertura del continente all'area mediterranea equilibrando la posizione italiana tra le due parti nel conflitto arabo-israeliano favorendo l'ingresso della Cina all'ONU sostenendo questo nel suo compito a favore della distensione e del disarmo ricordo in particolare il viaggio che facemmo dalla Persia ora Iran all'Arabia Saudita a tutti gli Emirati Arabi all'indomani della crisi del petrolio per rianodare i fili che erano stati spezzati per disattenzione in avvedutezza per stabilire contatti che valessero per il futuro viaggio pericoloso perché si parlò di caffè avvelenato fornito al nostro aereo in partenza di attacco alla sede dove ci trovavamo a Dubai con imprevviso abbandono della città mentre i sovietici cercavano ormai senza successo di premere sul partito comunista italiano gli ambienti americani si rivolgevano al governo non soltanto alla democrazia cristiana e non per le vie discrete dei colloqui riservati o attraverso i canali diplomatici interventi pur sempre sgradevoli penosi ma in qualche misura inevitabili bensì e sempre più frequentemente comprese di posizioni esplicite pubbliche e persino ufficiali e non si trattava di aspetti marginali ma essenziali della politica estera ed interna italiana la ragione tuttavia dell'insofferenza americana era il partito comunista e l'atteggiamento verso di esso dell'onorevole Moro in sofferenza che si manifestava in forme sempre più nervose e plateali ambasciatori americani in Italia uomini d'affari opinion leaders strani maneggioni dalla configurazione incerta agenti dei vari servizi segreti si davano da fare in tutti i modi per brandire minacciare incidere sull'equilibrio interni isolare in particolare l'onorevole Moro esercitare un'influenza sui giornalisti italiani qualche cosa però non doveva funzionare al meglio se una volta fu invitato anch'io ad una colazione informale offerta dall'ambasciatore USA in Italia nel corso della quale fu espressa tutta la preoccupazione e manifestato il malumore per come procedevano le cose in Italia e questo avvene nel 77 c'era una strategia che accumulava gli Stati Uniti la Germania e la Francia come vedremo fu tutto un susseguirsi di prese di posizioni di insinuazioni di interventi scorretti si direbbe in gergo calcistico per ammonire ed impedire quello che si riteneva il disegno strategico dell'onorevole Moro lasciata la presidenza del Consiglio assunta la pressoché onorifica carica di Presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana Moro interviene nel gennaio del 78 quasi con il distacco del saggio che intende sistemare una controversia delicata e pericolosa ma che ormai non può più incidere nel corso degli eventi con un articolo per il giorno che non fu edito per ragioni di opportunità egli pur riconoscendo che nella difficile situazione era più prudente rinviare rinunciò a mal in cuore alla pubblicazione nell'articolo si riferiva ai giudizi espressi da parte americana riguardo la possibilità dell'ingresso dei comunisti nella maggioranza di governo le valutazioni le valutazioni sono legittime scrive ma non quando siano formulati in sede di governo e fatte conoscere senza vincolo di discrezione in modo che si crei quantomeno il sospetto che si vogliono influenzare le decisioni rendere pubblici punti di vista perché se ne tenga conto produce disagio e limita la libertà di manovra politica Moro lascia anche intendere che il destinatario sia pure attraverso un canale improprio più che l'Italia possa essere l'Unione Sovietica in vista di preservare il complesso degli equilibri militari e politici a livello mondiale cosa certo comprensibile sostiene Moro ma che per essere tutelata richiede non la forza ma la prudenza Moro comunque ribadisce che l'autonomia della decisione è ad un tempo un diritto ed un dovere ma torniamo allo scontro alla Blair House così insignificativa e importante perché è a seguito di esso che l'Onorevole Moro appena giunta a Roma mi telefona nel primo pomeriggio dicendomi esplicitamente cominci a farci colare nei giornali la notizia che io intendo abbandonare per almeno un paio d'anni la politica attiva gli risposi che era difficile per me sostenere questa ipotesi dal momento che durante la sua assenza era stato prefigurato uno sviluppo politico che riguardava anche lui l'Onorevole Moro infatti diventerà nuovamente presidente del consiglio nel novembre del 74 non era certo un regalo del suo partito ma il riconoscimento di uno stato di necessità che portava a lui dopo una delle più lunghe crisi ministeriali 50 giorni ad un governo bicolore con i repubblicani ma non era quello che desiderava se c'era una prospettiva che avrebbe gradito era quella di tornare a fare il segretario del partito punto nevralgico per la guida politica che la funzione assicurava tanto che si rammaricava con chi gli stava accanto per l'errore fatto prevedendo il partito e non come era avvenuto il governo nel gennaio del 76 il bicolore andrà in crisi a causa di De Martino e della sua richiesta di equilibri più avanzati crisi intempestiva per la situazione economica per la complessità dei problemi concernenti la sicurezza nazionale per la mancanza di alternative nascerà poi l'ultimo governo di moro monocolore che porterà alle elezioni a fine anno moro si trovava a Belamonte nelle montane del Trentino e aveva deciso di non rispondere a nessuno dei politici anche a quelli a lui più vicini nel partito che lo chiamavano da Roma questi erano perciò costretti a passare attraverso di me che mi trovavo in Val d'Aosta fu una vacanza tormentata trascorsa il telefono con l'onorevole moro che evidentemente non disdegnava di vedere da lontano l'agitazione delle tante figure e figurine politiche un piccolo particolare che però documenta la decisione presa di moro di non sottostare più alla volontà socialista di non essere più disponibile a consunti giochi di mediazione nasce qui con le elezioni del 76 e di risultato elettorale favorevole ai comunisti la terza fase dopo il viaggio in America Moro aveva deciso come abbiamo ricordato il temporaneo ritiro dalla politica proprio perché si rendeva conto che non si poteva andare contro gli USA che avversavano in modo sempre più netto l'apertura ai comunisti in Italia le circostanze e lo stato di necessità che regolarmente come sempre lo avevano riconvocato alla cabina di comando lo avevano fatto desistere dal primitivo proposito nel 76 dopo le elezioni l'onorevole Moro rimane in carica per ordinare amministrazione in attesa di passare il testimone al nuovo presidente Andreotti è allora che si manifesta in tutta la sua violenza l'ostilità non solo americana ma degli alleati europei tedesco francese inglese contro l'Italia ciò avviene a Porto Rico alla fine di giugno nell'incontro dei capi di governo dei sette maggiori paesi industriali ultimo impegno internazionale al quale Moro partecipa in sede plenaria si discute degli aspetti tecnico-economici e non politici di un'aiuta dell'Italia in grosse difficoltà e solo nel corso di un incontro riservato che tutti e quattro i responsabili americano ed europei decidono di condizionare ogni loro partecipazione ad un futuro programma di aiuti economici all'Italia alla premessa che il nuovo governo di Roma non includa esponenti del partito comunista italiano la notizia non emerge subito ma due settimane dopo quando il cancelliere tedesco Schmitt lo confida si fa per dire a Washington ad un gruppo di giornalisti prevalentemente tedeschi egli assieme al francese Giscard d'Estaing era stato il più duro nella riunione le cui risultanze erano state comunicate in via breve e confidenziale agli italiani si è discusso sulle ragioni di questa pubblica presa di posizione tedesca secondo alcuni per esercitare una pressione sui socialisti italiani secondo altri ed è la cosa più probabile perché non si voleva soprattutto da parte tedesca e americana che ci fossero equivoci sul loro atteggiamento tanto più che da parte italiana non si era fatto nulla per smentire l'impressione degli osservatori e dei giornalisti che a Porto Rico si fosse attenuata e non aggravata la pregiudiziale negatività quando scoppia la polemica in Italia ci si chiede che cosa avesse fatto Moro era stato presente e non aveva replicato nulla non era stato presente perché non invitato o era stato avvertito ma aveva preferito non presentarsi per non assistere all'umiliazione del suo paese io propendo per questa terza ipotesi e tuttavia a distanza di 32 anni il ministerio degli esteri potrebbe in questo caso come in tanti altri mettere a disposizione la documentazione che certo esiste non va neppure dimenticato che l'onorevole Moro non poteva prendere alcun impegno stante la sua posizione di presidente di missionare ma si sa la polemica non va per il sottile in ogni caso l'autonomia ed il rispetto della sovranità nazionale che secondo i critici non sarebbero state convenientemente tutelate Moro come abbiamo visto le ha rivendicate verso Siri e le rivendicherà con americane ed alleati nei fatti proseguendo nella sua strategia verso i comunisti siamo giunti al passaggio più delicato della vicenda politica di Aldo Moro la strategia dell'attenzione verso i comunisti Moro non ha mai accettato né in linea di principio né in linea di fatto che ci si potesse contrapporre al comunismo organizzando una qualsiasi armata brancaleone che raccogliesse qualsiasi partito e qualsiasi voto nella indifferenza per i valori della democrazia così ha proceduto con estrema cautela per quanto si riferisce ai comunisti nei confronti dei quali il problema si era posto sin dall'inizio perché era inimmaginabile che potessero rimanere alla lunga fuori dallo Stato vaste massi di cittadini inseriti certo nella vita democratica ma esclusa dal governo della nazione per quella convenza ad escludendum sintetica espressione diventata celebre del costituzionista Leopoldo Elia che colpiva i comunisti per la loro ideologia e collocazione sul piano internazionale convenza ad escludendomi in una libera traduzione vuol dire semplicemente essere tutti d'accordo ad escludere i comunisti dal governo problema politico che non poteva trovare però una soluzione se non in tempi storici non individuandosi allora alcuna evoluzione positiva secondo il criterio della libertà nel corso degli anni e sotto l'effetto degli eventi nazionali e internazionali anche nel partito comunista una sensibile modificazione era intervenuta con una moderata ma progressiva presa di distanza dalla subordinazione verso Mosca con un riconoscimento della posizione internazionale del nostro paese sia in Europa che nell'Alleanza Atlantica e nella Nato con un'accettazione della struttura economica e sociale dell'Italia e la rinuncia sul terreno politico alla prospettiva del socialismo anticapitalistico molto interesse suscitarono i tre articoli su rinascita dell'onorevole Berlinguer all'indomani della drammatica esperienza di Allende in Cile finita nel sangue e nella infame dittatura di Pinochet nei quali sostenne con estrema chiarezza che non si poteva immaginare di governare un paese come l'Italia con il 51% dei voti e dunque si doveva ipotizzare un compromesso fra le forze più importanti quelle comuniste e quelle cattoliche che poi si chiamò compromesso storico tutto questo bastava per inserire i comunisti nel governo del paese non bastava a Moro e non gli sarebbe bastato per altro tempo forse per anni se gli accadimenti non fossero precipitati con la constatazione dei due vincitori nelle elezioni politiche del 76 quando i comunisti furono lì per sorpassare la democrazia cristiana venne posta dunque sul tappeto l'inderogabile necessità di trovare una qualche intesa per non far correre al paese il rischio di uno scontro frottale e fatale se i due partiti antagonisti avessero scelto di puntare ciascuno in alternativa all'altro alla radicalizzazione della battaglia politica e come negli anni della costituente nonostante De Gasperi avesse cacciato i comunisti del governo a causa della loro doppia politica ad un tempo di lotte di governo intimamente contraddittoria i lavori dell'assemblea proseguirono in uno spirito di effettiva collaborazione così anche adesso lo stesso spirito ispirò i contendenti parimenti illuminato e responsabile anche se è faticoso e piuttosto difficile proviamo a sintetizzare questo percorso che comincia dal 69 da quella strategia dell'attenzione a tutto ciò che di nuovo si andava producendo nel più grande partito di opposizione e che consentiva la possibilità e l'opportunità di stabilire nel quadro istituzionale corretti ed utili rapporti tra maggioranza ed opposizione ma in rilievo ovviamente l'opposizione comunista non si trattava di mera educazione ma neppure di strategia dell'equivoco bensì di esplicitazione piena della vita democratica in un momento nel quale tutto il sistema politico doveva porsi il problema di corrispondere alle richieste di partecipazione di una società diffidente e restia nell'aprile del 69 in un discorso adudine Moro constatando il distacco tra potere ed opinione pubblica temo un'alternativa che potrebbe essere fuori del sistema per questo occorre il contributo dell'opposizione comunista per rendere possibile una sintesi tra la spinta democratica e garantista e la spinta rivedicazionista e libertaria così da assicurare l'evoluzione sociale e la salvezza del sistema democratico l'appello rivolto ai comunisti non è un capriccio né espressione di un inconcepibile opportunismo deriva dalla gravità della situazione anche se non è pensabile alcuna comune gestione del potere con il partito comunista il confine della maggioranza non può essere superato va invece ravvivata la dialettica democratica e l'assunzione di responsabilità ciascuno nel proprio campo sia della maggioranza che delle opposizioni facciamo un salto dal 69 al 73 all'odicesimo congresso democristiano nel quale Moro parla della impossibilità di un'alternativa sia di avvicinamento sia di avvicendamento nella realtà italiana dove esiste una democrazia difficile che però non cessa di essere una democrazia con i comunisti perciò e lo dirà nel discorso di presentazione al Parlamento del suo governo nel 74 il rapporto è per sua natura dialettico o nel senso dell'alternativa o nel senso del confronto confronto appunto ma non compromesso storico che sarebbe una sorta di inaccettabile incontro la metà strada chiusi alla confusione tra maggioranza ed opposizione siamo aperti dice Moro all'attente e costruttiva considerazione e valutazione politico-parlamentare di quel che viene pensando dicendo e facendo il partito comunista perché siamo nel giugno del 75 la democrazia italiana ha ridotte possibilità di un vero succedersi di forze politiche nella gestione del potere Moro fa una serie di comizi in vista delle elezioni regionali e perciò accentua come naturale la distinzione dai comunisti dei quali dice ci differenzia la concezione dell'uomo e della società la visione della vita economica e dell'assetto istituzionale e infine la collocazione internazionale argomento quest'ultimo non usato certo come alibi stante la pressione esercitata sull'Italia dagli Stati Uniti d'America la situazione però non può essere osservata solo a livello dei partiti e dei loro rapporti sotto si muove la società si muovono i giovani che non hanno più nei confronti dei comunisti la pregiudiziale storica che valsa per tanto tempo lo si constata nelle elezioni regionali del 15 giugno 1975 qui commenta Moro nell'intervento al Consiglio Nazionale democristiano accade qualche cosa di nuovo che produrrà un'accelerazione nei rapporti politici i comunisti hanno un risultato che li avvicina come non mai a quello della democrazia cristiana la cosa di per sé non sorprende essendo tipico delle democrazie l'alternarsi delle forze politiche al potere ma in Italia c'è il partito comunista e questa volta non sono entrati nella valutazione compiuta senza tenta riflessione degli elettori i motivi di dubbio e di fidenza che hanno fin qui fatto da freno all'espansione comunista il partito comunista non è stato più considerato un partito diverso è così caduta per molti la barriera morale e politica che per alcuni decenni era stata inalzata nel marzo 76 al 13esimo congresso della democrazia cristiana Moro rileva le modifiche intervenute nella politica comunista compiute per adeguarsi alla psicologia del paese meno rigore classista impegno per le libertà democratiche riesame di alcuni dati della politica estera differenziazione dal comunismo internazionale tutto ciò non rende ancora ammissibile e auspicabile l'accesso del partito comunista italiano al potere il contesto è più sereno ma il netto distacco rimane dopo un lungo confronto delle due impostazioni quella democristiana e quella comunista Moro conclude con un no all'associazione dei comunisti alla responsabilità del potere un no al coinvolgimento della democrazia cristiana in una comune esperienza di governo con il partito comunista e si torna al confronto quale strumento necessario è sufficiente un confronto serio rigoroso rispettoso fino ad ora il primato della democrazia cristiana serviva non per soffocare le altre forze politiche ma come stabilità e continuità della vita democratica dopo le elezioni regionali del 15 giugno 1975 la distanza di sicurezza tra democrazia cristiana e partito comunista italiano sostanzialmente confermata per 30 anni si è raccorciata il partito comunista è a ridosso della DC in una situazione nuova e allarmante alla fine del 1976 il 10 dicembre Moro scrive un impegnativo articolo intitolato riflessione sul giorno quotidiano con il quale collabora molto volentieri acquisendo via il mestiere dell'editorialista anche se oppone una tenace resistenza alle pure esigenze di fattura giornalistica Moro parla di momento di riflessione dice che la fase politica che viviamo è una serissima pausa di riflessione e aggiunge chiediamo rispetto per il nostro travaglio al centro della riflessione sono il partito comunista e il rapporto da stabilire con esso ricerca che però non ha uno sbocco obbligato c'è qui una specie di disperato appello ai partiti del centro sinistra per un impegno solidale in vista di obiettivi democratici la cui attuazione potrebbe essere disegnata in modo del tutto nuovo certo o rilovato centro-sinistra allontanerebbe l'urgenza del rapporto con i comunisti ma è mera illusione i comunisti ormai sono indirizzati una certa strada e così con loro i socialisti Moro constata che incertezza e indecisione sono di tutti in una situazione nuova che deve essere decifrata intanto siamo giunti dal confronto a qualcosa di più perché il governo Andreotti subentrato dal quinto governo Moro dopo l'elezione del 76 usufruisce come dicevo della stensione comunista che non è frutto di un accordo che sarebbe impossibile ma di autonome assunzioni di responsabilità è questo l'equilibrio più avanzato configurabile nella realtà politica italiana non si potrebbe andare più in là senza ignorare dati interni ed internazionali ma non si può neppure ipotizzare la sfaccatura frontale del paese la terza fase non è delideata siamo nel 77 verso il suo compimento il moto diventa più veloce a Firenze in aprile reagendo ad atti di intolleranza e di violenza contro la democrazia cristiana per la devastazione di sue numerose sedi Moro compie in qualche modo un passo avanti anche se ancora circospetto parla di intesa tra i partiti la cui diversità è irrilevante di fronte all'esigenza che restano intatti gli strumenti mediante i quali si svolge la vita democratica del paese nella diversità dei ruoli si iscrivono le possibili convergenze di progetti politici più necessarie e più ampie di fronte ai problemi primordiali e essenziali che rendono scuro e preoccupante il momento storico in una simile circostanza un certo grado di unità può prevalere su legittime differenziazioni nel reciproco rispetto e nella piena autonomia ideale e politica alla fine del mese di aprile il 22 a Mantua ad una delle più imponenti assemblee di democratici cristiani della sua vita un Moro sorpreso e felice dice esalta la vitalità del partito nella provincia e in generale in uno dei momenti certamente più difficili della sua storia sulla situazione che si è determinata con le elezioni politiche che hanno visto rafforzarsi i PC ma anche la DC e hanno portato come abbiamo già detto all'astenzione comunista dice che essa è per qualche aspetto una situazione nuova che entro limiti rigorosi viene accettata in condizioni di necessità dalla democrazia cristiana ma non è certo la posizione nostra tradizionale la più congeniale alla democrazia cristiana dobbiamo fare appello e lo facciamo al nostro senso di responsabilità ma non siamo in una posizione agevole è chiaro che alla lunga l'astenzione non basta ai comunisti e da allora intese programmatiche sono possibili per rafforzare il governo ma non fino a configurare delle alleanze globali politiche moro conclude sottolineando per l'ennesima volta gli elementi di diversità che fanno della dc un partito in alternativa ideale con il partito comunista ma ormai siamo all'ultimo atto del dramma politico per quanto riguarda moro al famoso discorso ai gruppi parlamentari democristiani di senate camera che li pronuncia il luogo del segretario zaccanini ammalato ma anche moro è disturbato da un forte raffreddore egli riconosce la lentezza della procedura con la quale si è arrivato a questo momento decisivo ma gli ultimatum per fare in fretta servirebbero solo a far precipitare le cose ed invece ad interrogativi angosciosi si devono dare risposte frutto di riflessione e di grande responsabilità siamo davanti ad una situazione difficile nuova inconsueta conseguenza dei vari risultati elettorali e prima del referendum sul divorzo della dichiarazione socialista di fine della politica di centro-sinistra dei governi a due poi monocolori di una stampa interessata a dichiarare decaduta dal trono la democrazia cristiana in questo senso i risultati delle elezioni del 20 giugno 76 hanno invece riconfermato la forza di questo partito noi dicemora abbiamo avuto la vittoria ma non siamo stati soli anche altri hanno avuto una vittoria ci sono dunque due vincitori e ciò avrebbe potuto portare a nuove elezioni vista l'indisponibilità altrui ed invece non l'abbiamo fatto per rispetto ai problemi del paese abbiamo cercato una soluzione positiva nel limite ristretto disponibile dato che importanti partiti storici non hanno ritenuto possibile costituire una maggioranza nel senso tradizionale abbiamo cercato di vedere se tra democristiani e comunisti antitetici e alternativi per lungo tempo vi potesse essere qualche punto di convergenza se alcune cose da qui l'astenzione comunista e poi l'accordo politico programmatico ma ora c'è la crisi cominciata dai partiti intermedi e indi dagli stessi comunisti per la quale dobbiamo decidere che cosa fare per non rompere non distruggere non fare nulla di catastrofico ma anche senza compromettere ciò che è essenziale per la democrazia cristiana se abbiamo resistito per trent'anni è perché siamo stati flessibili e nello stesso tempo coerenti con noi stessi a questo punto l'onorevole Moro non si sottrae l'esame di tutte le alternative possibili compreso anche passare all'opposizione in difesa dei propri ideali ma alla fine di un lungo ragionamento euristico e non euristico adesso ve lo spiego conclude che è la crisi dell'ordine democratico l'anarchismo dilagante il rifiuto dell'autorità e del vincolo quella che deve preoccupare e spingere a ricercare un po' di aiuto dagli altri che pure hanno le loro responsabilità per questo stato di cose al fine di porre rimedio a questa crisi della nostra società ho detto prima euristico non euristico nel senso che c'è un modo di ragionare capzioso fazioso volto a entrare in inganno all'avversario qui invece il discorso è eristico cioè un discorso positivo costruttivo fatto dell'interesse di voler dare una risposta costruttiva cosa accadrebbe da chiunque fosse condotta fino in fondo la logica dell'opposizione in questo paese dalla passionalità continua e dalle strutture fragili ecco perché Moro invita a riflettere per trovare un modo accettabile di uscire da questa emergenza con un accordo opportuno misurato legato al momento cioè all'anno che separa dall'elezione del presidente della repubblica anno impegnativo per numerose scadenze oltre l'anno Moro non si sente di fare anticipazioni o di negare che non ci possono essere novità politiche e gli conclude che se fosse possibile andare oltre l'emergenza e passare subito al domani credo che tutti accetterebbero ciò non è possibile dobbiamo vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà preservando l'anima la fisionomia il patrimonio ideale della democrazia cristiana alla sua unità questo è l'ultimo discorso pubblico dell'onorevole Moro da libero il suo testamento politico ma qualcosa possiamo ancora tentare di conoscere su che cosa pensava per il futuro oltre l'anno Eugenio Scalfari ha pubblicato il 14 ottobre 1978 sulla Repubblica il resoconto del colloquio che aveva avuto con l'onorevole Moro il 18 febbraio dello stesso anno 20 giorni prima del rapimento e che poi ha inserito nel suo libro Interviste ai Potenti si tratta di un testo importante perché riferisce di pensieri dell'onorevole Moro sulla situazione politica e sui suoi possibili sviluppi che egli gli aveva confidato in forma riservata ritenendo inopportuna in quel particolare momento un'intervista ovviamente si tratta di un resoconto postumo che in parte mi tocca avendo io fatto da tramite per l'incontro particolare questo inserito nella premessa all'articolo da Scalfari pur senza preventivamente informarmene quale conferma dell'accaduto se il colloquio non è stato messo in dubbio c'è chi ha contestato l'opportunità e persino la correttezza deontologica di aver fatto parlare una persona che non poteva replicare c'è chi è andato oltre riferendosi al contenuto e all'interpretazione che ne ha dato Scalfari per parte mia non potevo sapere come esso si fosse svolto perché naturalmente non vi avevo partecipato Scalfari ricorda di essere stato nello studio di via Savoia per un paio d'ore questa era l'abitudine del presidente di ricevere di rado anzi molto di rado ma poi di intrattenersi a lungo c'è dunque una prima osservazione da fare il sunto è rispetto alla durata dell'incontro nel quale Moro avrebbe parlato quasi sempre lui per forza di cose sintetico basato su appunti che Scalfari era stato autorizzato a prendere il pensiero è perciò presentato nella sua forma essenziale senza quelle sfumature quei momenti di silenzio quel lento muovere delle mani che abitualmente assecondava il suo dire per sostenerlo o viceversa attenuarlo ci sono inoltre parole che non sono abituali nel lessico di Moro specie battagliare ma anche pilastro grammo zoppa inchiodata sfascia sfascio il che non significa in assoluto che non le abbia usate ma che con più probabilità siano state utilizzate da Scalfari nel prendere frettolosamente nota vorrei anche rilevare che ci sono tre espressioni che non sono tra loro equivalenti ad un certo punto Moro secondo Scalfari dice che la democrazia cristiana non ha più interesse egoistico a essere il pilastro essenziale di sostegno della democrazia italiana poco oltre afferba noi non siamo più in grado di tenere da soli un paese in queste condizioni ed infine parlando come vedremo dall'uscita dall'emergenza precisa finalmente la democrazia cristiana sarà liberata dalla necessità di governare a tutti i costi nel primo caso si adombra un motivo di convenienza a tirarsi indietro al limite del cinismo di natura certo non morotea nel secondo caso si dichiara una impossibilità a reggere da soli che è un atteggiamento realistico ed umile ad un tempo più in sintonia con il sentire di Moro nel terzo caso si tratta di una previsione politica risultato di un forte decisivo impegno francamente le tre espressioni non sono la stessa cosa ma forse conviene abbandonare la strada del modo del linguaggio della sua articolazione e limitarsi all'essenziale e non alla sua forma effettivamente Moro aveva percepito con estrema chiarezza che lo sbocco finale sarebbe stato quello dell'anarchia della disgregazione se non ci fosse stata una risoluzione politica dei conflitti sociali per questo si era convinto che la democrazia cristiana non poteva continuare a governare avendo su di sé quasi ed esclusiva il peso della responsabilità l'allargamento dell'area democratica fino a dove era possibile era stato di conseguenza l'obiettivo perseguito con ferma tenacia ad un certo punto si presentò la questione comunista Moro dice che nei confronti del partito comunista bisogna procedere per gradi accettazione quindi subito dell'ingresso del partito comunista italiano nella maggioranza parlamentare poi più avanti ma non troppo in là il suo ingresso nel governo stando al resoconto Moro non scende all'ulteriore specificazione che pure era nel suo pensiero che la partecipazione al governo voleva dire a quel punto sia ministri di area comunista i cosiddetti tecnici sia ministri politici cioè comunisti tu cura le due ipotesi potevano essere successive prima i tecnici poi i politici o contemporanee a seconda della necessità e questa necessità era che l'esperienza del rapporto con i comunisti andava esplorata a filo in fondo immettendo adottando via via gli strumenti necessari perché fosse evidente che la democrazia cristiana faceva sul serio che non c'era un atteggiamento tattico ma strategico nella reciproca messa in prova di democristiani e comunisti davanti agli occhi del paese l'onorevole Moro dunque con Scalfari si matiere prudente sugli sviluppi che sono ancora in discussione ma dice una frase essenziale e che secondo me Scalfari riporta testualmente soltanto dopo che avremo governato insieme e ciascuno avrà dato al paese le prove della propria responsabilità e della propria capacità si potrà aprire la terza fase quella delle alternanze al governo la seconda fase ricordo per inciso sarebbe stata quella dell'ingresso dei comunisti al governo l'onorevole Moro dall'autunno dell'anno precedente appunto il 1977 e fino al febbraio del 78 aveva avviato la più ampia consultazione che avesse mai condotto nella sua vita esponenti politici della democrazia cristiana e degli altri partiti personalità del mondo economico culturale dell'associazionismo si succedevano nel corso di lunghissimi colloqui che per lo più si svolgevano nel suo studio privato di via Savoia e li ha intratteneva i suoi ospiti non solo sugli aspetti immediati e contingenti ma anche sulle prospettive sui tempi lunghi e quanto più procedeva dalla sua indagine tanto più constatava che alla democrazia cristiana mancava la preparazione e forse anche la lucidità di accettare la sfida che in chiave politica e storica le si poneva davanti sarebbe stato necessario abbandonando le battaglie di retrovia i contrasti sempre più vuoti di contenuto le contrapposizioni divenute sterile convocare tutte le persone disponibili del proprio mondo radunare tutte le energie per ammettere a punto non un programma della cui efficace in sé aveva sempre dubitato e continuava a dubitare ma un'idea dell'Italia del domani secondo la visione democratico cristiana un'idea non generica astratta bensì concreta e circostanziata in modo che tutti potessero conoscere in che maniera secondo quale interpretazione della realtà la democrazia cristiana intendeva corrispondere ai problemi agli attese alle necessità dell'Italia inserita in Europa e nel mondo se ci applicassimo sul serio potremmo avviare diceva con una democrazia cristiana dai lineamenti forti e marcati e capace di iniziativa il confronto serrato con i comunisti punto per punto tema per tema facendo capire bene alla gente all'opinione pubblica all'elettorato infine chi siamo che cosa vogliamo fare che cosa rifiutiamo e sarebbe dovuta derivare una rappresentazione nicida tutto tondo del diverso concetto di società e di stato della diversa impostazione sociale ed economica della natura peculiare dell'uomo e dell'umano secondo la democrazia cristiana rispetto a quella dei comunisti Moro risponde a Scalfari a una domanda che non compare nel resoconto ma che è manifestamente sottintesa affermando che è assolutamente contrario al progetto di compromesso storico lanciato dal partito comunista italiano per tutta una serie di ragioni storiche sia italiane europee e politiche per la struttura sociale e più in generale diremo oggi antropologica dell'Italia nel suo pensiero a questo punto si inibita esporre solo quanto segue dopo la fase dell'emergenza si aprirà finalmente quell'alternanza e la democrazia cristiana sarà liberata dalla necessità di governare a tutti i costi ma in mezzo che cosa ci sarebbe stato che cosa immaginava Moro ci dovesse essere ebbene ci doveva essere una consultazione elettorale decisiva una specie di rinnovato 18 aprile sia per mobilitazione e partecipazione popolare sia per il carattere ultimativo e definitivo della domanda che si sarebbe dovuta rivolgere agli italiani il suo tenore doveva essere per se poco questo cari elettori vi sono stati proposti in questi mesi due modi diversi alternativi di immaginare intravedere e già in qualche misura attuare il quadro di insieme dell'avvenire del nostro del vostro paese ora li avete conosciuti bene in faccia gli uni e gli altri sapete dove intendono portarvi e per quale via avete dunque tutti gli elementi per scegliere e decidere adesso aspetta a voi indicare con il vostro voto la strada dire in qualche maniera una volta per tutte con chi volete stare e da chi volete essere governati è finito il tempo dell'esclusione e si sta compiendo quello delle inclusioni stanno cessando le preclusioni ideologiche soprattutto perché le parti a confronto si riconoscono reciprocamente la legittimità democratica teniamoci bene non è che Morono avesse chiaro davanti a sé che cosa erano stati il 18 aprile e la scelta in favore della democrazia cristiana anche da parte di un elettorato moderato e persidio decisamente di destra se non reazionario da parte di centi liberali laici se non anticlericali persone singoli e raggruppamenti sociali che non si sarebbero mai sognati di votare per un partito cristiano alimentato sostenuto e in molte situazioni sorretto da quei comitati civici di Jedda che rappresentavano la nuova e aggiornata versione delle corciate la dc era stata scelta perché non se poteva fare a meno contro la minaccia incombente del fronte popolare contro la violenza tipo il triangolo della morte in emilia romagna dove furono eliminati nemici politici anche di sinistra e di classe quali proprietari terrieri colpevano solo di essere tali quella del 18 aprile era stata presentata come una scelta di civiltà dettata sì dalla speranza ma molto dalla paura nell'ombra fitta della sera che ormai diventava notte in quella stanza lunga e stretta già di per sé piuttosto lucubre nella quale non si accendeva alcun lume se non tardi l'onorevole Mordo poi lunghi colloqui confidava il suo sentimento al suo collaboratore che cercava di ottenere superando una discrezione sempre più rigida un lume questo sì più chiaro possibile su quello che stava per accadere ma di quella fase egli non sarebbe più stato nella vita del suo partito e della politica in generale il protagonista diretto alla domanda se pensava alla presidenza della repubblica dice Salferi Moro tagliò a corto come chi avendo parlato di altri problemi venga ricondotto alla mediocrità del quotidiano e al commercio degli interessi credo però che la ritrosia non riguardasse tanto una sua eventuale ambizione che sarebbe stato comunque intempestivo confessare e che in ogni caso non prenderà mai in considerazione neppure in privato nemmeno nel corso di ragionamenti sul futeribile che portavano inevitabilmente a prefigurare quella conclusione poteva darsi che gli eventi lo avessero portato al Quirinale ad una funzione di supremo moderatore ma non era detto che così accadesse tanto più che quando si tratteneva con Salferi era ancora da superare le montagne più alte la segreta ambizione di More era un'altra quella di poter dire a se stesso più che agli altri di aver preso per mano il suo partito di averlo aiutato per molti anni a svolgere la funzione di guida del paese preservandone nonostante tutta l'unità di essersi battuto perché esso favorisse l'allargamento dell'area del consenso alla democrazia italiana ed ora che tutti erano cresciuti e diventati adulti di averli guidati alla scelta suprema questa volta non di civiltà ma squisitamente politica da un 18 aprile ad un altro 18 aprile 30 anni dopo simile al primo soltanto per mobilitazione popolare e carattere decisivo del quesito che sarebbe stato proposto ai cittadini sentiva di stare per portare a conclusione il suo compito da una scelta che fu di sopravvivenza e di necessità ad un'altra scelta sottratta alla cruda necessità che avrebbe potuto e dovuto essere solo di maturità politica sarebbe aspettato ad altri giunti alla terza fase continuare il suo ciclo stava per concludersi così credo vivesse moro gli ultimi mesi della sua vita ignaro del suo futuro ma presago di esso come tutti gli uomini capaci di riflessione meditazione e di interiorità che sentono nel profondo l'eco di ciò che sta per accadere e quella mano che racconta Scalfari moro gli mise sul braccio gesto effettivamente del tutto inconsueto come lui dice era forse più che un arrivederci e un addio con il risoconto del colloquio riservato di moro con Scalfari e con i miei ricordi personali ho cercato di fissare nei limiti di quel che sappiamo il pensiero dell'onorevole moro alla vigilia della formazione del governo presieduta da Andreotti che costituiva il punto di sbocco della strategia dell'attenzione verso i comunisti se questi sono i previsti possibili sviluppi che More in via riservata formulava ci furono però e sono quelle che davvero contano le sue prese di posizione pubbliche che attestano l'ultimo impegnativo compito snervanti in sé ma da lui pazientemente svolso di persuasione di convincimento del suo partito dei suoi gruppi parlamentari dell'opinione pubblica nella condizione in cui si trovava l'onorevole Aldo Mora ha cercato come ha potuto di aprire una linea di comunicazione con il mondo dal quale era stato violentemente portato via era nel suo diritto era un suo dovere verso se stesso la famiglia gli amici la politica quel mondo poteva corrispondere o rifiutarsi ma non ingannare l'opinione pubblica con espressioni quali non lasceremo nulla di intentato quando non si fece assolutamente niente se non lasciare trascorrere il tempo perché come si dice a Napoli passasse la nottata Ad Amnesty International fu ingiunto per telefono dai comunisti prima ancora che arrivassero a Londra i professori Lazzati e l'ambasciatore Gaia incaricati del contatto di non intervenire dal momento che il regolamento dell'associazione le impediva di occuparsi di esponenti politici dice infatti Amnesty per principio l'organizzazione non opera a favore dei governi dei partiti e di altri gruppi di interesse ma unicamente per il bene delle persone singole tenute prigioniere o incarcerate Amnesty cercò di distinguere tra richieste provenienti dal partito e quelle di persone vicine al rapito e alla famiglia ma la cosa non ebbe seguito lo stesso accadde con la Croce Rossa internazionale che di solito interviene in situazioni di guerra o di guerriglia e dunque non si voleva concorresse con il suo tentativo di mediazione a riconoscere alle Brigate Rosse la qualifica di formazione combattente all'avvocato Peillot che era stato contattato dalla famiglia in considerazione di sue precedenti esperienze nel rapimento del presidente della Confindustria tedesca Scheller fu proibito di assumere qualsiasi iniziativa dall'intervento del ministro dell'interno italiano su quello svizzero le pia intenzioni della Caritas si risolsero in una coccente mortificazione per la signora Moro la quale accompagnata da me alla sede dell'istituzione nel centro di Roma in attesa di una telefonata preannunciata dalle Brigate Rosse per le otto di sera si sentì dire da un presunto brigatista dalla voce sembrava un uomo di mezza età con accento meridionale che non era la signora Moro ma una che si spacciava per tale si parlò di un riscatto di 10 miliardi di lire pronte alla Banca Popolare di Novara e comunque di un tentativo di scambio basato sul denaro compiuto dalla Santa Sede e tollerato dai comunisti e autorizzato dal governo italiano ma si trattò comunque di un'idea assolutamente priva di senso destinata in partenza al fallimento e se non si fosse trattato di una tragedia persino ridicola se si pensa a ciò cui si diceva mirassoli brigatisti il riconoscimento politico da parte dello Stato a una puntata di Mixer il comunista Alfredo Reiklin disse in polemica con me che loro erano per la linea dura ritenendo che in cambio si stesse facendo tutto il possibile per scoprire la prigione di Moro ma dalle varie inchieste si è tratta la conclusione che non funzionarono i servizi segreti e che negli altri apparati dell'ordine pubblico era presente in essi una larga rete di elementi della P2 Leonardo Sciascia parla di operazioni di polizia destinate ad impressionare l'opinione pubblica con la loro quantità e vistosità incuranti della loro qualità anche il procuratore generale di Roma Pascalino ha parlato di operazioni di parata più che di ricerche ognuno nel suo grado di responsabilità è stato pienamente responsabile dice Teodori nella sua relazione di minoranza Ugo Picchioli che era il ministro dell'interno ombra dei comunisti apostrofò Cossiga perché a giorni di distanza dal loro ritrovamento in via Gradoli non era stato ancora aperto nessuno scatolone dei documenti recuperati quale conclusione si può trarre che non si fece nulla per salvare Moro che non si fece nulla per trovare il rapito e la sua prigione se qualcosa si fece sul piano dell'ordine pubblico lo si fece male l'interrogativo se fu per incapacità per disattenzione per dolo rimane e non ha trovato finora un'adeguata risposta quando uno stato è forte bene organizzato teso nella sua struttura a rendere un buon servizio ai cittadini quando la sua azione è trasparente il suo operato è legittimo la sua volontà chiara esso può anche non riuscire ma almeno resta in tutti il senso che ci abbia seriamente provato un grande politologo tedesco ha scritto sovrano è colui che decide nello stato di eccezione al di là delle possibili interpretazioni sul piano scientifico di questa celebre definizione per me qui essa evoca da un lato la valenza eversiva dell'ordinamento statuale che il rapimento dell'onorevole Moro ha assunto sin dall'inizio e dall'altro la responsabilità di chi ha determinato l'esito di quella vicenda ma occorre aggiungere che in quel caso lo stato di eccezione ha avuto una doppia causa l'azione criminale dei brigatisti e l'enormità oggettiva e non si sa quanto intenzionalmente soggettiva del vuoto della risposta eccezione sia quando uno stato consente che un suo uomo di primissimo piano possa essere rapito e quando ciò nonostante tutto accade non fa nulla per impedire il protrarsi della violazione che incide sulla sua stessa natura il rapimento di Moro non era una mera questione di ordine pubblico era una lacerazione del tessuto dello stato del potere dello stato sovrano è allora colui che o impedisce o corregge e reintegra trattare non era dunque cedere ma tentare di ripristinare la legalità cancellando l'offesa e reintegrando il diritto lo stato può permettersi tempi lunghi per chiudere il conto inattivo ma lo stato qui non c'era e non si è manifestato qui c'era il sistema politico che si è limitato a non vedere perché non vedendo affinto che in qualche modo l'evento non si fosse prodotto dunque Moro doveva sacrificarsi non per lo stato inesistente ma per il sistema politico nello stato di eccezione non ha funzionato il Parlamento che è stato esautorato e non ha trovato al suo interno alcun organo in grado di esprimere il punto di vista dell'istituzione non ha funzionato il Consiglio dei Ministri che non pare si sia mai occupato in modo esplicito del rapimento salvo qualche palida evocazione ad inizio di riunione a livello di Ministero hanno agito organi informali che hanno contato più di quelli formali a livello di partito non si è riunita la direzione se non il giorno dell'assassinio non si è riunito il Consiglio Nazionale si è formato un gruppo non istituzionale che ha seguito la vicenda in collegamento con il Partito Comunista se dunque i brigatisti hanno sequestrato Moro le forze politiche hanno sequestrato lo Stato con una sostanziale sospensione almeno delle consuetudini costituzionali l'onorevole Moro ha ricordato le iniziative riservate che erano state prese per risolvere questioni molto delicate della vita degli italiani quale ad esempio la sicurezza dall'aeroporto di Fiumicino e più in generale quell'insieme di attività che normalmente si svolgono per la tutela delle persone e dei beni qui non c'era da dichiarare lo Stato di guerra che comunque esisteva già tra lo Stato e le Brigate Rosse questa volta era sufficiente considerare Moro un patrimonio dello Stato almeno quanto Fiumicino nessuno poi riuscirà a convincere un osservatore sul perché per Moro la risposta fu un no e per Cirillo un sì perché per Moro si registrò l'inefficienza più totale e per Dozier un impegno efficace e risolutivo al di là di tutto questo il problema di trattare o non trattare era un falso problema un artificio di comodo in realtà la politica quando è tale non ammette posizioni rigide fin de non ressevoare essa per sua natura cerca di cogliere le contraddizioni degli altri di entrare nelle pieghe per sorprendere e assumere l'iniziativa a questo proposito ricorderò l'unico colloquio che ho avuto con il segretario della democrazia cristiana Benigno Zaccanini la sera in cui partecipai per la prima e l'ultima volta ad una riunione al ministero dell'interno quando arrivò la prima lettera dell'onorevole Moro a Cossiga l'onorevole Zaccanini mi telefonò per avere qualche mia impressione su quale sarebbe stato l'atteggiamento dell'onorevole Moro in una circostanza del genere io parlai di flessibilità nel senso appunto di non precludersi ogni sviluppo possibile con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura l'onorevole Zaccanini mi disse parlare con il direttore cioè quello del popolo l'organo ufficiale della democrazia cristiana ebbi subito l'impressione di una freddissima accoglienza che poteva essere anche solo fastidio per l'interferenza non certo indebita perché non era di mia iniziativa fu poi detto e quindi smentito che io avessi mandato un articolo quando mi ero solo limitato a riferire dalla telefonata con il segretario cito l'episodio perché di lì a poco mi telefonò il professor Leopoldi che evidentemente si era trovato a piazza del Gesù il quale mi disse nulla da fare la linea sarà quella del massimo rigore chi la invoca più di tutti è l'onorevole piccoli così fin dall'inizio è stato il comportamento di chi andava dicendo che non si sarebbe lasciato nulla d'intentato ucciso l'onorevole Moro mi recai un giorno a trovare il senatore Fanfani che conoscevo da 25 anni a Palazzo Giustiniani in un momento di grande difficoltà anche personale egli mi trattenne qualche tempo ad un certo punto quasi bruscamente mi apostrofò io so quello che tu vorresti dirmi che se dall'altra parte ci fossi stato io e qui ci fosse stato l'onorevole Moro le cose sarebbero andate diversamente e mentre uscivo dal suo studio mi raggiunse e da dietro mi fece una carezza sulla testa a giustificazione della linea della fermezza si è persino detto che non si è potuto trattare perché i brigatisti non hanno accettato la trattativa bisognava almeno provare a porle in difficoltà facendo crescere con azioni appropriate la spinta dei gruppi che si opponevano all'esecuzione non è stato fatto nulla di tutto ciò perché la situazione era irrigidita dal particolare rapporto tra comunisti e democristiani i primi i comunisti che dovevano bloccare nel modo più reciso ogni possibile simpatia verso i gruppi extra parlamentari da parte di componenti delle posizioni a sinistra del partito e soprattutto dei sindacati ben conoscendo il clima che esisteva nelle fabbriche i secondi i democristiani che erano terrorizzati dal timore di rimanere soli nell'affrontare una vicenda così drammatica è stato detto che è prevalso il senso dello Stato in realtà ha giocato innanzitutto l'istinto di conservazione che ha paralizzato praticamente la gran parte delle forze politiche salvo pochissime eccezioni che hanno però solo increspato per qualche momento l'onda piatta del panorama complessivo anziché la difesa dello Stato ha prevalso la ragione di Stato cioè quell'organica tendenza a ricercare la propria sopravvivenza a scapito di ogni altra finalità come si legge nelle enciclopedie c'è chi ha chiesto allora la pena di morte esclusa dalla nostra Costituzione per un principio di civiltà per quanto uno si sforzi di non mescolare passato e presente non si può non notare un dato singolare che i più recisi difensori della linea della fermezza si sono trasformati anni dopo in fieri propugnatori del diritto ed anzi del dovere di trattare quando si è voluto salvare ostaggi ovviamente dichiarando che era tutta un'altra cosa come se l'onorevole Mor non fosse stato un ostaggio e come se le brigate rosse non potessero essere considerate l'equivalente dei talebani e quando di recente si sono levati voci autocritiche sulla linea della fermezza da parte di cattolici ed ex-democristiani che avevano avuto responsabilità si è invece ribadito a trent'anni di distanza la propria perentoria intrasigenza come se nel corso di tanto tempo non fosse sorta in loro neppure l'ombra di un principio di dubbio ma torniamo a quei giorni al diritto dovere di proteggere la vita umana come una inderogabile esigenza che però non si è avvertita neppure in larghi strati del mondo cattolico i quali o hanno ritenuto si dovesse soccorrere il sistema dei partiti per un principio d'ordine da salvaguardare o hanno come ha scritto il Riccardi da noi già citato considerato la vicenda una tragedia della politica e non del mondo cattolico ci fu però il tentativo compiuto da Papa Paolo VI di fare il possibile per salvare la vita dell'onorevole Moro nessuno del cosiddetto partito della famiglia ha mai negato l'alto valore del gesto la sua nobiltà ma la questione è che nel messaggio alle Brigate Rosse il Papa ha usato l'espressione liberate semplicemente senza condizioni che oggettivamente annullava non il significato morale ma qualsiasi potenzialità operativa dell'intervento a favore di Moro su questo particolare si è scatenato una polemica che non si è placata per molto tempo questi i fatti quando ucciso l'onorevole Moro il cardinale Poletti allora vicario di Roma telefonò alla signora Moro per invitarla a nome del Papa a partecipare al funerale che si sarebbe tenuto in San Giovanni assenti il cadavere che era già stato sepolto a Torrita Tiberina la signora rispose che non poteva farlo in esecuzione della volontà del marito il cardinale insistette allora la signora aggiunse che il marito aveva lamentato il Papa ha fatto pochino forse ne avrà scrupolo e il cardinale Poletti rispose che non era responsabilità del pontefice ma del governo il quale aveva preteso che non si intaccassi in alcun modo la linea della fermezza Andreotti ha sempre negato questo intervento poggiando anche sul fatto che il cardinale Poletti era nel frattempo morto e quindi non poteva né confermare né smentire e quello che io presente alla telefonata avevo testimoniato non poteva reggere nei suoi confronti Ubi Maior con quel che segue rimane che il pontefice secondo il diario Paolo VI e la tragedia di Moro del suo segretario Pasquale Macchi fece una prima stesura che poi fu portata a casa di Monsignor Casalori il quale suggerì qualche lieve marginale modifica il Papa a seguito di questo intervento e di un suo ripensamento su di una parola ricopiò a mano due volte il testo nel cuore della notte sappiamo dunque con certezza che delle correzioni ci sono state se non sono quelle indicate da me quali altri sono state fatte tanto da impore al Papa di riscrivere la lettera non certo errore di grafia di grammatica o di sintassi Macchi comunque nega qualsiasi modifica suggerita dal governo italiano o da qualsiasi altra persona Andreotti su 30 giorni dell'aprile 2006 il mensile che dirige scrive che Don Macchi quasi ogni sera veniva a casa mia per aggiornare il pontefice studiare possibili interventi confortarci reciprocamente e dunque noi dovremmo credere che avendo Paolo VI deciso di scrivere quella lettera Don Macchi non gliene abbia parlato e non gliel'abbia fatta vedere o almeno telefonata e Andreotti non abbia dato il proprio parere più che legittimo si intende meno legittimo o almeno meno convincente e negare quello che ha detto un morto solo perché è morto ma c'è di più parlando del citato libro di memoria di Don Macchi Andreotti scrive che c'è una sola omissione quella che si riferisce all'ipotesi di riscatto da noi già ricordata Andreotti ne parla a lungo come cosa che avesse qualche significato cerca anche di spiegare per quale motivo di prudenza verso un mediatore Don Macchi non ne abbia scritto ma le cose non stanno così perché a pagina 21 se ne parla in modo sintetico ed esauriente e dunque la memoria di Andreotti come ha fatto Tilt una volta può ben averlo fatto anche una seconda magari in accordo con Don Macchi per motivo di opportunità se su un particolare certo importante ma non decisivo non si riesce a stabilire la verità cosa sperare per fatti ben più gravi anche perché si può pensare che il Papa volesse aiutare sì Moro ma non mettere in difficoltà il governo in una situazione tanto drammatica solo che qui c'è una ragione di Stato o una ragione di Chiesa o tutti e due insieme che vanno a danno del prigioniero abbandonato nel fondo di un'angusta prigione il quale prigioniero nella lettera al Papa aveva scritto solo la santità vostra può porre di fronte alle esigenze dello Stato comprensibili nel loro ordine le ragioni morali e il diritto alla vita ma se questo contemperamento è stato tentato esso ha privilegiato le prime e non le seconde e alle prime in modo freddo e burocratico si riferisce Andreotti in una lettera al Papa nella quale ribadisce la linea della più totale rigidità con il linguaggio che i francesi definiscono langue deboise e che è intraducibile in italiano e così la persona che un anno prima si era alzata in Parlamento per difendere non tutta la democrazia cristiana e non tutti i suoi uomini ma la funzione storica del partito in trent'anni l'uomo che aveva pagato un prezzo altissimo nei confronti dei cattolici di sinistra dei gruppi post conciliari che per quel discorso lo avevano spressantemente identificato con l'emblema del regime democristiano colui che avrebbe potuto limitarsi a difendere l'onorevole Gui come giurista e avvocato e che invece aveva di barattamento affrontato il pericolo di un'interruzione del nuovo corso politico ora veniva non solo lasciato nell'abbandono più totale ma delegato nella sua identità nella sua credibilità una dichiarazione di amici di moro dal cardinale pellegrino all'ex assistente della fuci donzama a giuseppe lazzati vittorino veronese gabriele de rosa pietro scoppola francesco casavola ma l'elenco non è completo ci sono altri nomi altrettanto sorprendenti sottolinea che i testi dell'onorevole moro non possono rappresentare il pensiero e il sentimento di un uomo libero e padrone dei suoi atti essi vogliono difendere la fisionomia di moro intanto ne sfigurano il volto lo marcano come uno che nel giro di poche settimane ha perso autocoscienza lucidità come se fosse un qualsiasi rapito di fragile costituzione psichica e morale certo ci sono state tante altre prese di posizioni di segno opposto da parte di rilevanti personalità ma è questa lista di amici di moro che pesa e revoca in dubbio la capacità critica di coloro che vogliono difendere moro contro se stesso ergendosi a tutori del loro moro senza chiedersi davvero se il moro che dipingono non è il solito stereotipo della vittima drogata ed ora il suo corpo giace sul lunghissimo tavolo dove gli anatomopatologi dovranno fargli l'autopsia è il primo pomeriggio del 9 maggio 1978 dobbiamo al senatore Fanfani se possiamo vederlo prima che i medici inizino il loro lavoro mi trovavo solo con la signora Moro nella sua abitazione quando Fanfani si giunse per esprimere il proprio dolore e la propria partecipazione mi resi conto che la signora avrebbe voluto fargli una domanda ma che ne era trattenuta non saprei dire da che cosa allora osai io ad interpretare il suo pensiero senatore gli dissi la signora vorrebbe chiedere di vedere il suo marito prima dell'autopsia non feci in tempo a completare la frase che egli era già scattato al telefono chiedendo del procuratore generale della Repubblica dottor Pascalino il quale obiettò che non era possibile era già trascorso troppo tempo dal rivenimento del cadavere e che bisognava procedere con urgenza alle indagini il sedatore Fanfani insistette facendo presente il buon diritto dei familiari e la loro comprensibile diffidenza il procuratore alla fine consentì purché l'adempimento richiesto avvenisse il più rapidamente possibile partiamo subito tutti noi familiari ed amici stretti in gran fretta con due o tre macchine se ben ricordo che procedetto la sirene spiegate lungo il percorso fino a via Fani che aveva compiuto 55 giorni prima l'onorevole Moro poi oltre lungo i viali Parioli Liegi Regina Margherita fino al quartiere San Lorenzo dove si trova l'obitorio dopo tanto silenzio dopo l'ammutolimento seguito la notizia della uccisione quelle sirene laceravano i timperi stringevano in una morsa il cuore irrigidivano le gambe come se da un momento all'altro dovesse accadere un mortale definitivo incidente riferisco ovviamente le mie sensazioni perché nessuno parlava nella macchina dove erano stretti uno addosso all'altro fuori tra i non moltissimi passanti di quel primissimo pomeriggio il vociante corteo non sembrava destare né meraviglia né curiosità essendo da tanti giorni la città invasa per ogni dove da macchine con sirene spiegate alla ricerca del nulla all'obitorio attendemmo che l'onorevole Moro fosse portato sul tavolone che nella memoria il ricordo pendente dall'alto al basso il cadavere quando ci fu mostrato era rattrappito sulle gambe piegate ancora vestito come era stato trovato nella macchina in via Caetani lo guardai di lontano dal fondo del salone nettamente separato dagli altri come se pretendessi di essere soltanto io a vederlo nell'ultimo contatto privo di emozioni se non quel senso di freddo gelido che bloccava anima e corpo le immagini scorrevano lente dal giorno del rapimento a quelli interminabili affannosi delle lettere trovate e consegnate delle convocazioni dai magistrati delle indagini inconcludenti dell'informazione da noi ricevute date agli inquirenti senza mai dico mai avere risposta a un riscontro negativo o positivo che fosse quando spostarono il cadavere quelle gambe ripiegate sospese qualche attimo per aria sembrava fossero rivolte al cielo in una grottesca ginnastica irrigidita per sempre ecco questo era il corpo di Aldo Moro che fu poi mostrato nudo in una serie di fotografie su di un settimanale diretto dal figlio di uno che era stato lungamente amico del presidente mi accorgo di usare ora all'ultima puntata per la prima volta la parola presidente un termine che ha per me un significato simbolico e perciò sacro che riassume la percezione che ho avuto di questa persona che mi è stata maestra perché mi ha insegnato moltissimo che mi è stata padre di elezione accanto al mio vero padre e ai padri spirituali che ho avuto ho servito quale collaboratore apprezzato e rispettato della sua funzione sempre valorizzato nel suo specifico compito e mai umiliato e anzi difeso se altri magari senza volere qualche volta l'hanno fatto ho preso delle decisioni clamorose come quella di imporre ad un ammeraglio d'origine istriana la presenza sulla sua nave di giornalisti jugoslavi che con un pretesto cercava di evitare nell'adempimento del mio lavoro per proteggerlo da polemiche certamente strumentali ma che sarebbero state ugualmente molto fastidiose che l'hanno messa in serie in barazza e quando ho chiesto scusa mi ha detto semplicemente ci sono cose che io non farei mai ma capisco che altri possono essere costretti a fare ha avuto un gesto di impazienza nei miei confronti alzandosi di scatto dalla sedia e abbottonando la giacca a doppio petto quando sempre che avevo diffuso un testo che secondo lui doveva ancora essere rivisto dopo averlo riletto soggiunse meno male quella volta se avessi sbagliato e la legge non scritta del bestiere mi sarei dovuto dimettere molte altre volte l'ho fatto di mia iniziativa ma lui li ha sempre rispinti in quasi 19 anni di collaborazione ho avuto un solo rimprovero quando promosso un'indagine di opinione su di lui e la sua attività politica negli anni dal 63 al 68 che secondo Moro ma sbagliò non sarebbe rimasta riservata nonostante le migliori intenzioni l'ho visto piangere alcune volte ma una mi rimarrà fissa per sempre negli occhi e nel cuore quando in un momento di fortissima polemica con la destra ad una numerosissima folla di suoi lettori gridò tra le lacrime non ci obbligherete a fare domani quello che nella nostra libertà non abbiamo voluto fare oggi l'ho visto portare un'ironica pazienza quando nel 77 recateci a Madrid dove la rinata democrazia muoveva i primi passi per dare una mano ai democratici cristiani spagnoli venne intervistato da una turba insolente di giovani giornalisti si fa per dire munite di improbabile perché antidiluviani i piccoli registratori i quali contestavano il diritto di parlare di democrazia a lui che era esponente di un regime corrotto e lui rispondeva forse possiamo esservi utili per evitare gli errori che ci contestate e che in parte almeno abbiamo commesso ma la Spagna lo incuriosiva l'abbiamo percorsi in lunga e di largo più volte la Mancia Avila Toledo Salamanca Cordoba Siviglia Granada Valencia vuole andare a sentire a Madrid in un modesto locale in flamenco con lo stesso interesse con il quale di primo pomeriggio si ricava nei cinema della periferia romana alla ricerca di vecchi film che le aiutavano a ricomporre un'immagine fedele dei costumi e dei sentimenti popolari e quella notte a Madrid abbarbicati più che seduti su degli alti sgabelli a cercare di mangiare qualche cosa visto che non c'erano più ristoranti aperti quando gli riferimmo un po' scandalizzati che a Roma la principessa Parabicini aveva ospitato per una messa le febbre i suoi discepoli e gli ci disse ma lasciate che possano ascoltare la messa in latino se fa loro piacere una curiosità intellettuale che lo spingeva a visitare nei suoi viaggi università biblioteche mostre luoghi memorabili per motivi artistici o storici ma soprattutto curiosità umana sui modi di vivere sulle condizioni economiche e sociali di paesi dell'Asia e dell'Africa di quest'ultima in particolare tanto che all'atto della sua uccisione moltissimi giornali di quel continente misero in prima pagina la notizia Africa voleva dire per lui sole caldo in piena estate mentre gli altri accanto boccheggiavano visitò le piramidi di Luxor all'ora di colazione tutto concentrato sul panorama indifferente ai rivoli di sudore che percorrevano il suo corpo si adattava agli usi e alle abitudini come la cena di gala in Giappone con ognuno lui compreso affiancato da una geisha e accosciato su un ponticello sotto il quale scorreva un'acqua penso rituale ma non forse ad ingerire l'occhio del montone che l'ambasciatore Cottafavi con destrezza degna di un prestigiatore gli sottrasse nel momento di ingoiarlo ma forse l'ospite marocchino fece gentilmente finta di non vedere e la enorme piazza di Marrakesh prospicente il mercato con quella folla immensa suddivisa in un mare di piccoli gruppi gli domandarono se tutta quella massa ingente di persone avesse mai preso coscienza di sé e si fosse ribellata quale mondo ne sarebbe uscito e con molta calma rispose chissà quando ma succederà anche questo la prima volta da presidente del consiglio fu però a Londra via Parigi andò la mattina era domenica a messa nella cattedrale di Notre Dame e poi in un istorante fuori città poiché non prendeva l'aereo doveva essere stato ben poche volte all'estero poi avrebbe fatto almeno tre volte il giro del mondo quando prese confidenza col mezzo di trasporto aveva un rapporto personale penso di vera amicizia con Gromico si trattenne sia pure per un breve dialogo con Brezhnev alla conferenza di Elziche del 1975 sulla sicurezza e la pace in Europa e duole che il cardinal Casaroli nelle sue memorie non abbia trovato il modo di citare almeno una volta Moro che tanto aveva fatto per migliorare i rapporti internazionali l'ho visto ossequiare con grande partecipazione Re Baldovino di Belgio i cui tratti psicologici erano così simili ai suoi sono grato all'Onorevole Moro per infinite ragioni una di queste è che non mancò mai di presentarmi anche alle persone più inavvicinabili come Re Feisaldi Arabia Saudita ma ricordo un viaggio nelle Marche a Monte Marciano dove Moro si era sposato con Eleonora Chiaverelli viaggiamo su una vecchia elettorina credo ancora dell'epoca fascista e la signora mi regolò la riproduzione di un gozzo che ancora conservo sia pure mutilato dalla intraprendenza di un mio nipote rimangono dunque le memorie ognuno dei collaboratori ha le sue secondo la propria sensibilità ma restano anche i documenti del tempo della prigione del processo e della uccisione sono il memoriale e le lettere che ha scritto in quei 55 giorni non voglio entrare ora nella discussione sul primo documento esso è tuttora certamente incompleto ma non credo possono esserci dubbi sulla autenticità di quello che ci è pervenuto il contenuto è riscontrabile con quanto ha detto e scritto nel lungo periodo della sua libertà e suo lo stile il modo di esporre la concatenazione logica del ragionamento l'unica differenza è la diretta esplicita rappresentazione di alcune situazioni di alcuni particolari di certi nomi talvolta invece subentra l'antica misura accennando ai tre incontri che l'ambasciatore americano Gardner precisa ma grado la delicatezza del tema sul fatto che non conoscesse segreti e pertanto non li potesse rivelare avrei qualche dubbio non sarà stato al corrente dei dati tecnici riservati al ministro della difesa ma come ministro degli esteri per quasi un quinquennio certo era ben informato del quadro generale della strategia d'insieme dei vari dossier in discussione che era abituato ad analizzare uno per uno leggendo di persone in moltissimi telegrammi inviati dalle strutture diplomatiche all'estero ne sapeva di più di quanto di regola non sappia un presidente del consiglio al quale i ministri possono anche tacere più di una cosa ma io mi pongo un interrogativo su quello che è avvenuto nel carcere quando evidentemente qualcuno gli disse o egli capì forse fraintendendo come confessa lui stesso in una lettera che sarebbe stato liberato l'interrogativo riguarda se Moro avrebbe scritto quelle pagine amare e dolenti persino aspre che concludono nel memoriale e che risultano nonostante tutto molto diverse dal resto del documento sapendo di dover morire le avrebbe scritte quelle pagine quelle invece secondo me sono le affermazioni plausibili per una persona che restituita alla libertà intenda sottolineare una sua differenza non tanto per corrispondere ad un impegno preso con il supposto liberatore ma soprattutto per indicare una diversa impostazione nel suo futuro in questo scritto contenuto appunto nel memoriale Moro rievoca ed è in assoluto la prima volta come un ricordo di giovinezza quando passò dall'esperienza dell'azione cattolica a quella propriamente politica ma nel senso della continuità sottolinea una certa ingenuità e freschezza e fede l'intenzione era aggiornando i documenti di Malini e di Camaldoli di dare alla proprietà un'autentica funzione sociale e di promuovere gli interessi popolari Moro descrive il passaggio dalla società agricola a quella più complessa degli anni successivi caratterizzata da un fenomeno di laicizzazione e annota in ragione della funzione di rappresentanza di interessi cui corrispondono correnti il degrado della lotta nel partito che scade a lotta di potere le correnti non sono più organi di dialettica democratica ma gestori di interessi individuali o di gruppo nell'ambito del potere di governo e soprattutto di sottogoverno Moro ricorda e lo fa varie volte nel memoriale lo sviluppo tecnocratico auspicato per il partito in altre parole diremmo lamenta la indifferenza sul piano ideologico parla però anche dei tentativi di innovazione del partito rimasti però a mezza strada o non cominciati per nulla a questo punto l'onorevole Moro non trascura nell'analisi dei partiti dei rapporti con i comunisti la critica al finanziamento delle forze politiche soffermandosi su singoli episodi che destarono scandalo evidentemente il suo ramarico va al coinvolgimento della democrazia cristiana nella quale si è parlato persino nei giorni oscuri della strage di Brescia ma qui egli ha una reazione di onesta incredulità sull'ipotesi che ci possono essere democristiani coinvolti è da qui che parte una dura polemica quella ripeto che non ha senso se non nella prospettiva della sua promessa di liberazione polemica intrisa di ironia e di sarcasmo con giudizi molto pesanti in particolare sull'onorevole Andreotti nei confronti del quale ricorda la sua innata quarantennale irriducibile diffidenza la contestazione principale riguarda la mancanza di pietà umana Moro insomma si sarebbe aspettato per tutto quello che aveva fatto in favore di Andreotti per i consigli disinteressati dateli un atteggiamento di gratitudine mentre Andreotti è stato invece indifferente e assente secondo Moro l'unica preoccupazione di Andreotti era che bisognava non deludere i comunisti non deludere i tedeschi quelli di cui abbiamo parlato per la vicenda di Porto Rico ci sono parole molto dure oserei dire troppo dure nei confronti di Zaccagnini dolente senza dolore nell'onorevole piccoli che sbaglia sempre però senza cattiveria e di altri personaggi che gli sferza affermando che erano tutti lì quando la mia parola era decisiva egli reagisce con durezza perché ha capito che è stato abbandonato che se di lui è scesa l'ombra francamente insopportabile dell'obbrio reso più facile dagli innumerevoli tentativi di minarne la figura morale per rendere del tutto insignificante il suo essere o non essere sulla scena politica egli ha lottato con tutte le sue forze per aprire dei barchi alla trattativa per rendere possibile la strada della ragionevolezza del corretto rapporto tra i valori in campo la dignità dello Stato e l'inanielabile diritto alla vita per sé per i propri cari per la politica stessa ma quando si è reso conto dell'ineluttabile si è raccolto in se stesso ed ha pensato solo ai suoi cari e a Dio le lettere quelle scritte quelle ricevute quelle pare non consegnate che riguardano la famiglia le altre a questo punto non interessano più per la fine della storia esprimono sentimenti di amore di attaccamento a Pasqua manda gli auguri con tanta tenerezza per la mia famiglia ed il piccolo in particolare alla moglie dice mi consolo immaginando ricordando ripercorrendo gli itinerari che ora si scoprono splendidi della nostra vita spesso tanto difficile di ogni giorno io poso gli occhi dove tu sai e vorrei che non dovesse mai finire e pensando al piccolo al nipotino Luca di due anni scrive sarebbe per me una tragedia morire abbandonandolo e ancora la mia pena è Luca lo amo e lo temo senza di me sarà il dolore più grande forse non si deve essere neppure poco felici scrivendo della lettera a lui indirizzata che i familiari avevano fatto pubblicare sul giorno dice essa mi ha fatto un bene immenso dandomi conferma nel mio dolore di un amore che resta fermo in tutti voi e che mi accompagna e mi accompagnerà per il mio calvario in un'altra lettera dalla quale non tace pur in questo momento supremo la sua profonda amarezza personale prosegue ma non è di questo che voglio parlare ma di voi che amo e dammerò sempre della gratitudine che vi debbo della gioia indicibile che mi avete dato nella vita del piccolo che amavo guardare e che cercherò di guardare fino all'ultimo avessi almeno le vostre mani le vostre foto i vostri baci nell'ultima lettera scrive che per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi il ricordo di tutti di ciascuno un amore grande carico di ricordi apparentemente insignificanti in realtà preziosi unite nel ricordo vivete insieme mi parà di essere tra voi e rivolgendosi alla moglie scrive bacio e carezza per me tutti volto per volto occhi per occhi capelli per capelli a ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani queste le ultime parole struggenti vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo se ci fosse luce sarebbe bellissimo amore mio sentimi sempre con te e tienimi stretto in tutte le lettere tenendo conto anche di quelle non pervenute degli abbozzi vari ci sono tre costanti che si intrecciano l'amarezza profonda forte radicale per il trattamento subito non si è trovato uno che si dissociasse per l'inammissibilità concettuale che non si fosse individuato o voluto individuare una strada dignitosa per la salvezza qualche cosa di inconcepibile di sorprendente per l'intelligenza e la sensibilità di Moro a quanto a questa amarezza l'amore per la moglie i figli e l'adorato nipotino terzo la rassegnazione cristiana il piegarsi dell'animo e del cuore al mistero che regola la vita umana e di confidare in Dio nel rimpianto di non avere la fede della moglie e della nonna ho tentato di tutto ora sia fatta la volontà di Dio credo che tornerò a voi in un'altra forma ci rivedremo ci ritroveremo ci riameremo e mentre si avviava a lasciare il mondo si preoccupava delle cose da lasciare da sistemare per tutti e in particolare con il testamento in favore di Luca di cui mi sarei dovuto occupare io ed il sedatore Spadolini poi le cose andarono diversamente si capisce che anche nei giorni del potere della gloria anche quando era lungamente assente per la sua attività politica teneva d'occhio la famiglia non la trascurava per quanto uno si sforzi l'immaginazione non riesce a mettere a fuoco lo stato d'animo di un uomo di un politico di un padre di un marito di un nonno alla vigilia della morte che gli verrà inflitta non come persona ma come simbolo morirà per la gelida stupida follia di un gruppo di rivoluzionari rivelati per quello che era un gruppo cioè di terroristi lui accusato di vigliaccheria morirà per la viltà altrui per la debolezza di uno stato incapace di compiere il suo primario dovere che è quella di proteggere e salvare i propri cittadini morirà per il tragico opportunismo del sistema politico deciso di andare oltre lui senza di lui come se egli non fosse mai esistito ma Paolo VI davanti al potere ancora una volta avvolto nella sua ipocrisia griderà al dio della vita e della morte nella basilica di San Giovanni tu non hai esaudito la nostra supplica per la incomunità di Aldo Moro di questo uomo buono mite saggio innocente ed amico ma tu signore non hai abbandonato il suo spirito immortale fa che il nostro cuore sappia perdonare l'oltraggio ingiusto e mortale inflitto a questo uomo carissimo fa che raccogliamo l'eredità sui pessiti della sua dritta coscienza del suo esempio umano e cordiale della sua dedizione alla redenzione civile e spirituale della dinetta d'azione italiana Paolo VI reintegrava così nella sua dignità ridava vita alla persona dell'onorevole Moro lo restituiva al consorzio del genere umano alle otto della sera pioggia e sole Aldo Moro di Corrado Guerzoni la faccia alle persone regia di Angela Zamparelli a cura di Giancarlo Simoncelli a cura di Giancarlo a cura di Giancarlo a cura di Giancarlo